Le abbiamo già distribuito un po' di materiale, giusto per illustrarlo, in modo tale che poi dopo possiamo commentarli insieme. Sono diversi file, sono due file, sono delle slide dove noi cerchiamo di sottolineare tutti gli argomenti e i punti fermi degli argomenti che trattiamo questa mattina e oggi pomeriggio, che riguardano i principi della gara, che riguardano soprattutto i requisiti, il sistema dei controlli. Noi cerchiamo di soffermarci su quelle che sono le problematiche più scottanti relativamente alla gestione della contrattualistica pubblica. Poi ci sono, e sono abbastanza utili, perciò vi invito a verificarle e analizzarle con attenzione, delle rassegne giurisprudenziali, soprattutto rassegne recenti, che riguardano contenziosi recenti. Uno di questi file riguarda le sentenze più importanti che nel 2021 hanno riguardato la contrattualistica pubblica e questo file è aggiornato al 27 ottobre 2021. Quindi praticamente è aggiornata la sentenza del Consiglio di Stato dell'altro giorno che riguarda la tematica scottante dei gravi illeciti professionali. Quindi abbiamo diverse pronunce, diverse questioni. La tematica, come sapete, è molto ampia, anche sotto gli aspetti tecnici molto articolata. Noi dobbiamo però cercare di raggiungere un obiettivo, per essere utili oggi. Dobbiamo avere un comune denominatore, cioè individuare delle tematiche su cui ci soffermeremo maggiormente. Le analizzeremo sotto il profilo applicativo e giustiziale. Non possiamo commentare tutto il codice, perché non avremo il tempo tecnico e sarebbe anche molto pesante e sotto certi aspetti inutili. Il fatto che voi già conosciate la materia per me è un elemento di grande vantaggio, perché per alcuni aspetti gli istituti li diamo già per acquisiti. Cercheremo però di puntare l'attenzione e focalizzare la nostra analisi su delle tematiche specifiche. In particolare ci soffermeremo su, dopo aver fatto una brevissima premessa su principi generali, ma ci soffermeremo su affidamenti diretti e procedure negoziate sotto soglia. Poi ci soffermeremo sui controlli, perché da una recente ricerca che abbiamo fatto anche con colleghi di altri Atenei, il vero problema delle pubbliche amministrazioni, dove c'è un rallentamento anche improprio, perché poi è un momento di enorme contenzioso, è il sistema dei controlli, cioè la verifica dei requisiti degli operatori economici, perché è troppo semplicistico quello che spesso facciamo e sotto certi aspetti ci espone a contenziosi continui, perché poi basta che l'altro operatore fa dei controlli più incisivi e quindi siccome gli elementi si vengono acquisiti anche abbastanza agevolmente c'è un rischio di impugnazioni poi ingestibili in sede processuali. Poi ci soffermeremo su alcuni temi che sono interessanti anche perché di recenti analisi giurisprudenziali, per esempio i raggruppamenti, la possibilità di sostituire un componente di un raggruppamento, se è possibile la sostituzione esterna o soltanto la modifica in riduzione del raggruppamento. Pensate che sette giorni fa è stata rimessa alla dunanza plenare del Consiglio di Stato, quindi nel nesimo, già ne abbiamo avuto tre sui contratti pubblici, probabilmente ce ne sarà una quarta, come si fa a modificare un raggruppamento durante la gara e quindi con quali modalità deve essere la modifica gestita e definita. Parleremo dell'avvalimento, anche qui un'ulteriore recente sentenza della Corte di Giustizia Europea sull'avvalimento e sulla possibilità durante la gara di sostituire un'ausiliaria che abbia dichiarato il falso. Quindi tutte tematiche sulle quali noi, il paradosso qual è? Che leggendo il codice, se un operatore, il RUP o il direttore dei lavori legge il codice, trovano formalmente una soluzione diversa da quella che va applicata. E qui stiamo proprio al paradosso ordinamentale, dovuto al fatto che noi ci dobbiamo abituare ad una materia, quella della contrattualistica pubblica, che non è una fonte nazionale, esclusiva. Quindi se noi partiamo da quest'ottica capiamo anche perché, nonostante che il codice detti una regola, poi concretamente vada applicata una regola diversa. Perché a livello comunitario è stato sancito che la regola prevista dal nostro codice non è conforme col diritto comunitario. E poi la fine che ha fatto il subappalto, che dopo i limiti inizialmente previsti è stato di volta in volta sempre più ridotto come ambito di applicazione relativamente a limiti quantitativi. Allora però cerchiamo di dare un senso a questa giornata, altrimenti diventano tanti argomenti trattati in modo sporadico, senza una coesione logico e tecnica e quindi poi alla fine diventa anche molto confusionario. Finisco con le premesse, vi chiedo una cortesia, intervenite, fate domande, facciamo in modo che sia un momento e una giornata utile, altrimenti è uno spreco, è uno spreco di risorse, è uno spreco di energie, io già faccio tantissime cose, parlare in modo che non dare un contributo ed essere inutile è la cosa peggiore che possa capitare per un docente, quindi molti di voi li conosco già, ho avuto occasione di incontrarli in altri contesti, quindi fate domande, dicevate non si è capito oppure io la penso così, se c'è uno scambio è una cosa interessantissima, utilissima, se riusciamo addirittura a scambiarci le prassi la cosa diventa ancora più qualificante. Questa è una giornata, il Comune ha fatto, l'amministrazione ha fatto l'investimento, facciamo in modo che questi soldi non siano utilizzati inutilmente, ma questo è necessaria la vostra collaborazione, perché io trattando l'argomento posso presumere di conoscerlo, solo grazie al vostro intervento quella conoscenza può verificarsi se è utile oppure no. Allora, la contrattualistica pubblica, noi dobbiamo sottolineare alcuni principi, perché questi principi sono ormai principi dominanti e hanno determinato proprio a livello applicativo tutta una serie di conseguenze. Abbiamo fatto questa slide che ci descrive, diventa una sorta di perimetro di quello che è oggi il criterio ermeneutico, cioè quando noi gestiamo una gara, abbiamo una procedura di gara, applichiamo le regole della gara, in che modo dobbiamo interpretarla, come dobbiamo comportarci, dobbiamo governare questi principi, perché sono principi sottesi al codice, non è che abbiamo un articolo che dice questo è il principio, alcuni tipo il soccorso istruttore non lo troviamo riportato in alcune norme codicistiche, altri invece sono principi che dobbiamo necessariamente vincerli in modo implicito. Il primo principio è quello della concorsualità, questo principio significa, e in sintesi è anche banale la definizione, perché è un principio che noi non è canonizzato, non è sancito a livello normativo, ma lo abbiamo strutturato a livello dottrinario, il principio della concorsualità è quello in virtù del quale quando la pubblica amministrazione oggi deve contrarre, deve scegliere un partner, deve necessariamente seguire una procedura evidenziale oppure una procedura selettiva, una procedura evidenziale, cioè comparativa di evidenza pubblica, garantendo a tutti i possibili soggetti interessati di poter competere. E voi direte ma questo già esisteva prima, tanto è vero che anche il reggio decreto di contabilità generale dello Stato dal 1924 ha sempre sancito che la trattativa privata è un istituto eccezionale. Tuttavia qual è la novità e la peculiarità che oggi registriamo? Che questo principio della selettività, cioè della scelta selettiva, che prima noi applicavamo soltanto agli appalti, oggi dobbiamo necessariamente applicarlo anche ad altri tipi di contratti che la pubblica amministrazione stipula, cioè le concessioni, le concessioni di servizi e le concessioni di beni. Nella nostra tradizione pubblicistica noi siamo stati sempre abituati a, tanto è vero che anche nell'attestato è stato correttamente precisato, non è questo soltanto una lezione sugli appalti, è un incontro formativo sui contratti pubblici, dove per contratti pubblici oggi dobbiamo necessariamente ricomprendere non solo gli appalti ma anche le concessioni. La concessione come modello che si distingue dall'appalto perché mentre l'appalto è caratterizzato dal rapporto bilaterale, io individuo la ditta che deve pulire i locali o farci l'assistenza informatica o fornirci il materiale di cancelleria, quindi nella concessione abbiamo un rapporto trilaterale, c'è un concessionario che si rivolge all'utenza e grazie alla gestione della concessione riesce ad avere il ritorno dell'investimento che ha fatto. La concessione è caratterizzata da un rischio di imprese in capo al concessionario, ma soprattutto la cosa importante è che la concessione deve seguire una procedura competitiva la cui modalità dipende dal valore della concessione, queste sono regole ormai consolidate. Il valore della concessione fa sì che nel momento in cui dobbiamo stimare la concessione, dobbiamo individuare il potenziale fatturato, non l'utile, il fatturato che dalla concessione può derivare, questo determina l'importo del valore della concessione e poi da questo deriva la procedura da porre in essere, per cui se il valore della concessione supera 5 milioni di euro come fatturato dobbiamo fare una procedura comparativa ad evidenza pubblica di una gara europea. Quindi il codice dei contratti del 2016 fa un passo in avanti rispetto al codice precedente, cioè mentre la legislazione precedente è la legislazione sugli appalti, noi oggi abbiamo un codice dei contratti dove dopo i principi generali c'è una parte che riguarda i contratti di appalto, un'altra parte che riguarda le concessioni, le concessioni di servizi. Ma poi l'approdo giurisprudenziale più recente è che i principi dell'evidenza pubblica riguardano anche le concessioni di beni, cioè l'individuazione del soggetto concessionario di un stabilimento balneare, la concessione di bene relativamente a una struttura pubblica che noi diamo in godimento a un terzo, che può prescindere anche dal fatto che lui svolga un servizio per conto della pubblica amministrazione, quindi come gestione di servizi. Una concessione di un bene non può essere in concessione individuato fiduciariamente, deve seguire i principi della contrattualistica pubblica come previsto nell'articolo 4 del codice dei contratti, che è un articolo di un'importanza assoluta perché come ambito applicativo per la prima volta dice queste regole si applicano non solo ai contratti passivi ma anche ai contratti attivi, cosa che fino a qualche anno fa era esclusa, cioè i contratti attivi, i contratti dai quali derivi un vantaggio per l'ente, un introito cioè il concessionario che paga un corrispettivo, mentre in passato noi ci preoccupavamo soltanto della spesa, cioè i contratti passivi, quando diamo soldi dobbiamo fare in modo che ci sia una competizione equa per evitare di avvantaggiare qualcuno, oggi si dice anche quando c'è un vantaggio per l'ente, anche in quel caso, cioè diamo in godimento un bene, non possiamo farlo attraverso un criterio di fiduciarietà. Primo principio concorso l'età, secondo principio è che poi lo possiamo collegare al terzo. Perché è importante chiarire questo dato? Perché una delle problematiche diffuse oggi qual è? In un contesto normativo dove le modifiche sono continue, sono incessanti, perché abbiamo quasi ogni anno un decreto che riguarda i contratti pubblici. Parzialmente o in modo più radicale, da quando il codice è stato emanato, praticamente ogni anno c'è stata una riforma. Nel 2017 il decreto correttivo, nel 2018 la normativa relativa al grave illecito professionale, nel 2019 lo sblocca cantieri, nel 2020 semplificazione 1, nel 2021, nel 108 di luglio 2021 il decreto semplificazione bis e probabilmente ci saranno altre norme. E allora questo pone all'operatore un primo grosso quesito. Che succede se durante una gara cambia la legge? Perché questo è una cosa che affanna gli operatori, perché inevitabilmente le ditte hanno sempre interpretazioni a loro favore. Ma come tu hai avviato una gara che prevedeva per esempio un criterio di attribuzione del punteggio distribuito tra offerta tecnica e offerta economica che era 30 e 70, la legge oggi dice 60 e 40 o 50 e 50, pensate durante lo sblocca cantieri quando è cambiato il criterio tra il decreto legge e la legge, è cambiato due volte, quindi devi chiudere la gara oggi, devi applicare la legge oggi vigente. E vedete, questa sembra una tesi abbastanza lineare, perché il principio tempus legi tactum fa sì che io debba come funzionario o come dirigente di autorità decidente applicare la legge vigente al momento della decisione. Se io sto istruendo una pratica per un permesso di costruire, per un PDC, e durante l'iter istruttore cambia la norma, io non posso applicare la legge vigente al momento della domanda, devo applicare la legge vigente al momento della decisione. Per cui anche se al lato della domanda era accoglibile, oggi non lo è, io devo rigettare la stanza. Se poi questo rigetto, questa sopravvenienza ha inciso negativamente anche a causa di un mio ritardo, perché casomai ho istruito la pratica ben oltre i termini, allora in questo caso c'è il danno da ritardo. Ma io non posso dare un titolo in vigenza di una legge che me lo vieta, perché il principio tempus legi tactum fa sì che si deve applicare la legge al momento della decisione. E nelle gare d'appalto vale lo stesso principio? Applicando lo stesso principio noi arriveremo alla conseguenza che se abbiamo bandito una gara a aprile o a maggio 2021, l'abbiamo celebrata in questo arco temporale e stiamo per fare il provvedimento di aggiudicazione, se oggi o prima della giudica interviene una legge che dice una regola diversa, per esempio la verifica dell'anomalia va fatta su tutti i concorrenti, anche in caso di offerte economicamente più vantaggiosi e anche in caso di una sola offerta, noi dovremmo fare la verifica dell'anomalia. Oppure se non l'abbiamo fatta e abbiamo aggiudicato dovremmo rinnovare la gara. E allora la domanda è quale legge si applica nelle procedure evidenziali laddove la norma dovesse cambiare? Chiara la domanda? Si applica la legge vigente nel momento in cui la procedura ha avuto inizio. C'è un effetto di cristallizzazione della norma, si dice. Per evitare che poi la competizione venga alterata noi applichiamo la legge che abbiamo indicato, richiamato, nel momento in cui la procedura è stata avviata. E qual è il momento in cui la procedura è stata avviata? Se la procedura è aperta, perché non è nemmeno la procedura più comune, la maggior parte degli appalti pubblici sono procedure negoziate o affidamenti diretti. E quindi diciamo che la procedura, il bando, è vero che sotto il profilo quantitativo fa riferimento agli appalti più rilevanti, ma a livello quantitativo sono il 30% della contrattualistica pubblica. Quindi quando pubblichiamo il bando sulla gazzetta ufficiale, cioè la modalità di pubblicazione a cui il codice attribuisce gli effetti legali, ma nelle procedure negoziate qual è? Il momento in cui la procedura ha inizio. O la determina o l'invio della lettera. Sono due momenti diversi, basta sbagliare il di essa qua e cambia completamente tutto. La spedizione della lettera d'invito. E il problema qual è? Quando si può porre? Quando noi abbiamo fatto già una manifestazione di interesse. Cioè c'è stata la determina a contrarre, manifestazione di interesse, spedizione della lettera d'invito. Se la legge cambia tra la manifestazione di interesse e la spedizione della lettera d'invito, se nella manifestazione abbiamo già preannunciato le regole, dobbiamo cambiare quelle regole. Ma la cosa importante è non cambiare o non tener conto del diritto sopravvenuto dopo la spedizione della lettera d'invito. Quello è il momento in cui si cristallizza la norma, si congela l'assetto ordinamentale. Perché quello è il momento della competizione. Tant'è vero che dopo, tra le sentenze, tra le altre cose, analizzeremo una sentenza del Tarnapoli che ha riguardato l'ipotesi in cui una ditta non era in regola con i contributi durante la manifestazione di interesse, ha partecipato la procedura negoziata dopo l'atto dell'aggiuntica in regola col DURC. Il secondo ha contestato dicendo che la dovevi proprio escludere perché durante la manifestazione di interesse non aveva la regolarità contributiva. Dice il Tarnapoli e sottolinea che la manifestazione di interesse non è una gara. La manifestazione di interesse è una mera indagine di mercato, è una fase conoscitiva, è una fase protromica di una gara. La gara, la procedura negoziata anche senza bando, inizia con la spedizione della lettera d'invito. Spedite la lettera d'invito ordinamente si concede. Per cui sopravvenienze normative possono determinare la revoca, un ripensamento, ma non possono mai comportare l'applicazione del diritto sopravvenuto. Perché applicando il diritto sopravvenuto si sconvolgerebbero l'assetto degli interessi. C'è una ditta che ha formulato l'offerta, confidando per esempio nel fatto che l'offerta tecnica ha un peso maggiore, il 90% o il 100% come punteggio, poi si trova di fronte a una legge che dice non si può dare il 100% l'offerta tecnica come oggi sancisce l'articolo 95 e in quel caso noi potremmo di fatto, dovremmo di fatto ridistribuire i punteggi e quindi condizionare una ditta che ha formulato un'offerta tenendo conto invece di un altro criterio. E allora per tutelare la par condizione delle concorrenti, quel principio dell'inderogabilità delle ex speciali, una volta dettate le regole, sono vincolanti per l'operatore e per l'amministrazione. Quindi non è possibile disapplicarle durante la loro attuazione, tranne l'ipotesi in cui dovessimo aver previsto un criterio di ammissione nullo, oppure dovessimo aver scritto regole tipo non è possibile l'avvalimento, oppure non si applica l'articolo 80, quelli sono fenomeni di eterointegrazione, cioè sono norme talmente importanti per le quali il codice non ammette ed eroche. Quindi se noi scriviamo un bando in contrasto si applica direttamente il codice. Ma sono fenomeni rari. Prego, prego. Ma una sopravvenuta la regola della norma, può significare la regola del pubblico interesse? Vabbè, però deve essere ancorato, il problema è che poi il pubblico interesse non va dichiarato, va approvato. Allora se la norma sopravvenuta dovesse dire che per quegli affidamenti invece di fare una gara aperta uno può fare una procedura semplificata. Mettiamo l'ipotesi in cui abbia avviato una gara aperta e abbia avuto un numero elevato di concorrenti. Però se c'è già l'aggiudicatario, è imbarazzante revocarlo con l'aggiudicatario già individuato. Però se stiamo all'inizio della procedura dobbiamo ancora scaricare la busta e quindi di fatto verificare la documentazione amministrativa o comunque non abbiamo ancora visto le offerte. Quindi ci sono 80 competitori, 90, che sono tutti quanti potenziali vincitori. Così sterilizziamo anche l'interesse a ricordare. Cioè uno di quelli dovrebbe impugnare la revoca e come fa a dire che vince. Se non abbiamo nemmeno aperto le offerte potrebbe impugnare eventualmente la revoca ma poi alla fine qual è il ristoro? Il ristoro non c'è un ristoro concreto perché per avere un ristoro effettivo deve dimostrare di vincere o di avere chance di aggiudicazione. Tenete conto che quella chance sarebbe comunque riducibile di 80 volte, quindi anche il ricorso al giudice sarebbe un ricorso improponibile. Però, ripeto, non può essere una dichiarazione di pubblico interesse dichiarata in modo apotitico. L'interesse pubblico è di fare la gara da capo. Non avrebbe senso. Qui va comprovato. In questo caso è facile comprovare il numero elevato di ditte. Comporterebbe una gara che potrebbe avere una celebrazione molto lunga nel tempo. Siccome è un finanziamento riguardo a un'opera strategica, che poi tutti quanti sono così, quindi questo è facile proprio dirlo, stiamo in ritardo, che stiamo sempre in ritardo, quindi è proprio troppo facile provarla. Ovviamente però dipende allo stadio in cui la gara è, perché se stiamo già con una proposta di aggiudicazione o una aggiudicazione definitiva diventa più imbarazzante. Se abbiamo già stipulato il contratto, ricordiamoci questa cosa, perché questo è un altro errore comune, la revoca si può fare fin dando che c'è il segmento pubblicistico. Dopo il contratto si passa nella fase privatistica, la revoca non esiste. Esiste il recesso dal contratto, ma il recesso comporta il pagamento di un indennizzo pari al 10% dei quattro quindi della prestazione che deve essere eseguito. Quindi se il contratto all'inizio, il recesso, l'indennizzo è significativo, se stiamo in fase di conclusione il recesso si riduce, l'indennizzo. Quindi noi potremmo anche recedere pagando l'indennizzo, però dobbiamo fare poi una valutazione di comparazione. Dici paghiamo l'indennizzo e mi costa 20 mila euro, con la nuova gara andrei a risparmiare perché sul MEPA trovo prodotti che costano di meno, però devo fare una comparazione di valori, altrimenti c'è il rischio del danno patrimoniale. Quindi il rilevanza del diritto sopravvenuto, principio del favor partecipationis, questo è un principio dominante alle gare d'appalto, voi l'avrete sentito nominare e citare tantissime volte, cioè nel dubbio, qualora la clausola sia pro reo, è tanto è vero che la utilizziamo in sede penalistica, però qui il principio è che nel dubbio si deve interpretare la clausola degli atti di gare in senso più ampio, più favorevole alla partecipazione. E il dubbio da che cosa può derivare? Da formulazioni cripliche del bando, spesso il linguaggio che utilizziamo non è assolutamente chiaro, cioè l'offerta oggi con le gare telematiche è tutto un po' più, è tutto meno rischioso, ma prima con le gare cartacee noi scrivevamo il plico deve essere presentato, presentato non significa niente giuridicamente, può significare spedito o protocollato, nel dubbio accettiamo tutte e due, ma anche della formulazione dei requisiti, spesso, a me capita proprio l'altro giorno a Matera, nel leggere gli atti di gare, anche in appalto molto significativo che riguardava i rifiuti, tra capitolato e il bando c'era una diversità sui requisiti, perché uno faceva riferimento a requisiti nell'ultimo triennio e basta, un altro parlava di un requisito del triennio individuando anche il fatturato annuo, è che è tutto un altro criterio, questo deriva dal fatto, diciamoci la verità, che quando scriviamo gli atti di gara non sono sempre frutto della nostra mente, qualcosa la prendiamo da una parte, qualcosa la prendiamo dalla gara precedente, casomai quando facciamo la lettura non ci immergiamo, perché poi siamo presi da tante cose e non facciamo mai un momento di sintesi. Questi errori però si potrebbero evitare se noi dessimo agli atti la loro rilevanza naturale, le regole della gara si scrivono nel bando e nel disciplinare le lettere d'invito, il capitolato non può parlare della gara, evitiamo lo sterore, nel capitolato non mettiamo i requisiti di partecipazione, non mettiamo i criteri di valutazione delle offerte, il capitolato è il contratto in forma embrionale, l'attività negoziale si distingue in due segmenti, segmento pubblicistico e segmento privatistico, il segmento pubblicistico determina contrarre e determina di aggiudicazione, è la selezione del contraente, la fase privatistica è l'esecuzione della prestazione, uno è retto dal disciplinare, l'ex speciali, so, bando, lettere d'invito, l'altro è retto dal capitolato, ma nel capitolato si parla già dell'esecuzione o no? La ditta giudicataria, il contraente, quindi mentalmente occupiamoci soltanto del momento in cui la prestazione ha inizio fino a quando non viene collaudata o c'è il certificato di regolare esecuzione, nel capitolato quindi parliamo dell'esecuzione, i tempi di realizzazione, il rinvio al cronoprogramma, il richiamo dell'offerta tecnica, i tempi del pagamento, le penali, le eventuali ipotesi di risoluzione, le ipotesi di revoca, le modalità di pagamento, che poi a sua volta il capitolato è la parte sostanziala del contratto, ma quindi parliamo di una fase privatistica, allora che senso ha mettere nel capitolato requisiti di partecipazione, è una cosa fuori busta, ma questa cosa crea problemi perché poi se non è allineata con la modulistica o col disciplinare crea confusione nella partecipazione, questi errori si potrebbero svilire se soltanto noi facessimo questa pulizia formale degli atti di caso, così come nel disciplinare che senso ha parlare delle penali? Ma voi nel disciplinare state dettando le regole di partecipazione, o lo volete già intimorire, dire guarda tu vuoi partecipare, però stai attento perché il mio pensiero prevedente sono le penali, quindi a prescindere da che farai ti applicheranno la pena, ma il disciplinare è il segmento pubblicistico, parla di stazione appaltante e concorrente, questa è la terminologia, o potenziale aggiudicatario, dopodiché nel capitolato c'è il contraente, ma cambiano anche la natura degli atti, perché non è solo una questione nominalistica, durante la gara noi siamo stazione appaltante, amministrazione procedente, adottiamo atti e provvedimenti amministrativi, vanno motivati e sono giustiziabili dinanzi al TAR, durante l'esecuzione adottiamo atti pari tedici, la ditta in quel caso ha un diritto soggettivo, c'è una posizione piena, non è che possiamo dire siamo pubblica amministrazione e fai quello che vuoi, le stesse modifiche, l'articolo 106 del contratto che ci dice? Che le modifiche o le varianti sono possibili, modifiche oggettive e soggettive, laddove l'abbiamo previsto con una clausola chiara nel bando o negli atti di gara, pensate alla revisione prezzi, che prima si applicava, si diceva automaticamente a tutti gli appalti di servizi di durata, dopo il primo anno c'è la revisione prezzi, oggi si dice che deve essere prevista espressamente negli atti di gara, la modifica per sopravvenienza, gli affidamenti di servizi analoghi o di prestazioni analoghe deve essere prevista negli atti di gara, solo la modifica eventualmente per sopravvenienza normativa o regolamentare può essere fatta senza una previsione, pensate per esempio che stiamo facendo un lavoro durante la costruzione di questo fabbricato, cambia le norme sismiche, si dice che la sicurezza deve essere garantita con parametri sismici diversi, in quel caso la variante è dovuta a una sopravvenienza, oppure la modifica soggettiva del contraente, la ditta per esempio fa un fitto d'azienda o fallisce, oppure eventualmente la ditta ha una trasformazione societaria, una fusione in incorporazione, durante l'esecuzione noi verifichiamo se i requisiti li aveva l'uscente il subentrante e autorizziamo la modifica soggettiva del contratto. L'unico vero diritto potestativo che ha la pubblica amministrazione è il quinto d'obbligo, cioè la diminuzione o l'aumento del contratto, entro il quinto, rispetto al quale non deve avere il consenso della ditta, noi abbiamo un diritto potestativo ed è talmente importante questo potere che dice la distruttenza non va nemmeno stimato nell'importo a base di gara, diversamente dalla proroga e dal rinnovo, perché se noi potenziamo negli atti di gara la proroga o il rinnovo, queste opzioni, ci dice l'articolo 35, vanno stimate ai fini dell'importo a base di gara, per cui se l'appalto è tre anni prorogabili per sei, l'importo va stimato su tre anni e mezzo, se poi due anni rinnovabile per altri due va stimato sui quattro, qual è la differenza però tra proroga e rinnovo? è una domanda, è giusto che il tempo che avrà? che differenza fate tra proroga e rinnovo? è la stessa cosa? la proroga interviene prima della differenza dell'altro, rinnovo? no, questo è una distinzione temporale che secondo me non si dovrebbe nemmeno fare, perché poi c'è una soluzione di continuità, io con rinnovo... è qualcosa che cambia però con la proroga, che cambia? cambia solo il tempo, la proroga incide esclusivamente, scusate non è per dare giudizio e cose, mi viene spontaneo comunque non ho detto una cosa negativa, è un complimento, la proroga incide soltanto sul DS adquem, sul termine, il rinnovo consente anche una rinegoziazione, ancor più se ha condizioni più favorevoli per l'amministrazione, cioè io prima del rinnovo mi riservo la facoltà di verificare le condizioni di rinegoziare e se vedo che non sono conveniente non rinnovo mi seguite, quindi è sostanziale la modifica, però se io prevedo l'opzione del rinnovo il valore del contratto è su 4 anni se è 2 più 2, non è su 2 anni, altrimenti sarebbe troppo facile raggirare la norma, vi parlo? Quindi, principio del favore, tassatività delle ipotesi di esclusione, questo ormai è un principio che esiste da anni, collegare telematiche si è ridotto enormemente alla portata di quello che prima era il criterio letterale di adempimenti formali, il prigo deve essere sigillato con ceralacchi, il prigo deve essere siglato su ogni pagina, oggi abbiamo, avendo dei file immodificabili e per più avendo operazioni tracciabili, se l'offerta tecnica non è firmata su ogni pagina, il problema non c'è, è firmato il file, prima c'erano i problemi contenziosi che abbiamo fatto, io ricordo quando ho conosciuto questa materia, non era una gara la migliore offerente, era la caccia all'errore, noi quando analizzavamo gli atti di gara vediamo il concorrente che ci precede, dove ha sbagliato, c'è l'offerta tecnica 150 pagine, manca una firma su una pagina e il giudice che diceva manca la firma su una pagina, soprattutto se erano offerte non collegate in un unico file, un unico documento, ma tanti fogli spillati, è possibile che qualcuno l'abbia sostituito, avendolo sostituito si può dare una manomissione di atti di gara, per cui è motivo di esclusione e la gara era questa, la ceralacca, quante firme, oggi addirittura nelle gare telematiche abbiamo anche il vantaggio che non si applica uno dei principi fondamentali delle gare, l'evidenza pubblica, cioè le procedure di gara si chiamano procedure di evidenza pubblica, noi ne abbiamo conosciute così o no? E che cosa significa di evidenza pubblica? Significa che tutte le operazioni, tranne la valutazione dell'offerta tecnica e la verifica dell'anomalia, perché è un segmento postumo, tutto si fa all'inseduta pubblica. E però la Gisprudenza più volte ha detto e attestato, continua a dirlo oggi, ma per le gare telematiche non c'è lo stesso principio, perché essendo una gara tracciabile, con attività e documenti immodificabili, se l'apertura delle buste viene fatta inseduta non pubblica, cioè senza garantire la partecipazione anche da remoto degli interessati, certo se non la garantiamo ci sottraiamo a una contestazione, però se non dovessimo fare non è motivo di impugnazione. Pensate invece prima, quando facciamo i primi corsi, Francesco se lo ricordo, bastava che tu aprivi una busta inseduta segreta, avevi inevitabilmente condizionata la gara. Era un vizio, si diceva, insanabile, era una cosa drammatica, tu avevi chiuso la gara, dopo sei mesi di fatica, tutto da capo perché aveva aperto la busta inseduta riservata. Invece oggi si dice, anche con le gare telematiche, gli elementi formali, i vizi formali sfiliscono, rilevano soltanto i vizi sostanziali. Allora quali sono i motivi di esclusione? Non più l'utilizzo di una modulistica diversa, il digio è diverso da quello, non sono più motivi di esclusione, i motivi di esclusione sono, a, l'offerta pervenuta in ritardo, ma è possibile, ma pure se è un solo concorrente, va escluso? Sì, dice la giustizia, perché il concorrente potrebbe avere la soffiata, no, dice, ma sono da solo o sto con qualcuno? No, sei da solo, allora presenta il plico o caricalo il file dove prevede un ribasso minore. Questo non è proprio possibile considerando l'interesse pubblico che deve essere tutelato. Quindi il plico che viene caricato arrivi in ritardo, vabbè, la tardività della presentazione dell'offerta, non come si dichiarano i requisiti, ma la carenza dei requisiti è motivo di esclusione. Per cui a prescindere dal dato formale, se il requisito non ce l'ha e lo acquisisce durante la gara, ovvero lo perde durante la gara, è motivo di esclusione. Ci sono poi requisiti che non si possono perdere nemmeno dopo, durante l'esecuzione. L'articolo 108 ci dice che se intervengono sentenze definitive di condanna o l'interdittiva antimafia, sono motivi doverosi di risoluzione. Recentemente abbiamo trattato innanzi al Tarnapoli un'ipotesi in cui, in virtù di un interdittivo di antimafia che ha corpito anche una grossa azienda che si occupa dei rifiuti, tutti i comuni hanno deciso di recedere. Chi di annullare la giudica perché stavano ancora in gara e chi di recedere dal contratto. La ditta ha impugnato il recesso dicendo che non si poteva fare, doveva valutare, dice che il Tarnapoli è un provvedimento conseguenziale necessitato. Per cui se rimane l'interdittiva l'amministrazione non ha facoltà. Se uno perde quel requisito durante l'esecuzione, il rapporto si risolve. Se invece durante l'esecuzione si perde la regolità contributiva, la regolità fiscale non è motivo di risoluzione perché l'amministrazione durante, in quel caso, applica un potere sostitutivo. Quindi l'altro motivo di esclusione è una mancanza dei requisiti. Motivo di esclusione è la mancata sottoscrizione, soprattutto delle offerte, perché le offerte, se non sono sottoscritte, è una carenza insanabile, non si applica nemmeno il soccorso istruttorio. Ancora recentemente, sentenza del 21 ottobre 2021, il Tarlazio si è occupato di questo tema. In caso di raggruppamento temporaneo, se manca la firma di uno o di una mandante, è motivo di esclusione oppure no? Perché è motivo di esclusione? Però noi tre abbiamo partecipato insieme, abbiamo detto, lui è il mandatario, noi siamo le mandanti. Agli atti di gara c'è una dichiarazione di raggruppamento. Questo non fa in modo che se lui firmi l'offerta vale per tutte e tre. Sicuramente. Ma non parliamo però, seguitemi, non parliamo di un'offerta non firmata proprio, parliamo di un'offerta di cui manca la firma di un solo mandante. C'è il mandatario e due mandanti, manca la mia firma. I casi possono essere plurimi o no? A me interessa però il principio. Una volta che abbiamo consolidato il principio possiamo andare avanti. Che succede? Perché in quel caso l'offerta, lui ha dato la risposta esatta, manca la motivazione però. Perché nel momento in cui lei ci esclude, noi diciamo ma come c'è la firma del mandatario sotto l'offerta. Perché ci escludi? E nella tassatità delle posse esclusioni ci vuole la firma. La firma c'è. C'è il mandatario e c'è pure un mandante. Manca un altro mandante. Ed è motivo di esclusione. Perché? Perché sul raggruppamento lei è così rigoroso? Eh no, però mi devi dire la motivazione relativa al fatto. Lei ce l'ha con i raggruppamenti. E fa bene, ma perché? No, ma perché quello che lei dice è corretto e però vale per i raggruppamenti. Se fosse unati già costituiti varrebbe la stessa regola. No. Lei però lei sottolinea correttamente che per i raggruppamenti c'è sempre quest'obbligo di la firma di tutti. Perché? Perché giuridicamente il raggruppamento non è un'entità a sé stante. Il raggruppamento si dice che è un operatore economico plurisoggettivo. Il raggruppamento fin dando che non si costituisce unati e non diventa già oppure una consortile, cioè dopo la giudicazione, rimangono giuridicamente distinti i partecipanti. I raggruppanti sono ancora soggetti distinti. Per cui la mancanza di firma di uno di essi comporta che l'offerta non è firmata e va esclusa. Tu però hai visto quel caso, mi ricordo, ti ricordo che ne parlavamo? Cioè l'ipotesi in cui le offerte erano, i documenti costituenti, l'offerta, erano stati tutti zippati e inseriti in una cartella dove la cartella a sua volta però era firmata da tutti. Cioè il contenitore era firmato da tutti, il contenuto firmato solo da alcuni. In quel caso, in verità, però c'è stato un parere dell'autorità di vigilanza che diceva che l'importante è che però il contenitore sia firmato da tutti i raggruppanti. Però a noi quello che interessa è dire che è importante la firma di tutti ed è una carenza insanabile perché il raggruppamento è un insieme di soggetti che giuridicamente continuano ad essere soggetti distinti seppur partecipano in una forma associativa a quella gara. Solo nel momento in cui dovessero costruire lati, allora in quel caso interloquisce soltanto il mandatario capogruppo. E poi c'è il soccorso istruttorio, cioè la necessità di assegnare all'operatore economico un termine per poter sanare eventuali carenze o irregolarità. Il soccorso istruttorio non si può applicare per carenze delle offerte, né offerte tecniche né offerte economiche. E il tema che è stato proprio con i raggruppamenti trattato all'adunanza plenaria del 2021 era il tema relativo all'applicabilità del soccorso istruttorio in ipotesi in cui venissero meno i requisiti di uno dei raggruppanti. Cioè il tema delle due adunanze plenarie, 9 e 10 del 2021, poi le teniamo nella sedia di aprile e maggio 2021, era se durante la celebrazione di una gara uno dei componenti di raggruppamento dovesse perdere il requisito, o perché subisce l'interdittiva antimafia, o perché non è più in regola con le tasse, perché noi andiamo a fare i controlli, le dobbiamo fare su tutti, però perché sono soggetti distinti, su tutti i raggruppanti. Andiamo a verificare se uno dei raggruppanti non ha la regolità contributiva, oppure ha subito una sentenza penale di condanno o ha dichiarato il falso. In questo caso la sanzione si estende anche agli altri? A livello comunitario c'è un principio di limitazione della responsabilità oggettiva, cioè non possiamo attribuire ad altri responsabilità non commesse da quei soggetti. Quindi se nell'esame degli atti di gara c'è un problema che riguarda uno degli associanti, non possiamo sanzionare per l'effetto di default anche l'altro. Però il problema è come si concilia questo con i raggruppamenti? Perché il raggruppamento viene costituito perché? O perché le ditte vogliono ripartirsi il lavoro e quindi è una scelta loro organizzativa. Possono essere due colossi che si mettono insieme, che hanno i requisiti per fare il lavoro da solo, ma si mettono insieme solo per le esigenze organizzative o per patti parasociali, queste sono valutazioni che noi non possiamo poi di volta in volta andare a esaminare. Oppure i raggruppanti si mettono insieme perché non hanno i requisiti e quindi questi requisiti di capacità, mettendoli insieme, vanno a soddisfare quella che è la richiesta dell'ex specialis. Il problema può essere l'uno e l'altro, il motivo. Dice la dunanza plenaria, se la carenza di requisiti dovesse riguardare uno dei raggruppanti e quindi uno degli operatori economici che ha costituito quel raggruppamento. L'unica possibilità di modifiche non è la sostituzione esterna, perché che cosa era ipotizzato? Qual è la questione controversa? Uno dei raggruppanti veniva meno e gli altri indicavano un altro associando. Al posto di Minardi ci sarà Armenante. Si può fare questo durante la gara? La dunanza plenaria è restrittiva e dice non è assolutamente possibile. L'unica modifica che possono fare operare gli operatori raggruppanti è la modifica per sottrazione. Cioè nel momento in cui l'interdittiva colpisce Maiorino, colpisce Minardi, lo mettiamo da parte perché gli altri devono soddisfare da soli le quote. Però poi si pone un problema operativo. E tanto è vero che è stato oggetto di richieste di nuova adunanza plenaria, che non c'è ancora. Come si procedimentalizza questo? Che fa il RUP in questo caso? Nel momento in cui viene comunicato, viene a sapere che Minardi ha avuto l'interdittiva. Che deve fare il RUP? Questo è il problema. Manca perché nell'ordinamento non c'è nulla. Il Consiglio di Stato ha detto alla dunanza plenaria, dettemi le regole. Cosa curiosissima, perché un magistrato chiede al giudice di dettare le regole. Una cosa che se uno diceva l'esame di diritto costituzionale con Venucci, tre anni fa. Scusa, faceva sette, otto volte che le sa. Le regole si chiede alla dunanza plenaria di dire come si procedimentalizza questa modifica del raggruppamento. Nella dunanza plenaria si già adombra la soluzione. Cioè, seppure un obiter dictum, cioè una cosa non centrale della controvedere, della statuizione, ma un passaggio indiretto. Si assegna un termine al raggruppamento, si assegna un termine congruo. Di solito la congruità in questi casi viene sancita in 15 giorni. Si assegna il termine, si chiede ai raggruppamenti di distribuire le quote di partecipazione, comprovando però di avere i requisiti per farlo. In mancanza, se non riesco a fare il raggruppamento, viene escluso integralmente. Seconda dunanza plenaria, perché sono due contestuali, il problema è identico se riguarda il mandato e il mandatario, oppure cambia. La dunanza plenaria dice o riguarda il mandato o riguarda il mandatario, il problema non cambia. L'unica soluzione nei raggruppamenti è la sostituzione per sottrazione, non per sostituzione con l'esterno. E nel codice antimafia, altro tema, come si applica questo principio nel codice antimafia? La dunanza plenaria evidenzia che nel codice antimafia 159 del 2011 la regola è ancora più restrittiva, perché se l'interdittiva colpisce la mandante è possibile questa rimodulazione in sostrazione. Se colpisce la mandataria va esclusi di raggruppamento. Vi sono chiare queste, le conoscevate già, quindi sono contento, però non vi ho confuso le idee, perché il mio obiettivo non è quello di insegnarvi, è quello di chiacchierare con voi su queste tematiche. Però, altra precisazione, le stesse ad un'anzia plenaria premettono, ma c'è differenza tra raggruppamento orizzontale, verticale e misto? Perché molto spesso noi troviamo negli atti di gara che le ditte dichiarano raggruppamento orizzontale, verticale o misto, oppure quello non l'ha dichiarato, dice guarda ma lo devi dichiarare. Che vi devo dichiarare? Come lo volete? Ma cambia. Cioè la differenza non è nominalistica, quella non è sostanziale. E qual è il profilo di diversità? Perché per noi amministrazione, per il RUP è importante sapere se quello è un raggruppamento orizzontale, verticale o misto? Diciamo che misto è di fatto comunque come se fosse verticale anche, quindi tra orizzontale e verticale. Perché è importante saperlo per noi? Ma solo per questo. Però vedete, se la responsabilità è di tutti, se io so che quella parte la fa il vice sindaco oppure la fa un tecnico, l'importante è che poi alla fine la fa, perché nel momento di cui vanno a costruire la SCARL, o comunque la società consortile, o la fa uno o la fa un'altra, l'importante è la responsabilità di tutti. O no? C'è diversità. Perché dice la giustizia, state attenti al raggruppamento, se è orizzontale o perché è così preoccupante la cosa? Perché il giudice si preoccupa di questa cosa? Che cambia? Non tanto di chi esegue, ma di chi è responsabile. Che cosa cambia? Nel raggruppamento orizzontale tutti gli operatori economici eseguono parte della prestazione, poi c'è la mandataria che deve fare più delle mandanti, o no? Sapete che la mandataria ha almeno il 40%, le mandatari ha almeno il 10%, comunque deve essere prevalente la mandataria. Ma alla fine, nei raggruppamenti di tipo orizzontale, l'elemento che interessa l'ente, cioè la responsabilità degli operatori, è un elemento rafforzato per lente, perché la responsabilità è di tutti. Per cui, alla fine, quello che lei diceva è in parte recessivo, cioè non è che è importante, dice vabbè, ma vedi che la pavimentazione della strada l'ha fatta lei, il marciapiede l'ha completato lui, lui ha fatto la sottofondazione, ma chi me ne frega? Era un gruppamento di tipo orizzontale, c'è un errore, anzi lui che ha fatto la sottofondazione? Ma la strada che non va bene, lui è più solito, io vado a credere lui. Cioè come stazione appaltante, non me la vado a prendere con l'impresa casomai periferica, locale, che ha un capitale di 10.000 euro, ma se trovo che c'è un concorrente che ha prestato i requisiti più solido e ha meno procedimenti a carico, io vado da qui, non a fare esecuzione, un'esecuzione coattiva, un'azione di responsabilità, vado a minacciare lui, per lui è un problema, no? Perché casomai il piccolo imprenditore ci ha provato pure, poi non ci è riuscito a rimettere a parte, ma se noi andiamo a fare una risoluzione in danno con l'imprenditore che è solito sul mercato, lo viene segnalato all'ANAC, quello l'abbiamo distrutto per almeno tre anni, mi seguite? Quindi di fatto però questo lo possiamo fare se l'aggruppamento di tipo orizzontale, perché la responsabilità è solo i dati di tutti. Nell'aggruppamento di tipo verticale, dove c'è una prestazione principale e prestazioni accessorie, la responsabilità del mandatario è una responsabilità per tutto, ma le mandanti rispondono soltanto per quello che loro hanno fatto. Per cui se c'è lui che è mandatario e loro tre mandanti, lui fa l'impianto elettrico, lui fa l'elettrica, fotovoltaico, lui invece ha messo gli infissi oppure la parte idrica. Se l'errore è stare nell'impianto elettrico, io non posso citare lui. Tanto è vero che noi abbiamo problemi nelle fasi di esecuzioni, perché casomai lui dice, ma vedi che questo è un raggruppamento di tipo verticale, io sono una mandante, con me te la puoi prendere per la parte di prestazione che ho fatto io, non puoi citarmi giudizio per un'inadempienza attribuibile ad altri. C'è un errore proprio processuale in quel caso, però nel raggruppamento di tipo verticale c'è la responsabilità solidale della mandataria. Le mandanti rispondono soltanto per la quota di esecuzione che loro realizzano. Però dice il giudice amministrativo, ma a questo punto la scelta la dobbiamo rimettere agli operatori? No, la scelta dipende dagli atti di gara. Se negli atti di gara abbiamo distinto, chiaramente, prestazione principale ed accessori, è ammissibile quella verticale. Se non vi è distinzione nella definizione dei lavori, degli interventi, non c'è differenza tra prestazione principale e accessori, l'unico atti ammissibile è quello di tipo orizzontale. E questo è tutto quello che l'adunanza plenare al trattato, sono fermo restando che rimane, manca un pezzo adesso. La nuova adunanza plenare dovrà dire come si procedimentalizza la sostituzione per riduzione o la ridefinizione di raggruppamento per sottrazione. Queste sono le fasi della procedura di gara. Io ho messo la slide solo per ricordarvi che c'è la fase pubblicistica e privatistica, solo una cortesia. Non utilizziamo più, sicuramente non lo fate, l'espressione aggiudica provvisoria, perché questa è una cosa che negli atti di gara continua a dare problemi. Era il vecchio codice, così parlavo, ma il nuovo non lo fa più. Ma è una scelta non soltanto nominalistica, è una scelta proprio prudenziale, perché prima noi avevamo contenziosi, perché dopo la giudica provvisoria, la ditta diceva passata 30 giorni si intende definitiva. E ci metteva in difficoltà. Quante volte noi ci dicevamo, ma questo fa che si è consolidato, fa che ci può chiedere di risarcimento, ci può chiedere di dare. Quando il ruppo, la commissione, chiudono i lavori, non scriviamo sia giudica provvisoria. Noi abbiamo due equivoci, continui, le ho visti recentemente anche in due gare. Facciamo, aggiudica provvisoria, aggiudica definitiva. Continuiamo ad utilizzare la terminologia del vecchio codice che è superata, ma non è tanto un errore nominalistico. Per esempio l'accesso agli atti, quando si può fare? L'accesso all'offerta dopo la giudica, dice il codice, è quale? Provisoria o definitiva. Il problema è che noi se utilizziamo ancora una terminologia equivoca ci esponiamo a questione. Il verbale di gara si conclude con la proposta di aggiudicazione e poi c'è l'aggiudicazione. Quindi è una sola la terminologia di aggiudicazione, che noi chiamiamo definitiva, ma è aggiudicazione e basta. Quindi possiamo anche evitare. Poi c'è un altro problema, i controlli. Perché la regola è che la giudica definitiva diventa efficace dopo i controlli. Se quindi i controlli non li abbiamo fatti, quella giudica è definitiva, è aggiudica, ma non è efficace. Che cosa comporta? Che se ci arriva dopo il casellario giudiziale o l'attestazione dell'agenzia delle entrate o la verifica dell'ufficio di collocamento, l'ufficio provinciale del lavoro, massima occupazione, per quanto riguarda la verifica sui diversamente abili per ogni 15 dipendenti. Se ci arriva dopo questa documentazione, una volta che ci arriva noi prendiamo atto dell'efficacia. Nella prassi si fa un'altra determina, un'altra determina di aggiudica. Questo è un problema perché di fatto è come se riaprissi i termini per impugnare. Non conviene farli prima i controlli. Ah sicuramente. La cosa utile sarebbe farli prima. Nella fisiologia dovrebbe essere così. Però uno perché fa subito la giudica? O per esempio l'Asno Napoli Caserta ha chiuso ieri una gara perché ha fatto la proposta il 26, il 26 la giudica il 27. Poi ha fatto partire i controlli. Perché questo nelle gare soprattutto di valore economico significativo si fa così. Perché una volta che una giudica partono le comunicazioni, parte lo stand still. Quello che fa? Ne approfitta. Non parliamo in termini negativi. Perché così mentre fai i controlli decorrono i 35 giorni. Una volta che la giudica è efficace siamo già pronti per il contratto. Altrimenti se dovessimo perdere 20 giorni o 15 giorni per fare i controlli poi facciamo la giudica e poi sono 35. Il problema qual è? Ci siamo messi 6 mesi per fare un bando. 9 mesi per fare una gara e poi improvvisamente abbiamo i pressi e insaponiamo. No. Iniziamo a dire vabbè mettiamo tutto. Questo poi di fatto questo è... perché una volta che dice la gara è finita. Ovviamente il sindaco prende perché l'opera pubblica serve, casomai serve per l'amministrazione. Il sindaco dice noi diciamo la gara è finita perché poi dobbiamo dire ma fai i controlli. Poi c'è lo stand still period e ogni volta c'è. Invece noi approfittiamo, facciamo la giudica e poi facciamo i controlli. La cosa però è da evitare di fare una nuova determina perché io vedo questa terminologia continua. Aggiudica definitiva, poi si fa la dichiarazione efficace della giudica definitiva con nuova determina comunicata. Di fatto la ditta dice allora posso impugnare da adesso. Evitiamolo queste cose perché creano equivoce. Utilizziamo la terminologia più asciutta. Proposta dai termini di aggiudicazione presa ad atto dell'efficacia. Ovviamente se i controlli sono negativi noi annulliamo la giudica e ne facciamo un'altra. E qui ripartono però i 35 giorni. Bene, quindi proposta, aggiudicazione, presa ad atto dell'efficacia. È necessario. È necessario. Ci vuole comunque secondo me un documento da cui vi è traccia che i progetti. Però potrebbe essere anche una comunicazione che si fa nel contratto. Però a un certo punto va attestato che questi controlli sono conclusi. La presa ad atto diventa importante, cioè qualcosa che rende tracciabile che tutti i documenti sono agli atti. Ma io ripeto, non farei una determina. Non ha senso la determina. Perché la determina di aggiudicazione già c'è. Basta pure la nota con cui si scrive al segretario. Vedete, siamo pronti per il contratto. I controlli si sono conclusi in data 12 ottobre tutti positivamente. Il vero problema, sapete quando sorge? Poi ci sono più domande. Quando però rispetto al controllo, qui è un problema e state attenti a questo. Bisogna esprimere un giudizio. Perché non su tutti i controlli sono meccanici. Il DURC è meccanico, regolare o irregolare. Regolarità fiscale, regolare o irregolare. Casomai se c'è una rateizzazione uno può... Però, per esempio, l'illecito professionale non sempre è così. Se emerge una condanna o emerge una risoluzione di un contratto dalla verifica, perché casomai noi possiamo sapere interpellando l'ANAC, ma può anche venirci comunicato da un altro. Cioè il secondo scrive e dice, vedi, che fai? La giudica a questo. Questo ha subito la risoluzione del contratto da Castellabata. Che fai? E su questo non possiamo far finta di nulla e diciamo abbiamo fatto i controlli. Perché poi agli atti c'è una segnalazione di uno che ci dice, vedi che c'è una risoluzione? Qui ci dobbiamo esprimere. Questi sono requisiti rispetto ai quali dice la giustizia dell'amministrazione a discrezionalità, a ampia discrezionalità, ma deve motivare. Quindi su questo diventa più difficile far finta di nulla, oppure fare una mera lettera. Qui ci vuole un provvedimento con cui si dice, il controllo si conclude positivamente, anche se c'è questo profilo, noi lo superiamo perché a nostro parere non è una condizione impeditiva assoluta. Qui è più necessario un elemento argomentativo, altrimenti ci rischiamo che qualcuno ci impugna dicendo non ti sei accorto di questa cosa. Invece noi l'abbiamo pure esaminata, però l'abbiamo superata. Ma dobbiamo dire la ragione per cui l'abbiamo superata. Chi è che vuole fare le domande? Ho visto tre o quattro. Partiamo. Allora, la proposta di giudicazione, mandiamo la proposta di giudicazione e ci fanno accesso agli atti. E perché hai mandato la proposta di giudicazione? Posto di giudicazione. Ah, hai capito? Proposta di giudicazione. No, no, allora, proposta di giudicazione. Ah, però allora, l'accesso agli atti può essere fatto relativamente all'offerta, soltanto dopo l'aggiudicazione. Quindi essendo una proposta, la istanza va differita. La cosa migliore sarebbe... Allora, secondo me la proposta non va inviata. Voi perché gliel'avete mandata? Per trasparenza dico. Però allora, la comunicazione doverosa è la comunicazione dell'articolo 76 del codice, cioè la comunicazione dell'aggiudicazione. Il verbale voi lo potete pubblicare, alcune piattaforme lo rendono subito accessibile, però l'accesso agli atti e alle offerte va fatto dopo la... Perché secondo voi questo? Perché l'accesso agli atti non si può fare, non ha senso farlo quando c'è la mera proposta e non c'è la giudicazione? Perché può cambiare l'esito o no? Allora, io rischio di far fare l'accesso agli atti relativamente alla documentazione del primo, che però in virtù dei controlli non può essere ammesso, va escluso e quindi rischio di far fare un'attività inutile. Perciò si dice l'accesso va differito, ma non per una ragione di segretezza, non è che in quel momento ci sono interessi sensibili, ma per una ragione di semplificazione, altrimenti si rischia di fare l'accesso anche su documentazione non rilevante. Allora, in quel caso, la richiesta di accesso agli atti, io tutt'al più farei vedere la documentazione amministrativa, però relativamente all'offerta lo differirei per evitare di fare un accesso inutile. E' ammissibile quella sulla documentazione amministrativa, perché quelle ormai sono profili secondari. Rispetto all'offerta tecnica si attende, anche perché poi sull'offerta deve verificare se la ditta ha dichiarato che ci sono documenti o parti riservate e quindi l'accesso all'offerta tecnica può essere in parte non garantito, oscurato, laddove possono costituire elementi che riguardano il no aziendale, la proposta aziendale. No, no, ma lo può fare pure 10, perché mica decade qua. Non è un'ottima risposta, non è un'ottima risposta, non è un'ottima risposta. Allora, l'alternativa potrebbe essere di fare la centrale unica di committenza. No, diciamo che non ci sta perché la fa, non è un'ottima risposta, non è un'ottima risposta. Allora, tenete conto che l'articolo 31, il RUP è una figura strategica negli appalti pubblici. L'articolo 31 dice che pure l'esclusione, le ammissioni le fa il RUP, quindi le verifiche le deve fare il RUP, nel senso che io potrei con le centrali uniche di committenza, le stazioni uniche appaltanti, convenzionare che le verifiche le fa pure l'ente delegato o il soggetto delegato, però poi alla fine il provvedimento deve adottare il RUP. Quindi la verifica che fa il RUP è essenziale. Io adotterei un provvedimento di esclusione come RUP sulla base delle verifiche che fa un terzo, sì, ma nel momento in cui sono certe le verifiche. Quindi qui il problema, per esempio, anche l'accesso al casellare informatico, chi è profilato? Di solito il RUP, che ha la sua profilatura, accede al casellare e fa le verifiche. Allora, la cosa migliore sarebbe farle fare da RUP le verifiche. Se però, costituendo la centrale uniche di committenza, noi vogliamo semplificare la nostra attività, anche perché la centrale uniche di committenza, le stazioni uniche appaltanti hanno una funzione non solo di semplificare le carri, ma di qualificare il personale. E allora, noi possiamo avere RUP competenti o esperti e RUP meno esperti, anche rispetto ai controlli. In quel caso, avendo una centrale unica di committenza, un ufficio oppure un ufficio contratto in comune, noi abbiamo anche personale qualificato che riesce a fare i controlli anche in modo più incisivo. Però vedete, il fatto che l'abbia fatto l'uno o l'altro, a livello giustiziale, non rileva proprio. Non è che una ditta può fare il ricorso e dire che mi ha escluso, ma il controllo doveva fare il RUP. Il problema era se il requisito c'è o meno. Il giudice non accoglie il ricorso e dice che non lo fa il RUP. Sono profili gestionali. Ma quante volte noi abbiamo che il RUP fa i controlli dopo che li ha fatti pure la centrale uniche di committenza? Che a caso mai non si fida o non li fa correttamente. Anche perché quando per esempio l'AVC Pass ci dà il camerale, non è un camerale storico quello. Noi certe volte con l'AVC Pass non sappiamo se ci sono cessati dalla carica, ovvero se ci sono state fusioni, incorporazioni tra le ditte. Perché se c'è stata, rispetto a quella gara, una fusione e un'incorporazione, il controllo va fatto anche sulle gare rappresentate della società fusa e incorporata. Ma il camerale che ci dà l'AVC Pass non lo dice. Bene, quindi io lo utilizzerei come strumento di controllo, ma sappiate che non sono assolutamente esausti. Chi è che vuole fare un'altra domanda? Quando la norma dice divenuta efficace l'utilizzazione? Quando diventa efficace? Quando fanno i controlli? Questo incide ovviamente sull'utilizzo del servizio, ma anche sull'accesso agli atti. No, l'accesso agli atti, tenga conto che va fatto dopo l'aggiudicazione, non dici dopo l'efficacia dell'aggiudicazione. Quindi io dopo l'aggiudicazione l'accesso agli atti lo consentirei già. Tuttavia, perché? Che punti vanno su? Lui ha fatto due domande che aprono scenari enormi. Il primo, il primo tema per me estremamente sensibile, dopo l'efficacia può iniziare la prestazione. Tant'è vero che una prassi sbagliatissima è l'esecuzione anticipata dopo l'aggiudica ma prima dei controlli. Terrete conto che questa cosa oggi è possibile grazie al decreto semplificazione soltanto per i lavori pubblici sopra soglia comunitaria, ma solo per i lavori, quindi non per servizi e fornitori. Quindi in questo caso è possibile l'assicuzione anticipata nelle more dei controlli, perché è l'unica ipotesi prevista. In secondo luogo, lui ha detto un'altra cosa, l'accesso agli atti dopo l'aggiudica si può fare anche nelle more dei controlli, dopo l'aggiudica si può fare già. Ovviamente nel momento in cui lo facciamo fare alla ditta senza i certificati relativi ai controlli, la ditta potrebbe avere una conoscenza parziale. Così come la ditta potrebbe poi fare una nuova richiesta di accesso relativamente a questa documentazione acquisita. Allora, la ditta può fare la richiesta, lo scrutinio della documentazione può avvenire anche successivamente. Badiamo però un dato, seguitemi, perché questa è una strategia che noi prima utilizzavamo ma oggi non conviene più. Cioè, noi abbiamo giudicato. Lo stand still dice 35 giorni poi possiamo fare il contratto. Perché questo stand still? Perché se qualcuno ha qualcosa da dire, siccome l'impugnativo si fa nei 30 giorni, prima la notifica veniva fatta a mezzo posto, quindi perciò 5 giorni in più. Oggi con la PEC di fatto 30 giorni dovrebbe essere già il termine essenziale. Però se hanno qualcosa da dirlo fa nei 30 giorni. Che succede però e qual è il paradosso e qual è la situazione anomala che si sta creando? Che tutto questo non tiene conto della nuova donanza plenaria del Consiglio di Stato che ha detto che se c'è una richiesta di accesso agli atti, il termine di impugnazione si sospende tra la richiesta e l'accesso. Quindi che succede? No, no, per dire, state attenti al termine di impugnazione. Cioè, quando io, questo spesso nella pratica lo vedete, diceva beh, questo ha fatto accesso agli atti. Siccome fra 10 giorni scadono i termini per impugnare, io lo rispondo fra 12-13 giorni e sta a posto. No, perché il termine è come se fosse sospeso. Che cosa? Ah sì, ma nel senso che, diciamo che la ricorrente se non conosce i documenti di fatto non può fare i pugnativi. Questo è abbastanza evidente. Cioè, se la ricorrente non gli facciamo vedere i documenti, come può fare? Fa ricorso al buio. Per evitare, prima la giustizia precedente imponeva questo, diceva fai ricorso al buio, poi di che fai motivi aggiunti. Poi c'è stato quello di Cavaltaro, Bisapiro, conosci quello dottor, che vuole i contributi unificati su ogni motivo aggiunto. Diceva beh, ma se tu le carte me le adessi, devo fare i contributi unificati? Per gli appalti, in alcuni caso ho 6.000 euro. Cioè uno è costretto, tanto è vero che muovano tutti in Commissione Tributale, stanno ingolfando la Commissione Tributale, perché impugnava la giudica. Poi il Comune gli dava un atto oggi, un altro fra 15 giorni, e quindi continuava a fare motivi aggiunti, impugnando sempre la giudica. Però essendo tanti motivi aggiunti, si triplicava il contributo unificato. Tant'è vero che addirittura l'Associazione Italiana Avvocata Amministrativista hanno fatto ricorso al Tarlazio per contestare la circolazione, per esempio fatto una figura di niente, perché il Tarlazio ha detto che è competenza della Commissione Tributaria, l'Associazione Nazionale, la giurisdizione. Però per dire che quando c'è l'accesso agli atti, ricordiamoci che i termini di impugnazione sono sospesi. Quindi se vogliamo essere allineati con lo stand still e non stipulare un contratto con una giudica ancora impugnabile, una volta che c'è l'accesso agli atti, prima la definiamo e meglio è. Perché quella vacazio incide perché sospende i termini per impugnare. La comunicazione al controinteressato che noi facciamo ritualmente con l'accesso agli atti non è necessaria in questo caso, soprattutto quando siamo stati bravi negli atti di gara, cioè quando abbiamo presentato la modulistica per la partecipazione e abbiamo fatto negli atti di gara le ulteriori informazioni, abbiamo e dobbiamo opportunamente segnalare alla ditta che se c'è qualcosa di riservato, un segreto commerciale e tecnico lo devi chiarare nella domanda, dichiarare documentare. Non è che ce lo dice dopo in sede di accesso, perché iniziamo qua a tarantella nell'accesso, no, perché quello chiede l'accesso, noi scriviamo alla giudicataria, quello si oppone, poi c'è che dice, siccome si è opposto, tu che dici? Diventa un processo di più lunga la gara, l'accesso ai documenti. La ditta, quando partecipa a gara, se ha elementi di segretezza da oscurare, deve dichiararlo in sede di domanda e deve, dice la giustizia, anche documentarlo, non è che lo può dichiarare in modo apodittico, ma anche se dichiara è tutto riservato, la scelta la fa il RUP poi, cioè l'elemento tecnico. Io non eviterei di nascondere tutto, perché anche questa è la cosa peggiore. L'offerta tecnica non può mai essere sottratta all'accesso nella sua interezza, possiamo sottrarre alcuni profili, ma se abbiamo attribuito un punteggio per le unità di personale che utilizzerà nel cantiere, spesso nei servizi sociali, quindi dice, vabbè, è sottratto perché è frutto di uno studio che ho fatto sul territorio per gestire un asinonito, un centro anziane, sì, ma se nel punteggio si assegna il punteggio alle unità che tu utilizzi, puoi oscurare i nominativi, se assegni il punteggio al curriculum, se metti due psicologi o logopetisti da un punteggio in più, non puoi dire è sottratto all'accesso, perché l'altra ditta, che quel punteggio non l'ha avuto, su questo può giocare l'impugnazione, rischiamo che poi il TAR ci fa l'esibizione in giudizio, vi seguite? Quindi in quel caso io oscurerei dati sensibili, dati riservati, studi che ha fatto la ditta, ma non oscurerei i dati apprezzati come punteggio, perché poi è su quello che si gioca il contenzione. Il contratto negli appalti deve avere sempre la forma scritta ad substanzia. La giudica definitiva è condizionata a lei su dei controlli, il certificato antimafia, oggi col decreto semplificazione c'è anche la verifica provvisoria antimafia, quindi voi fate già l'accesso con la banca dati provvisori, ma il certificato antimafia non rientra sui requisiti, dei documenti da acquisiti, il certificato antimafia riguarda soltanto, può incitere soltanto al più sulla stipula del contratto, perché passati 30 giorni si può stipulare il contratto con condizioni risolutive, ma la giudica è già efficace, quindi è il contratto che non si sottoscrive, non è che è condizionata la giudica, tanto è vero che i documenti che noi crediamo ai fini del controllo, quali sono quelli indispensabili? Casellario giudiziale, casellario giudiziale, che sono l'articolo 80 e i controlli di cui era l'articolo 86, quindi nell'articolo 86 sono scritti i documenti, casellario giudiziale per il comma 1 e comma 2, cioè i reati definitivi e le verifiche delle misure inibitorie antimafia. Poi chiediamo il DURC, chiediamo il DURF, regolarità fiscale, poi vedremo dopo la semplificazione per gli appalti minore importo, poi dovremmo chiedere la notazione ANAC, casellario ANAC, dovremmo verificare se la ditta è sottoposta a procedure fallimentari o concorsuali, concordati preventivi tramite la sezione del tribunale, anche se sto scoprendo che in molte sezioni del tribunale, adesso per evitare tutte queste certificazioni, gli dicono ma vedete il camerale, verifichi il camerale perché è scritto là, non è proprio così netto perché il camerale l'annotazione non viene fatta contestualmente, se c'è un'istanza di fallimento a carico di una ditta, non è che va sull'annotazione del camerale, è il provvedimento, le dichiarazioni di fallimento, l'ammissione del concordato, però ho visto nelle prassi di alcune sezioni fallimentari che scrivono questa cosa. Quindi poi dovremmo fare la verifica per i soggetti con disabilità, se hanno più di 15 dipendenti e poi tutt'al più chiedere i carichi pendenti se la ditta ha dichiarato di aver subito una condanna. Dice l'ANA che in alcuni casi siccome la condanna può essere un grave illecito professionale, bisogna in quel caso chiedere anche i carichi pendenti per verificare che tipo di condanna è, quando l'ha ricevuta per verificare questo dato, perché una condanna che l'ha ditta ha subito, che non è definitiva, non è motivo di automatica esclusione, ma è motivo di possibile esclusione. Non rileva esenzia dell'articolo 80,1, ma esenzia dell'articolo 80,5 lettera C. Chi è che voleva fare un'altra domanda? Non ci sono. Ho visto diverse mani. Il contratto deve avere sempre la forma scritta ad substanze. Ricordiamoci che per quanto riguarda i contratti pubblici non è possibile la sottoscrizione in forma orale. Quindi o c'è il contratto con il suo formalismo rigoroso, idrogito, oppure una scrittura privata, certo pure il IPA, il modello, oppure scambio di corrispondenza, l'importante è che ci siano documenti formali che si siano incontrati. Mai una sottoscrizione verbale, un ordine di acquisto verbale, una cosa che non avrebbe senso, però sappiate che il problema che si pone quando per esempio ci sono stati in passato dei libri di giunta con cui si dava l'indirizzo a fare il contratto, poi c'era la fornitura fatta ma non c'erano gli atti, nessun atto esecutivo o conseguenziale. In quel caso si è ritenuto, ma anche negli incarichi professionali, una Cassazione del 2020 continua a dire l'incarico professionale che si può fare verbalmente, è completamente nullo. Ma ci sono stati, io sto seguendo i contenziosi di comuni che hanno avuto... Ma ci vuole un incontro di consensi, di documenti che riguardano il seno all'anno. Se andiamo avanti velocemente... Allora queste sono le soglie, solo una piccola precisazione che poi lo vedremo soprattutto... I lotti funzionali, questo è un tema ormai già a qualche anno, però è un tema che va sottolineato, perché noi abbiamo nel nostro codice di fatto due norme che sembrano contraddirsi, l'articolo 35 e l'articolo 51. Uno che ci dice, l'articolo 51, tu devi suddividere i lotti per favorire la partecipazione di piccole imprese, micro imprese, medie imprese. Se non suddividi i lotti devi motivare. Quindi addirittura qualcosa che ci dice, suddividi i lotti perché non puoi fare macro lotti o addirittura mettere insieme lotti disomogenei. Cioè appaltiamo il servizio di pulizia dei locali e il servizio menza. Facciamo una sola gara così risolviamo tutti i problemi. Sì, ma qui è un problema dei partecipazioni perché mettendo insieme due lotti disomogenei incitiamo anche sulle posizioni di partecipazione, perché così può partecipare soltanto grandi complessi o grandi competitor o global service, ma non possono partecipare ditte che hanno casomai iscrizioni camerali soltanto parziali o riferite a una singola prestazione. Devi suddividere in lotti. Se non suddividi in lotti devi dire il perché. Io l'appalto in gestione di igiene urbana non la posso suddividere in lotti perché è preferibile che ci sia un solo operatore che faccia la raccolta, il trasporto, il conferimento e quant'altro. Però dovrei motivare un rigo, ma comunque importante. Però poi c'è un altro problema, che l'articolo 35 del codice è stato cambiato. Ovviamente i lotti devono essere funzionali o prestazionali. Dice la giustizia che il lotto è funzionale quando completato quel lavoro l'opera è offruibile indipendentemente dal completamento del lavoro di un altro lotto. Lotto è prestazionale quando riguarda una specifica categoria merciologica o una categoria professionale. C'è però un dato che va attenzionato, soprattutto io questo tema lo porto quando si tratta di fondi comunitari perché avendo fatto un po' di assistenza tecnica anche per i controllori di primo livello e assistito anche a dei controlli di secondo livello, mi sono trovato spesso in questa situazione. Di affidamenti nella maggior parte dei casi in incarichi di progettazione insieme a direzione dei lavori fatti con due affidamenti distinti che però messi insieme determinavano una soglia diversa e quindi una procedura diversa. Il problema quando è surto? Quando nel 2019 col decreto sblocca cantieri nell'articolo 35 del codice è stato espunto l'avverbio contemporaneamente. Fino a quel momento cioè il codice così prevedeva in caso di affidamenti in lotti ai fini dell'importo della gara vanno considerati tutti i lotti se sono stati affidati contemporaneamente. Per cui bastava che io partissi con un lotto oggi, un altro fra due mesi, un altro fra tre mesi, potevo dire non sono contemporanei e quindi progettazione di direzione dei lavori non sono contemporanei, in questo caso posso fare due affidamenti, casomai due affidamenti sotto soglia se gli importi sono sotto soglia. Non si propilava l'illegittimo frazionamento. Oggi siccome è stato espunto, ma non è che è stato tolto per principio, è che la Commissione Europea ha detto niente che l'avverbio, gli avverbi sono già pericolosi di per sé, voi italiani ne fate un uso smodato, l'avverbio contemporaneamente non significa niente. Che significa contemporaneamente? Cioè che uno è fatto oggi e l'altro domani oppure sono fatti lo stesso giorno? Perché è equivoco, in ogni modo che noi trattiamo questa espressione è equivoco. Togliendo contemporaneamente la norma oggi recita che quando si tratta di appalto suddivisi in lotti, la procedura, cioè l'importo della gara, di fatto è derivata o è conseguenziale di tutti i valori dei lotti. Quindi è vero che io faccio l'affidamento di 200 mila euro con un contratto di 200 mila euro, ma se quei 200 mila si mettono insieme ad altri 200 mila, la gara, cioè se farla aperta, ristretta, negoziata, dipende dal valore complessivo dell'otto. Quindi se progettazione e direzione messi insieme fanno 200 mila, 100 mila e 100 mila, io non posso fare due affidamenti diretti perché sono ognuno 100 mila, visto che oggi la soglia è 139 mila seppur temporaneamente, ma in quel caso di fare due procedure aperte, è chiaro o no? Lo sapevate già, meno male, così diamo avanti subito, meno dubbi abbiamo e meglio è. Tant'è vero, vedete, allora qui è l'articolo 35, ci sottolinea che il calcolo del valore del contratto deve tenere conto di tutte le opzioni, abbiamo già accenato prima, proroga, rinnovo, poi dovrebbe esserci anche il commi 9 e 10, vedete, tra parentesi, primi c'era l'avverbio contemporaneamente, letto adesso senza contemporaneamente è tutta un'altra conseguenza su tutti i profili applicativi. Poi, le procedure di scelta del contratto, noi sappiamo che sono ordinarie oppure procedure di deroga, la procedura ordinaria si può scegliere sempre e non devo motivare, anche se faccio una procedura aperta per un importo di 30 mila euro non dovrei motivare di fatto, forse non è conveniente, non è utile, rallenta, ma non devo motivare, la motivazione si impone quando scelga l'altra, la procedura in deroga, motivazione che può essere più o meno rigorosa secondo della deroga. Le deroghe quali sono? Abbiamo messo i tre articoli di riferimento del codice, 36, 63 e 163. Il 163 è la deroga per eccellenza, perché si deroga tutto, sono gli affidamenti per ragione di un'urgenza grave, perché in quel caso c'è l'intervento che deve essere eseguito ed è un intervento di somma urgenza, un intervento che non può attendere nessun tipo di verifica nemmeno preliminare, tanto è vero che dice la norma, il primo che arriva sul cantiere tra i RUP, se è un'opera già in esecuzione o un'opera già programmata dove il RUP è stato già individuato, o i responsabili del settore, il primo che arriva fa l'affidamento, fa l'affidamento sulla base di che cosa? Di un'autocertificazione, e quindi c'è un'indagine, c'è una verifica, c'è un controllo? Nulla. Non c'è nemmeno una trattativa sul prezzo, tanto è vero che poi la stessa norma contempla che se poi su alcune categorie o voci di prezzo non c'è la possibilità di individuare un prezzario di riferimento è l'ANAC che stabilisce qual è il prezzo da applicare. Quindi un intervento di somma urgenza nel provvedimento di affidamento, io se fossi il segretario comunale, la cosa che andrà a verificare è la motivazione sulla somma urgenza, perché la somma urgenza si dice deve essere tale da giustificare un intervento di deroga, e allora la somma urgenza è un pericolo concreto, è un'esondazione che c'è, una strada che sta affranando, un costone che sta affranando, l'affidamento va fatto nei limiti della somma urgenza, fino a 200.000 euro, 300.000 per i beni vincolati sotto il profilo storico monumentale, o comunque per rimuovere il pericolo. Intanto è vero che poi a Reggio Calabria qualche tempo fa, noi ci troviamo in presenza di un affidamento di somma urgenza, che però avendo preso spunto da quel fenomeno, l'intervento riguardava la bonifica di un intero alvio di un fiume, così come anche in Costiera Amalfitana, qualche tua amica che tu conosci, favorì questa cosa di un affidamento per un costone che era affranato in una parte e disse, vabbè, già ci ritroviamo, mettiamo in sicurezza l'intero costone, ma se lo vuoi fare devi fare una gara ordinaria, perché poi c'è il rischio che l'importo aumenti significativamente e quindi tu non puoi prendere spunto alla somma urgenza, basta che cade una pietra, facciamo un buco, andate a strada, facciamo una deroga su tutto. Quindi la somma urgenza di un concreto e effettivo pericolo è la stessa differenza tra ordinanza contingibile e urgente e ordinanza di rigenza cioè contingibile e urgente, contingibile e situazione sorta adesso non prevenibile né prevedibile, urgenza cioè non si può attendere il modello ordinario, altrimenti l'ordinanza la fa il dirigente o no? Dobbiamo dire che sta affranando oppure c'è il rischio che frani o che cade quell'alba, c'è il rischio potenziale o è concreto? E là sta la differenza, là si impugna no, no, il provvedimento. Il rischio che emerge ed è già in fieri oppure in ipotesi potenziali? Sempre il rischio è, però soprattutto se il fabbricato è fatiscente da anni, ci sta da 30 anni, l'ordinanza sindacale non si può fare perché se sta da 30 anni tu ammetti che non è una situazione contingibile, manca il presupposto. In questo caso ci deve essere un pericolo concreto, attuale, una situazione di grave rischio per la salute, tanto è vero, vedete che quando appena iniziata la pandemia si iscrisse alla Commissione Europea e gli stati membri dissero vogliamo cambiare il codice perché dobbiamo fare gli interventi subito per acquistare materiale, per acquistare attrezzature, per fare affidamenti che riguardano le prestazioni sanitarie, disse la Commissione Europea perché dobbiamo cambiare, lo vedete già, c'è l'articolo 163 che si applica per lavori e anche per servizi e forniture, dovete motivare la situazione di particolare grave urgenza, non si può attendere e quindi potete procedere speditamente, è stata una, mamma mia che possiamo fare, non è vero che stiamo vedendo i frutti di quell'applicazione, mai dare agli italiani o no, una chiave oppure una carta bianca, dice procedi e allora hanno fatto di tutto. Quindi l'articolo 163, la somma urgenza, seconda cosa che mi ha verificato qual è? Dice l'articolo 163, entro 60 giorni devi fare il contratto, devi fare i controlli e i contratti, e non si può pagare se non c'è il contratto, quindi la seconda verifica che farei in sede di affidamenti somma urgenza, c'erano i presupposti? Ci sono stati i controlli nei 60 giorni? Perché solo dopo il contratto si può pagare, se i controlli sono favorevoli si stipula il contratto e si paga secondo le condizioni previste a prezzarie o concordate con la ditta, se il controllo è negativo che si fa? Si risolve il rapporto, fermo l'estante che i lavori l'ha fatto, quindi la ditta va pagata, va pagato il valore delle opere, anche qui è difficile poi praticamente dire qual è l'utile perché ovviamente nella trattativa l'utile è la ditta, la vera sanzione non è toglierci 5.000 euro, 6.000 euro, la vera sanzione è la segnalazione all'ANAC oltre che la denuncia penale, perché quelli sono i gravi illeciti professionali che quella ditta, se una volta ci ha provato rischia di non poterci provare più, va bene? Ancora più sulla decreazione mendace. Quindi la somma urgenza, l'articolo 63, l'urgenza, articolo 63, le altre ipotesi di derogio, io vado veloce perché sono temi che conoscete già o no, l'articolo 63 è la persona negoziata senza bando, le altre ipotesi in cui si può procedere senza attendere l'esiti di una competizione. Però quali sono i casi? Anche qui le ipotesi dice che la legge sono tassative e sono applicabili in modo restrittivo, cioè non possiamo dar vita all'interpretazione analogica, sono sostanzialmente tre. C'è anche un'altra, dei servizi analoghi oppure dei lavori complementari, però per applicare quest'altra ipotesi, questo è un suggerimento quando facciamo bandi o abbiamo finanziamenti solo parziali, in questo caso il progetto iniziale deve essere già un progetto complessivo, dobbiamo prevedere questa estensione già negli atti di cara e questa è una cosa molto utile, se per esempio noi abbiamo un progetto che riguarda il rifacimento dell'intera scuola e abbiamo un finanziamento soltanto per la parte strutturale e non per la palestra e il tetto, se sappiamo che però in fieri potrebbe capitare che nel tre anni successivo abbiamo un finanziamento per il completamento, conviene mettere agli atti di cara il progetto per il tutto, così che tutte le ditte possano indecolare e riservarci nel bando di gara, la stazione appaltante si riserve alla facoltà di affidare alla ditta anche i lavori di completamento o lavori complementari o servizi analoghi nel tre anni successivo dalla stipula del contratto, purché il finanziamento intervenga dopo. Questo è un grande elemento di vantaggio perché poi qualche volta è capitato che la stessa amministrazione dice ma come abbiamo avuto il finanziamento aggiuntivo, ho fatto tanto per avere dalla regione il finanziamento aggiuntivo, quello non può subentrare perché ci sta già un'altra ditta, quindi dobbiamo aspettare che finisce il cantiere, ma non possiamo affidarla alla stessa ditta che già c'è. Di fatto se non abbiamo negli atti di gara, in modo oculato, fatto questa previsione rischiamo che non possiamo farlo. Questa però è un'opzione che incide sul valore della gara? È sicura perché poi non vai più la gara, in questo caso se c'è l'opzione incide sul valore della gara, perché nel momento in cui tutti nel finanziamento aggiuntivo tu lo vai a mettere insieme a quello e gli fai un appalto, un contratto che non è un milione di euro, può essere due milioni. E' un'opzione di ritenzione? No, no, è completamente. Per i servizi possono essere servizi ripetitivi, per cui è possibile eventualmente, oppure per esempio noi abbiamo fatto per un comune recentemente proprio un servizio di igiene urbana, dove abbiamo affidato l'appalto di servizi, però l'isola ecologica non era ancora pronta, quindi abbiamo riservato negli atti di gara la possibilità di affidare anche eventualmente la gestione dell'isola ecologica una volta pronta, c'era un problema di acquisizione sanante, perché l'aria individuata si è scoperta che poi non è stata espropriata correttamente, quindi in quel caso però abbiamo riservato l'opzione in modo tale che terminata quella cosa noi possiamo fare l'estensione, altrimenti qualcuno avrebbe potuto dire ma perché fai l'estensione all'operatore già affidata, devi fare un nuovo affidamento. Certo con l'operatore già in essere più avvantaggiata, però devi poi mistificare la gara, quello è il problema, invece l'opzione se ipoteticamente c'è già prima, mettiamola già, è una scelta molto acuta. Ma quali sono però le ipotesi tradizionali degli affidamenti, delle procedure negoziate sotto soglia, delle procedure negoziate senza bando, queste procedure, questi affidamenti prescindono dall'importo, perché qui non c'è un importo nell'articolo 63, può essere 100 mila euro, 1 milione di euro, 6 milioni di euro, non c'è l'importo nell'articolo 63, l'importo riguarda soltanto l'articolo 36 che viene dopo, queste sono ipotesi di deroga dovute a circostanze, da avere che noi per alcune ASL, un ASL veneto, c'è stato l'acquisto di un'apparecchiatura elettromedicale per 3 milioni di euro, con procedure ex articolo 63, cioè prescindono dall'importo. Le ipotesi sono urgenza, infungibilità e gara deserta. Voi direte, vabbè, basta leggere il codice, sì, ma ci sono delle piccole precisazioni che vale la pena fare. Urgenza, dice la giusprudenza, un'urgenza non deve essere imputabile alla stazione appaltante, l'urgenza deve essere un'urgenza, si dice, qualificata, cioè derivante da circostanze oggettive. La ditta che stava facendo il lavoro è fallita, o abbiamo risolto il contratto, non abbiamo la possibilità di scorrere la crotatoria perché non c'è un'altra impresa, c'è necessità di intervenire, oppure abbiamo provato a scorrere la crotatoria, ma nessuno, quante volte, voi l'avete applicato, penso all'articolo 110 qualche volta, no, scorrendo la crotatoria, quelli ci hanno detto non ci pensa proprio. Soprattutto se l'uscente ha già realizzato le opere strutturali a pagamento, l'unica cosa che hanno fatto è le migliorie senza oneri per l'ente. Quindi il subentrante dovrebbe fare solo le migliorie. Mi sta capitando in un come si chiama Pietragalla, proprio per una scuola, in provincia di Potenza. La ditta uscente ha fatto tutto, mancano soltanto le migliorie senza oneri per l'ente. Il subentrante dice che ho vinto una causa e che mi sento. Dovrebbe fare le migliorie e non essere pagato. Il paradosso è questo, non è vero che stiamo in Consiglio di Stato per chiedere chiarimenti, perché uno subentra per fare opere. Cioè un subentra in danno, uno ha vinto una causa per anno e mezzo e subentra in danno. Verità, con il decreto semplificazione è previsto in questo arco temporale, soltanto però per i lavori sopra soglia, la possibilità dello scorrimento alle condizioni del subentrante. E che è una cosa diversa rispetto a prima che era alle condizioni dell'uscente. Cambia molto, però è una norma di deroga, perché di solito dice l'articolo 110 del codice, in caso di subentro, chi subentra deve subentrare alle condizioni dell'uscente. E se casomai c'è una differenza anche in termini quantitativi di ribasso, quando il secondo subentra deve applicare il ribasso fatto dal primo. Però dice che quello perciò è fallito, perché applicato quel ribasso... Allora, casomai quelli non accettano, noi scopriamo a gradatori, può subentrare pure l'ultimo, pure il quarantesimo, tanto il primo, il secondo, il quarantesimo, sempre le condizioni del primo subentrano. Però se nessuno dovesse subentrare, noi possiamo applicare l'articolo 63 per fidare i lavori per completare, sia servizi che fornitore. Quindi l'urgenza, ma si chiama urgenza qualificata, cioè non dipende da nostri ritardi. Se noi per caso abbiamo avuto un finanziamento, molto spesso si dice non ce la facciamo a finire la gara perché dobbiamo applicare offerta economicamente più vantaggiosa, abbiamo lo stand still, ma non è vero perché tu puoi derogare quello stand still laddove c'è un'urgenza, se si perde il finanziamento. Quindi preferibile, soprattutto se ci sono fonti comunitari, garantire la competizione e poi derogare in fase di esecuzione o in fase di applicazione degli atti. Quindi l'urgenza qualificata? L'infungibilità. L'infungibilità significa che la prestazione non la può rendere un altro, ma deve essere una prestazione caratterizzata da esclusività. Per fare un esempio, penso che la vicenda la conosciate perché ha avuto anche un clamore mediatico, il comune di Avellino qualche mese fa, non ricordo se quest'anno, ha affidato a Fuxas, penso che lo conosciate, l'architetto, ha affidato la progettazione per quanto riguarda il restyling dell'ex mattatoio, ne ha fatto un affidamento diretto per 300 mila euro. L'ordine degli architetti di Avellino ha segnalato il tutto all'ANAC, dicendo ma perché ha fatto l'affidamento diretto? Il comune ha detto perché è una prestazione infungibile, quello che può fare lui, mica lo può fare un architetto del posto, praticamente ha qualificato tutti quanti, li ha accaniti, ma chi li ha addirittura poi li ha fatte denunce? Perché dice, mica li potete fare voi di paese, il dichiarazione è un sindico, forse è stato spettacolare. Però il problema che dice l'ANAC, che poi ha accolto questa istanza e ha invitato l'ANAC ad annullare, l'esclusività non è il fatto che quello che può fare Vincenzo non lo può fare Francesco, perché è sempre esclusivo, è implicita a questo punto di esclusività, perché tranne per esempio le opere edilizie, dove tu dire un progetto esecutivo devi rispettare, ma le opere di ingegno a questo punto ci sarebbe sempre la deroga, o no? Proprio perché l'ingegnere o l'architetto può progettare come vuole è tutto esclusivo, perché il progetto che può fare lui non lo può fare, lei o potrebbe avere un'altra idea. L'esclusività o l'infungibilità sta nel fatto che quella prestazione la può rendere soltanto quel soggetto, nel senso che gli altri non potrebbero rendere la prestazione, non la peculiarità della prestazione, se tu vuoi apprezzare la capacità all'ingegno, devi fare un'offerta economicamente più vantaggiosa dove attribuisci valore al curriculum, o dai un punteggio alla proposta progettuale che ti fa, ma si fa così, o c'è un concorso di idee, un altro meccanismo, ma non può essere quella di una deroga ex articolo 63. Qui l'infungibilità significa che quel mezzo, quell'apparecchiatura, quel macchinario non puoi utilizzarne altri, e qui il problema della marca per esempio, l'utilizzo delle marche, e qui un altro principio, vedete come il codice si innestano, il principio dell'equivalenza dell'offerta, cioè dice la giusprudenza, nel momento in cui il comune mette, o lente, dico il comune perché noi siamo in realtà comunale, ma non perché si guardano solo gli appalti ai comuni, mettono una marca o un prodotto, noi abbiamo avuto il problema per le mascherine, proprio per queste gare, gli operatori partecipano, dicono, ti offro un altro prodotto, però dice la giusprudenza, lo si può fare, anche se il bando nulla prevede, il principio di equivalenza è un'etero integrazione, però chi produce, chi formula un prodotto diverso, propone un prodotto diverso, deve attestare che il prodotto è equivalente, e tant'è vero che in queste gare fatte soprattutto dai servizi sanitari recenti, sulle apparecchiature medicali, molte sentenze hanno detto sì, è ammissibile anche la tua offerta, purché però hai attestato che è equivalente al prodotto che chiede l'amministrazione procedente. Quindi l'infuncibilità, l'urgenza e la gara deserta. Il gruppo attesta l'infuncibilità del bene, il controllo di primo livello esce fuori che il bene non è infuncibile, che succede? Il controllo di primo livello è successivo. Eh sì, ma il controllo è peggio ancora se il secondo, perché chi lì prima almeno... Allora, nel momento in cui si attesta l'infuncibilità e questo presupposto viene sventito, significa che è derogato alla gara. C'è la revoca del finanziamento che può arrivare fino al revoca totale, perché il fatto che poi quando sapete che il controllo non va bene e c'è la restituzione della somma, la restituzione può essere parziale o può essere totale. Può arrivare fino al 100% quando si attesta che si è derogato proprio al principio di pubblicità. E questo è uno forse dei casi più gravi, perché qui non c'è stata proprio la competizione. Il vero problema, sapete qual è? Perché interviene poi il controllo anche di secondo livello? Questi controlli sapete chi li avvia soprattutto la Corte dei Conti europea. Perché quando non fai la competizione, si dice, tu facendo un affidamento diretto paghi più soldi, perché la competizione fisiologicamente porta dei ribassi, pagando più soldi che danno all'erario comunitario. E noi con la Sicilia l'anno scorso si è chiusa la procedura innanzi alla Corte di Giustizia europea, perché si è impugnata la pronuncia del Tribunale di primo grado, e la Sicilia sulla vecchia programmazione su un miliardo di euro di finanziamento hanno dovuto restituire 400 milioni. E per tutte le procedure che erano state in sede di controllo, verificate che non rientravano nei parametri comunitari. 400-500 milioni. Cioè pensate che danno è per un'amministrazione. Il vero problema non è che ha dovuto restituire i soldi, che questa è una cosa che non si dimarca. Il vero problema è che le prestazioni sono state fatte. Bene o male non si saprà mai. Però sono state fatte. Quindi non solo hanno restituire i soldi, ma hanno restituire i soldi per pagare gli operatori. Restano a carico della stazione appaltante. Quello è il vero dramma. Non è evidente che l'Irlanda si è fatta una strada, la chiamano Italian Road, perché è fatta una strada con i soldi europei che sono andati all'Irlanda. Non è tanto quello, infatti. Il problema è che qui le mani hanno restituire i soldi per pagare gli operatori. Quindi l'altro profilo è la gara deserta. State attenti su questo profilo, che conoscete già. Poi si avvia l'azione di recupero, perché quando si pagano questi soldi, voi come coprite questa somma? Dovete fare un mutuo. Dovete fare qualche azione per recuperare la somma. C'è un debito fuori bilancio. In quel caso poi si comunica alla Corte dei Conti o comunque l'azione di divalza andrebbe fatta. Però dovete capire se il dolo è colpa grave, perché poi il danno è reale, l'azione presuppone il dolo o la colpa grave. Il dolo quando quello sapeva che non era fungibile l'ha testato. Colpa grave quando poteva avere le conoscenze tali da poter... Ma se è un bene che ha una caratteristica particolare tecnica e il dirupo non aveva conoscenze tecniche possibili, potrebbe anche uscirsene in sede di azione di responsabilità, perché lì c'è colpa libera. Però quello poi diventa tutta un'altra azione, tutta un'altra difesa. In questo caso è sempre bene di chiedere in sede di grado, in sede di trattativa, di procedura negoziata, la dichiarazione di fungibilità da parte dell'operatore economico. No, ma quello è... Vedete, noi abbiamo avuto un problema... Il problema è che lo dichiarano l'operatore economico. Quello ovviamente crederà, sicuramente sì. E il problema lo deve dichiarare chi fa la proposta. Questo tema è molto dibattuto in due settori, informatico e sanitario. Tanto è vero che ci sono le cosiddette linee guide ANAC sul lock-in, no lock-down, all'epoca non era ancora famoso. Il lock-in, cioè queste procedure di affidamento che ci vedono praticamente inchiodati, bloccati, soprattutto in materia informatica per gli aggiornamenti dei software, per esempio i protocolli, perché nel momento in cui tu hai scelto l'operatore e devi aggiornare il software, devi forse rivolgerti a lui, perché lui dice l'aggiornamento lo posso fare solo io. Dice l'ANAC ci ha inchiodato. Certo è troppo facile dire la roba che è successo, avrebbe dovuto dare indirizzi privi. Quando fate le nuove gare, curate come punteggio non tanto il prezzo, ma quanto la fungibilità del software. Noi abbiamo questo problema in materia sanitaria, tanto è vero che io ogni tanto vado a fare lezioni, non so se l'avete mai visto, il Master Dawson che fa l'Università di Salerno in diritto sanitario, dove partecipano amministrativi e medici. E là è una guerra con Dio. Quando trattiamo questo tema, nella migliore delle ipotesi, c'è quasi una rissa là dentro. Perché i medici dicono quando io chiedo l'apparecchiatura che deve fornirmi la struttura per seguire le prestazioni diagnostiche, io seguo la mia letteratura, così la chiamo. Quindi seguendo la mia letteratura io voglio un'apparecchiatura che mi dà quel tipo di diagnosi, con quelle caratteristiche. i funzionari dicono ma qual letteratura è scienziata ricca? Perché casomai tu cambia le parti. E cosa? Io mi trovo un'altra letteratura e ci sono un'altra in mezzo. Tu mi devi dire che l'apparecchiatura, ma la materia sanitaria, l'apparecchiatura, pensate a una tacca, quella costa 2-3 milioni di euro. Non è che è una fornitura di 50 mila euro, 20 mila euro. Quando tu quello va ad acquistare un'apparecchiatura, mi devi dire che è infungibile. Noi abbiamo una lotta, per esempio, all'università. E' un'apparecchiatura fondamentale. Quando quello fa la richiesta, il primario dice vedi che in questo reparto mancano queste apparecchiature, quello dice infungibile. Quello mette marca, la marca, le caratteristiche. E poi dice per me è infungibile. È infungibile perché grazie al mio studio, al mio modo di ricerca, io voglio quell'apparecchiatura che mi dà quel tipo di diagnosi, non un'altra che me ne dà un equivalente. E la parte amministrativa che lotta. Ma noi l'abbiamo per esempio con le riviste scientifiche all'università, sembrano settori banali. Quando soprattutto i docenti dei settori scientifici ci dicono vogliamo l'abbonamento a questa rivista internazionale. Recentemente l'Unione di Ingegneria un abbonamento a una rivista scientifica internazionale a 190.000 euro. Ma perché è infungibile? Perché fa ricerche? Sì, ma deve essere infungibile rispetto alla prestazione che tu devi rendere. Perché quello diventa un affidamento diretto. Invece noi quando facciamo le procedure competitive noi le facciamo chiedendo a qualcuno che ci fornisca gli abbonamenti a riviste scientifiche diffuse. Mi seguite? Qual è il problema? L'urgenza qualificata. Quindi la cosa più importante è l'attestazione che fa il RUP o l'amministrazione procedente o l'organo procedente nella termina controlla deve dire io voglio questo bene e deve dire perché è infungibile. Ma là la prova deve essere pregnante. Non può essere apodittica la dichiarazione perché poi il problema dei controlli è anche un altro. Spesso durante i controlli che dice il RUP? Io mi sono trovato in questi contesti. Dice ma la gara non è stata impugnata. Abbiamo fatto l'affidamento diretto e nessuno ha fatto ricorso o addirittura hanno fatto ricorso e è stato respinto. Quando fanno i controlli di primo e secondo livello loro verificano non tanto l'impugnabilità o meno perché se l'atto ha derogato a regole comunitarie può essere stato pure impugnato. Potete aver vinto pure la causa altare a parte che la causa altare si può vincere per tanti motivi ma questo non vi salvaguarda dal controllo. Quando fate il controllo voi avete la checklist avete pensato qualche volta lette esaminate a quelle domandine quando il controllore risponde e dice non ha garantito la competizione in quel caso c'è l'automatica riduzione. State attenti vi dico quando ci sono i finanziamenti comunitari ponete un'attenzione maggiore a questi profili motivazionali. Io ne sono perché ho visto purtroppo molte situazioni in cui poi l'ente è costretto a trovare i fondi per coprire quella spesa. A 11 e mezza stiamo andando veloce ma no però la partecipazione è così attiva che fra 10 minuti facciamo una pausa 10 minuti e una pausa chi è che vuole fare una domanda? Ah prego Allora formalmente Fuxas ha rinunciato dicendo visto le questioni di questo piccolo incarico non mi interessa cioè ha mortificato a sua volta l'amministrazione ma l'ANAC ha disposto l'annullamento degli atti cioè ha chiesto all'amministrazione di annullare gli atti quindi non può essere generato no 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 ma il parere dell'ANAC a parte che era chiarissimo ma avevamo anche ma pure addirittura pare che era stato chiesto un parere al Consiglio Nazionale pensate gli architetti che a sua volta si era espresso allo stesso modo ma pure la giustizia non è il nome che fa l'esclusività mi seguito noi possiamo avere per esempio qui in zona un'impresa che si occupa di infissi che casomai è un'impresa che fa gli infissi che hanno un rilievo internazionale o qualitativo non è che possiamo dire siccome quell'impresa fa quegli infissi e garantisce un risparmio energetico appunto che a certificazione internazionale facciamo l'affidamento diretto perché come le fa quell'impresa non le fa un'altra sarebbe troppo facile aggirare il codice noi potremmo se proprio ci piacciono quegli infissi di quell'impresa dobbiamo fare una procedura competitiva in base all'importo che ha aperto per il negoziato diamo punteggio all'offerta tecnica noi possiamo con l'offerta tecnica arrivare a dare 100 punti su 100 vedete conto che discrezionalità teniamo e noi lo fa sta alchimitando che quello che io dicevo pure a Ruppa che poi è uno che ho conosciuto durante i corsi perché poi ho anche fatto un parere di un lato e tutto perché secondo me qua è tutto illegittimo ebbè quello che diceva Ruppa ma tu hai un strumento facile facile cioè è possibile che ti devi esporre in questo modo rischiando quando tu potevi fare per quel tipo di affidamento a parte che erano 300.000 euro quindi siccome erano fondi comunitari era facile poi l'errore se tu fai approccio duro competitivo dici che dai un punteggio elevato al curriculum che l'ordinamento questo vuole e nella competizione è molto più agevole lo so ma Renzopiano è Fux non è che qua iniziamo a parlare iniziamo a parlare di due elementi una le dice comunque c'era una competizione vabbè tu davi un minimo di margine al prezzo però dico era un'ipotesi più eventuale il fatto di Fux ma poi la cosa vabbè poi la vicenda ha avuto altri profili ma non voglio dire che il sindaco diceva io ho parlato proprio io ho trattato poi peggio ancora diceva io quella ha dato a me la disponibilità ho parlato proprio io per dire sono intervenuto io e quella ha dato a me il parere dicendo vedi che Europa ha fatto praticamente un'attività meramente meccanica quando poi è un'attività esclusivamente gestionata cioè quello più interventi faceva e peggio era la situazione è vero che poi mi sono fermato perché altre domande oltre alla curiosità passi indietro rispetto a quello che diceva eh passi indietro prima vorrei andare avanti che facciamo passi indietro veloce ho chiesto di intervenire vai 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 veloce sto scherzando perché cioè in caso di ampliamento di lavori urgenti si parla è creata confusione cioè oltre all'urgenza un'altra ipotesi in cui si può applicare l'articolo 63 in cui si può andare direttamente alla ditta e dici fai questi altri lavori e quando la ditta deve completare un intervento già affidata a quella ditta con gara beh quindi l'urgenza è un'altra ipotesi manca una ipotesi che non abbiamo detto però state attenti perché questo è un passaggio anche questo delicato quando la gara va deserta voi direte vabbè è l'ipotesi più semplice o no deserto sappiamo pur che significa non ci sta nessuno o no tuttavia le ipotesi che il codice contempla sono anche altre e dice la gara va deserta quando non interviene nessuno la gara è deserta quando si chiude senza giudica però è la stessa cosa una aggiudica negativa cioè la mancata aggiudicazione dovuto al fatto che le offerte sono sbagliate dall'ipotesi in cui le offerte sono per esempio inappropriate perché il codice dice irregolare e inappropriate utilizzando due termini diversi per dire solo se sono inappropriate tu puoi fare un affidamento diretto altrimenti devi rifare la gara tutt'al più puoi chiedere di nuovo l'offerta alle stesse operatori cioè io pubblico un bando oppure avviene una procedura negoziata mi arrivano tre offerte una tardiva un'altra non firmata da un raggruppando un'altra non indica gli anni di sicurezza interna i costi della mano d'opera per lavori non intellettuali quindi devo escludere tutte e tre ci siete va deserta o meglio è non aggiudicata questa ipotesi è differente dall'altra in cui le offerte vengono presentate ma sono in aumento cioè non c'è il ribasso ma è in aumento oppure chi partecipa non ha i requisiti per contrarre e quindi va escluso perché sono due esiti uguali apparentemente ma sostanzialmente trattati in modo diverso perché nel primo caso il mercato comunque al di là di l'irregolarità della presentazione ha dato un riscontro una risposta positiva alla richiesta dell'amministrazione quindi bisogna soltanto rifare la procedura nel secondo caso il mercato ha dato un risponso perfetto allora nel primo caso sono effetti irregolari si dice cioè il mercato ha risposto quindi gli operatori economici sono interessati però hanno sbagliato a fare gli atti li abbiamo esclusi perché dovevamo escluderli ma la gara è andata deserta per errori di offerte che possono essere proposte nel secondo caso non c'è un mercato sano che ha risposto perché addirittura o hanno chiesto l'aumento o chi ha risposto non poteva contrare con la pubblica amministrazione e quindi ha fatto quell'offerta ma perché aveva altri vizi e quindi non paga tasse non paga contributi allora in questo caso la procedura è una procedura deserta questa seconda ipotesi possiamo applicare l'articolo o cambiamo gli atti ci rendiamo conto che non vanno bene e li cambiamo oppure applichiamo l'articolo 63 e in questo caso però dobbiamo interpellare 5 operatori se ci sono sul mercato senza modificare sostanzialmente gli atti perché a questo punto noi potremmo aumentare l'importo a base d'asta e raggiriamo la gara senza modificare in modo sostanziale possiamo casomai dare un termine minore per presentarlo con l'offerta possiamo prevedere uno stato di pagamenti casomai in stato di avanzamento minore oppure l'anticipazione del 30% senza modificare gli elementi sostanziali cioè l'oggetto della prestazione e l'importo da corrispondere e quindi procedere senza l'articolo 63 in altre parole per gara deserta si intende non solo la gara rispetto alla quale nessuno ha risposto ma anche la gara rispetto alla quale le ditte hanno risposto nessun risultato aggiudicatario ma non per irregolarità dell'offerta ma per inappropriatezza della stessa intendesi offerta inappropriata quella in aumento o quella formulata da soggetti che non possono contrarre perché non vince la gara chi fa la migliore offerta vince la gara chi fa la migliore offerta tra quelli che possono contrarre con la pia continuiamo e affrontiamo l'argomento che è sotto certi aspetti anche più complesso e più delicato perché riguarda le procedure di affidamento sotto soldi affidamento diretto e procedure sotto soldi scusami ti devi intervenire con le domande al microfono perché se no non si sentono non si sentono una registrazione quindi me ne può questo microfono però facciamo una cosa io mi fermo a un certo punto e lasciamo lo spazio per le domande va bene facciamo in modo organico anche se sono in verità tutti gli interventi e le domande che avete fatto fino a ora sono tutto quanto interessanti quindi la partecipazione è sempre una cosa utile però facciamolo in modo organico di modo che possiamo anche garantire la ripresa delle domande noi parliamo di quello che forse sotto il profilo quantitativo il maggior numero di affidamenti che fa una pubblica amministrazione affidamenti diretti e procedure negoziate sotto soldi sotto il profilo ovviamente degli importi economici dei singoli affidamenti teniamo conto che qui richiamiamo l'altra norma che stamattina abbiamo già accennato che abbiamo detto che gli affidamenti in deroga sono riconducibili a tre articoli del codice il 163 sommo urgenza l'abbiamo trattato il 63 cioè procedure negoziate senza banda abbiamo visto quali sono i casi e l'articolo 36 l'articolo 36 come sapete quindi senza fare troppo approfondimento è quello che il vecchio codice chiamava cottimo fiduciario nel precedente codice però il cottimo fiduciario articolo 125 era condizionato dalla sussistenza di due requisiti uno quantitativo e un altro qualitativo quantitativo era l'importo qualitativo si poteva applicare soltanto per i casi tassativamente previsti l'articolo 125 che faceva riferimento ai affidamenti previsti nei regolamenti dell'ente oppure per casi di urgenza oppure per tipologie di prestazioni individuate espressamente dal codice col nuovo codice invece il profilo qualitativo è stato eliminato per cui l'affidamento si può fare con questa modalità laddove sussista la condizione dell'importo come soglia indicata dal codice quindi soltanto un limite quantitativo senza che adesso entriamo troppo nei dettagli di questi spostamenti dei limiti è un limite di 20.000 poi passando a 40.000 euro poi per i lavori pubblici a 150.000 per i servizi prima 75.000 adesso 139.000 il dato qual è il dato formale che noi parliamo di affidamenti per i quali la lettura dell'articolo 36 attuale formale prevede ancora come soglia 40.000 euro temporaneamente questa tecnica normativa anche essa molto nuova cioè non la modifica di un codice ma l'introduzione di un regime normativo temporaneo ha previsto che per quanto riguarda questi affidamenti la soglia soprattutto per servizi e forniture fosse temporaneamente elevata a 139.000 euro o è stata fino a 75.000 fino a qualche mese fa adesso è 139.000 euro una soglia ovviamente di temporanea applicazione temporanea ma doveva essere un anno siamo fino al 2023 diciamo che in questo momento storico questa è la soglia affidamento diretto e procedura negoziata sono due modelli procedimentali che distinzione c'è tra questi due modelli che purtroppo però nella prassi in alcuni casi vengono impropriamente diciamo così sovrapposti o addirittura confusi in quanto noi decidiamo di procedere mediante affidamento diretto però richiediamo offerte e questo modus agendi può creare poi delle anomalie procedimentali soprattutto delle incertezze operative tecnicamente l'affidamento diretto non è una procedura selettiva tecnicamente non lo è quindi ontologicamente l'affidamento diretto è lo strumento con il quale l'amministrazione individua un operatore economico con cui contrarre è la deroga per eccellenza perché non c'è proprio minima competizione seppur l'affidamento diretto viene preceduto ordinariamente da indagini di mercato tuttavia l'indagini di mercato risponde a un altro Lazio non è a tutela della concorrenza perché per tutelare la concorrenza dovremmo fissare delle regole precise rigorose puntuali non gestibili in modo discrezionale se dobbiamo tutelare la concorrenza dobbiamo fissare le regole e applicarle in modo rigido altrimenti diventa un'attività più arbitraria o comunque ampiamente discrezionale l'affidamento diretto quindi non è una procedura competitiva lo è la procedura negoziata procedura negoziata con bando o senza bando quello che noi applichiamo perché l'articolo 36 richiama l'articolo 63 che è quello che abbiamo trattato poco prima della pausa in quel caso la procedura negoziata senza bando comporta una competizione tra gli operatori economici e perché ovviamente anche voi lo sapete benissimo perché è una procedura in deroga perché la GAR non è una competizione tra operatori economici qui la deroga sta nel fatto che gli operatori economici sono scelti dall'amministrazione procedente cioè non sono non si candida chiunque ma può partecipare soltanto chi è invitato quindi lì la discrezionalità sta nell'invito agli operatori rispetto a una gara aperta dove in quel caso anche l'invito non è possibile e partecipa a qualunque soggetto interessato le due procedure sono distinte tanto è vero che il codice nell'articolo 36 comma 2 distingue lettere e lettere b e le due procedure però e questo è un elemento sottolineato nonostante gli incrementi delle soglie come già il precedente governo quando ha presentato il decreto semplificazione ha avuto modo di precisare il comma 1 rimane immutato cioè nell'articolo 36 sono cambiate le linea cioè nell'articolo 36 comma 2 lettere a b c e d rispetto agli importi per i lavori chiedere a 10 ditte 15 ditte ma quello che però è rimasto immutato è il comma 1 il quale ci dice che questi tipi di affidamenti per quanto siano affidamenti caratterizzati da semplificazione questo è un microsistema come se il codice a un certo punto avessi detto per questi importi che sono sotto soglia comunitaria per i quali quindi la direttiva comunitaria non è vincolante indiretta perché sopra soglia la direttiva va recepita integralmente sotto soglia c'è da parte dell'amministrazione procedente anche dallo Stato membro un margine di ricepimento che può essere anche fatto con modalità applicative diverse fermo restanti i principi della contrattualistica pubblica però l'articolo 36,2 richiama il comma 1 o meglio successivo al comma 1 dove viene ancora scolpito questo che questi affidamenti devono avvenire rispetto dell'articolo 30,1 dell'articolo 34 e 42 nonché nel rispetto del principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti quindi nell'articolo 36,1 si dice questi affidamenti sono discrezionali ampiamente discrezionali ma non sono arbitrari quali sono quindi i principi che dobbiamo attenzionare questo lo farei anche in zede di controllo quando andiamo a verificare le determini perché questo dovrebbe essere perché vedete questo tipo di affidamento al di là del fatto che è semplificato visti gli importi oggi non mi nascondo che io quando vado a confrontarmi con molti colleghi o vostri colleghi c'è un elemento di ansia c'è chi lo vive con massi addirittura io posso fare quello che voglio ma c'è invece chi è più cauto e dice ma se io faccio l'affidamento di un lavoro ad una ditta e gli do 140.000 euro di affidamento e a un certo punto pubblicata determina qualunque cittadino che non segue la normativa di settore non sa di queste evoluzioni ordinamentari o la legge in ottica diversa dice quelli sono amici oppure fa subito la segnalazione la contestazione in consiglio comunale mi fanno interrogazione è vista talmente con ansia che a un certo punto si dice io per garantirmi faccio comunque una procedura competitiva ma non mi rascondo che io in molte realtà amministrative trovo per affidamento anche i 30.000 euro la richiesta comunque di procedura negoziata con me ma con tre offerte perché dire io nel momento in cui chiedo tre offerte poi alla fine nessuno può dirmi che sono stato impropriamente elastico cioè l'ansia di poter essere censurati come comportamento fa sì che si rigidisca la procedura addirittura arrivando all'effetto opposto che la norma vuole cioè se il legislatore ha previsto una norma di semplificazione per dire vedi puoi procedere anche con questi importi elevati per fare subito e presto quest'ansia che deriva da un modello svilito fa sì che si proceda lentamente cioè si vada a pesantire una procedura con un effetto ancora più grave laddove noi dovessimo irrigidire anche i requisiti oggi pomeriggio lo vedremo e questo è un momento cruciale cioè per questi affidamenti rispetto alla tipologia di requisiti che noi possiamo prevedere negli atti di gara che sono di quattro tipi o no? idoneità morale idoneità professionale capacità economica e capacità tecnica oggi si soffermeremo su tutte e quattro gli ultimi due sono eventuali cioè possiamo chiederle e non chiederle quello che è importante sono i requisiti morali e l'idoneità professionale però non possiamo chiedere la SOA per un lavoro di 60.000 euro perché non è obbligatoria così come non possiamo chiedere non dobbiamo o meglio non è obbligatoria la richiesta di servizi analoghi di fatturato analogo per affidamenti di minore importo però proprio in questa metodologia o metodica diciamo si di rigidimento noi spesso chiediamo requisiti di capacità anche per affidamenti di minore importo per essere più sicuri e più garantisti appassioniamo gara che invece potrebbe essere celebrata in modo semplificato qual è allora un punto il mio auspicio qual è oggi? di darvi un modello procedimentale che vi faccia se ce l'ha qualcuno superare l'ansia ma non rinunciare alla speditezza che la norma ci consente una cosa vi consiglio non mistifichiamo le procedure perché l'errore è peggiore o non le confondiamo quando noi facciamo un affidamento diretto e facciamo un'indagine di mercato tutto al più chiediamo preventivi ma non chiediamo offerte perché se noi chiediamo offerte l'offerta va presentata con un modello procedimentale rigoroso l'offerta va caricata tramite una piattaforma in busta chiusa va aperta tutto insieme nomina una commissione l'indagine di mercato invece questo non lo impone però se noi chiediamo offerte nella richiesta diciamo vincerà chi fa l'offerta migliore il prezzo più basso allora a questo punto è una procedimentale negoziata seppur impropriamente gestita come affidamento diretto però il rischio un proprio qual è? che questa procedimentale non segue le regole della procedimentale negoziata e quindi si utilizza un po' dell'uno e un po' dell'altro e questa è la cosa che poi di fatto crea più complessi anche la criticità è difficile gestirla dice io ho avuto questo problema come devo fare? ma se noi applichiamo un modello che non esiste normativamente anche il paradigma di riferimento sarà difficile da individuare e allora vediamo quali sono i principi che noi dobbiamo rispettare se andiamo avanti con la slide successiva va bene questo è il linguaggio che usa il MEPA però andiamo avanti perché abbiamo parecchie cose da dire la slide successiva qual è? allora le soglie vabbè queste sono anche le soglie però andiamo veloce perché sono cose che voi sapete bene quindi vediamo i principi generali allora per questi affidamenti come sapete c'è la scelta discrezionale o la slide comunque quella di prima vado velocemente perché sono slide abbastanza chiare su argomenti che non hanno una particolare criticità il criterio di scelta laddove dovessimo fare una negoziata competitiva per questi affidamenti può essere l'offerta economicamente più vantaggiosa o il prezzo più basso sono posti in posizione di equivalenza mentre per gli affidamenti sopra soglia prevale l'offerta economicamente più vantaggiosa potendo utilizzare il criterio del prezzo più basso sono in ipotesi tassativamente individuate e comunque da motivare gli unici appalti che non possono essere affidati con il prezzo più basso sono servizi di architettura e ingegneria servizi ad alta intensità di mano d'opera servizi di ristorazione assistenza pensiamo all'assistenza socio-sanitaria in questo caso prevale comunque sempre l'offerta economicamente più vantaggiosa però per tutti gli altri sono equivalenti quindi posso scegliere l'uno o l'altro non devo motivare se invece vado ad affidare un lavoro un servizio sopra soglia di importo superiore alla soglia comunitaria qualora dovessi scegliere il criterio del prezzo più basso c'è l'obbligo di motivazione vedete io proprio ho seguito direttamente un contenzioso in consiglio di stato tale consiglio di stato in cui la stazione appaltante ha perso perché aveva individuato il criterio del prezzo più basso senza motivare non perché non si potesse fare ma mancava la motivazione vedete come è formale poi il codice il paradosso che chi ha fatto ricorso l'uscente il quale aveva interesse a continuare la gestione del servizio ha partecipato ha perso e ha impugnato gli atti di gara il consiglio di stato in quel caso ha detto non si doveva impugnare il bando perché non era immediatamente preclusivo si deve impugnare il bando insieme alla giudica quindi quello ha partecipato alla gara ha perso dopo che ha perso ha impugnato tutto l'effetto è stato travolgere tutto e rimanere a gestire il servizio è stato accolto il ricorso perché non aveva motivato la scelta del criterio del prezzo più basso non perché non si potesse applicare l'appalto riguardava i servizi sostitutivi che ha fatto un ente di trasporto su rotaie a Napoli i servizi sostitutivi di trasporto con autobus nel caso in cui ci fosse un'interruzione della linea quindi servizi eventuali sostitutivi non aveva motivato il criterio del prezzo più basso tutto annullato perché non c'era motivazione invece sotto soglia posso scegliere uno o l'altro il RUP non deve e chi adotta la determina contro non deve dire perché l'ha scelto però veniamo ai principi e questo è il momento più importante siete carichi tonici che cosa devo attenzionare quando faccio questi affidamenti soprattutto l'affidamento diretto perché la determina di affidamento diretto che può essere addirittura un atto unico l'articolo 32 del codice ci dice negli affidamenti diretti invece di avere due determini determini di indizione determini di aggiudicazione possiamo avere un atto unico in cui facciamo tutte e due le cose insieme quali sono i profili motivazionali che dobbiamo attenzionare qui abbiamo individuato i criteri i profili sono gli elementi di alert cioè quando andiamo a leggere queste determine sono i profili da cui possono emergere potenziali criticità giustiziabili non solo dinanzi al TAR perché molto spesso dinanzi al TAR forse è la sede di minore contestazione perché poi chi è che può fare il ricorso al TAR in caso di affidamenti diretti io affido al collega lui può fare il ricorso all'affidamento diretti dovrebbe dire avrei vinto io è un ricorso praticamente inammissibile gli altri profili sono più pericolosi tant'è vero che nella rassegna che poi vi ho dato voi troverete molte decisioni della corte dei conti oppure interventi dell'ANAC cioè sono altri profili da cui possono emergere elementi di criticità per cui la nostra esigenza oggi qual è? non di appesantirla la procedura tanto meno di aggravarla ma di porre attenzione su questi aspetti così che quando facciamo l'affidamento al di là delle contestazioni delle segnalazioni di quant'altro noi possiamo irrobustire quel provvedimento abbiamo messo alcuni principi economicità efficace dotazione conflitti di interesse potenziali cioè quando scriviamo la data noi scriviamo comune di Agropoli i responsabili del settore visti gli atti di programmazione visti e considerati che l'affidamento di questa prestazione riguarda un importo che si pone al di sotto della soglia ex articolo 36 nel testo oggi vigente poi dovremmo scrivere qualcosa quando iniziamo a scrivere considerato che quello è l'elemento cruciale considerato che è quello che un magistrato legge o no tutta la premessa storica riferimenti normativi tutte le citazioni diciamo così i richiami io vedo nelle termine citazioni anche delle prime leggi sulla contrattualistica pubblica nel 1865 è vero che abbiamo una tradizione storico culturale infinita però alla fine rispetto per le tradizioni nessuno lo contesta questo però la cosa più importante considerato che e io strutturerei la determina in questo modo come la immagino considerato che a per quanto concerne l'economicità perché uno dei problemi dell'affidamento diretto è il rispetto del principio di economicità perché si pone per gli affidamenti diretto questo principio perché non facendosi competizione noi rischiamo di pagare un prezzo pieno tant'è vero che le sentenze che poi leggiamo della Corte dei Conti nella rassegna che vedremo dopo che potete vedere autonomamente tanti file quando la Corte dei Conti è intervenuto per alcuni affidamenti ha detto ma tu non hai fatto l'affidamento diretto non hai fatto nel minimo di indagine e hai pagato un prezzo troppo elevato e questo crea danno all'erario perché anche le checklist negli affidamenti diretti dicono ma hai chiesto qualche preventivo perché le linee guida ANAC e tutto questo ci deriva dalle linee guida ANAC numero 4 del 2016 come aggiornata nel 2018 le quali quando parlano degli affidamenti diretti dicono bisogna attenzionare una serie di modelli procedimentali una serie di buone pratiche la prima per l'economicità la prima non in ordine di importanza la prima in ordine di trattazione per l'economicità se tu affidi se tu affidi ad un additto un lavoro di 140.000 euro qual è il rischio che tu prendi il computometrico o no prendi il pezzetto regionale calcoli i valori gli fai l'affidamento quello ti fa un ribasso del 2-3% 1% come fai a dire che il prezzo è congruo questo è il vero rischio che ho rischio di pagare 140.000 euro un lavoro che invece facendo un'attività negoziale comparativa con un 30% di sconto quello potrebbe addirittura l'amministrazione avere un ribasso di 40.000 euro e allora dice la l'anilia guidana che è anche la giusprudenza devi fare un'indagine di mercato qual è il modello per fare l'indagine di mercato? la migliore pratica sono i preventivi ma non è l'unica la seconda pratica può essere quella della ricerca in rete la terza pratica quella della verifica di prezzi standard o costi standard per esempio la richiesta di preventivi è la migliore pratica ma non è l'unica cioè non è che dobbiamo per forza sempre chiedere preventivi ma un esempio continuo e noi per esempio con le scuole io seguo anche i dirigenti scolastici per le attività negoziali con le scuole certe volte noi andiamo con un motore di ricerca e vediamo contratti simili che hanno fatto altre scuole pure senza preventivi quali sono i prezzi che comunemente si applicano se noi abbiamo affidato un lavoro della stessa oggi uno oggi tre e abbiamo fatto una gara e abbiamo affidato con il 30% di basso una gara aperta se facciamo un affidamento diretto e in quell'occasione noi spuntiamo lo stesso prezzo di fatto in quell'ipotesi noi possiamo dire che il prezzo è congruo vedete il preventivo non è una censura di legittimità cioè non è che una ditta potrebbe che poi non è che vai dinanzi al tar ma sul bene infungibile abbiamo detto che in quel caso l'infungibilità è tale che non c'è proprio competizione bene quindi su quella prestazione noi possiamo applicare non conviene il 36 conviene il 63 l'articolo 63 che ci dice non è utile che fare tutto non è utile che fare indagini di mercato ulteriore perché se quello è il bene però lì l'istruttore deve essere fatta prima sull'infungibilità è importante che venga ad essere garantita una motivazione qui il problema è se non dovessi chiedere i preventivi parliamo di un modo pratico io non chiedi i preventivi e faccio un affidamento diretto chi è che può contestare questo? un operatore economico che eventualmente opera nel settore? l'operatore economico che opera nel settore potrebbe lamentarsi del fatto che non c'erano i presupposti dell'affidamento diretto ma non del fatto che non ho chiesti i preventivi la richiesta di preventivi che profilo tutela? non la concorrenza ma l'economicità per cui non è l'altro operatore economico che può lamentarsi l'altra ditta che potrebbe fare i lavori perché nel momento in cui ci sono i presupposti per l'affidamento diretto l'altra ditta non è legittimata chi si può lamentare è un organo di controllo un revisore la Corte dei Conti qualcuno che potrebbe dire la tua azione ha determinato un dare irrariale perché hai pagato troppo una delle sentenze che voi trovate nella rassegna riguarda una pronuncia della Corte dei Conti di Lombardia il caso eclatante ha avuto una sua annotazione molto diffusa che ha condannato i dirigenti di Expo 2015 i dirigenti che avevano gestito l'esposizione universale a Milano nel 2015 perché nell'acquistare gli elementi di arredo dei padiglioni avevano acquistato piante pantine tutti gli elementi ornamentali pagando il prezzo di listino la Corte dei Conti dice dall'audit dal controllo fatto dalla verifica fatta dalle consultazioni fatte e anche da due precedenti affidamenti si è visto che quel prezzo di listino veniva commercializzato quel bene comunemente con un 40% di ribasso per la differenza tu sei condannato a risarcire il danno erario allora lì non è un problema di tutela della concorrenza lì è un problema di economicità e allora quando noi dobbiamo affidare un lavoro di 140.000 euro dobbiamo chiederci come giustifichiamo che il prezzo che andiamo a pagare è il prezzo congruo molti rispondono l'importante è che rispettiamo il prezzario oppure per gli incarichi di progettazione o i servizi di architettura e ingegneria sia rispettiamo il tariffario ministeriale ma il problema qual è? che siccome quei valori sono ribassabili non possiamo dire siccome sono allineati il prezzo è congruo il prezzo è congruo quando è frutto di un affidamento per il quale noi paghiamo un prezzo che comunemente si paga la congruità non è un'attestazione di miglior prezzo perché per sapere qual è il miglior prezzo dovremmo fare la gara dovremmo dire che paghiamo un prezzo che si pone in linea con gli altri pezzi che si pagano in quel contesto storico e soprattutto in quel momento e per cui la tipologia di prestazione e allora la richiesta di preventive è la cosa migliore però la richiesta di preventivi come deve essere fatta? seguitemi vedete se condividete questo la richiesta è così a chi la dobbiamo fare? anche a chi la dobbiamo fare la norma ci dice no meglio la do le linee guida ANAC chiedere i preventivi preferibilmente due o tre la norma addirittura dice anche senza l'obbligo di chiedere i preventivi per dire che si può fare anche in altro modo ma non significa che è vietato o non dobbiamo farlo la richiesta di preventivi si fa ad imprese che operano nel settore come le scegliamo? discrezionalmente voi direte ma non facciamo una selezione no possiamo scegliere a tre amici nostri certo il vero problema è che la prima procedura può essere fatta con tre nostri amici tre ditte di fiducia e poi c'è il principio di rotazione che viene dopo cioè l'ordinamento deve trovare dei pesi e contrapesi tanto è vero che la rotazione e su cui parleremo di qui a breve dice è il contrapeso all'ampia discrezionalità il contrapeso se tu fai una scelta iniziale senza discrezionalità fai una gara non c'è la rotazione se invece scegli arbitrariamente c'è la rotazione più è discrezionale più vale la rotazione perché è il contrapeso mi seguite e allora scelgo chiedo preventivi come si chiede il preventivo? io scriverei così spettabile ditta premesso che la scrivente stazione appaltante intende procedere all'affidamento di questa prestazione bene e quindi specificiamo che tipologia di contratto e che l'importo è tale da ricondurla all'applicabilità dell'affidamento diretto si chiede a Codesti Impresa si chiede a Codesti Impresa di formulare seguitemi la sua migliore proposta perché l'equivoco sta quando scriviamo l'offerta la sua migliore proposta si precisa si precisa vedete il passaggio ulteriore si precisa sin da ora che la scelta verrà fatta dallo scrivente sarà fatta in modo discrezionale ma motivato perché l'altro equivoco quando noi scriviamo sarà affidato a chi formula il prezzo più basso se scriviamo così diventa un criterio di gara e quindi il dubbio viene o no ma come l'hai chiesto prima a lui e poi a lui si capisce che lui ha vinto gliel'hai chiesto dopo mi seguite allora noi dobbiamo evidenziare che quella non è una competizione quella è un'indagine di mercato questa indagine che io faccio la faccio per sapere quali condizioni mi propone il mercato in quel determinato momento e allora il preventivo mi serve per dire io affido a questo valore potendo alla fine anche dire non voglio affidarla a nessuno dei tre bene quindi l'economicità richiesta di preventivi ovvero indagine di mercato se noi sappiamo che il comune alfa ha fatto un affidamento similare tre mesi fa relativamente a questo importo con una competizione aperta addirittura con una gara europea e ha spuntato quel ribasso quella competizione io posso anche dire utilizzo quel parametro per dire che l'affidamento che faccio io è concro quello che è importante che vi dico è che ci deve essere un documento di appoggio va bene non ci vuole necessariamente una competizione una gara l'importante è allegarla dei termini di affidamento un documento a cui posso io fare riferimento per dire il perso che sto pagando io si allinea con quelli molti che fanno prendono a campione 4-5 affidamenti dicono affida un prezzo medio di questo per esempio in regione Umbria con alcuni appalti che hanno riguardato la ricostruzione post-sismica la regione aveva dato pure un indirizzo per dire per quanto riguarda i servizi di progettazione architettura se voi applicate il 30% del tariffario si stima congruo cioè noi dobbiamo avere un indirizzo dobbiamo dire il prezzo congruo questa motivazione non ci serve per proteggerci dagli impugnativi dinanzi al tariffario cerchiamo di capire questa cosa perché qui non stiamo ledendo la concorrenza perché la lesione alla concorrenza di fatto ce la prevede già la norma che dice puoi fare l'affidamento diretto qui dobbiamo proteggerci dinanzi a contestazioni possibili dalle quali possono emergere profili di danno erariale chiaro questo come si fa l'indagine di mercato possiamo scegliere noi discrezionalmente l'importante è che quando stabiliamo quel prezzo diciamo che il prezzo è congruo io porto come esempio che poi è uno degli esempi che mi ha toccato di più un comune delle frusinate che doveva individuare il canile dove ricoverare i cani e che fa il responsabile del settore individua il canile prossimo al comune lo individua direttamente l'importo era apparentemente all'inizio modesto poi in verità le proroghe ne hanno incrementato il valore e sa individua un prezzo a cane ricoverato quotidianamente pari a 3 euro e qualcosa pubblica da termine di affidamento perché tutti gli atti vanno pubblicati su amministrazione trasparente il quisque dei popoli cioè uno che se mi salva mi salva chissà con quale finalità ma non ci interessa fa la comparazione dice ma come è possibile che gli altri comuni attivi signori tipo Collefer Paliano Bopilla Ernica hanno pagato per lo stesso canile un prezzo che è quasi la metà o più basso fa l'esposta alla corte dei conti che scrive al segretario comunale dice fai la relazione e chiedi anche a RUP come ha individuato quel prezzo perché è un prezzo che rispetto agli altri a quelli di mercato è significativamente più ampio vedete non è un problema che dice vabbè è un euro è un euro moltiplicato per cane moltiplicato per il periodo e poi i conti iniziano e quello risponde dicendo ma è un affidamento diretto il vero problema è che non è se c'è un presupposto dell'affidamento diretto qui il problema è il danno e la reale la congruità del prezzo e allora per alleggerire la vostra posizione se fate affidamento certo affidamento di 2000 euro non ha senso quello che stiamo dicendo il regolamento di attuazione del codice già predisposto non ancora varato dice sotto 5000 euro come se fosse addirittura un'ultima soglia dove non c'è nemmeno l'obbligo del MEP sotto 5000 euro non c'è bisogno di motivazione per dire che è talmente basso l'importo che anche il profilo di danno e la reale è rilevante ma anche se dovessimo acquistare 6 computer 7 computer possiamo pure evitare l'indagine di mercato mi seguite perché lì la rotazione è importante per fare in modo che si eviti che ci sia un vantaggio una rendita di posizione del mercato però per questi importi è anche possibile un affidamento non preceduto da una gravosa indagine di mercato quando qualcuno dice ma due preventivi o tre vedete la norma non vi dà un dirizzo vingolante perché se la norma fosse vingolante allora saremmo in un'attività vingolante io chiederei due preventivi per affidamenti fino a 10-12 mila euro ne chiederei tre quando il valore inizia a diventare più significativo cioè più preventivi chiediamo e meglio è affidare la congruità ma molti dicono e come scegliamo la ditta da invitare la norma non ce l'impone possiamo scegliere liberamente abbiamo un elenco consultiamo un elenco scegliamo gli operatori a cui abbiamo fatto sono stati fatti affidamenti vicino anzi se io so che il comune di Capaccio ha fatto un affidamento di un lavoro a una ditta che sta facendo i lavori è meglio significa già fatti i controlli sotto certi aspetti mi semplifica la procedura mi seguite perché poi nell'affidamento diretto dobbiamo comunque fare i controlli vedete il tempo per il preventivo non è fissato in modo normativo posso assegnare 5 giorni 7 giorni 15 giorni certo se assegno 48 ore per leggersi un computometrico articolato diventa più ingestibile noi alla fine la congruità del termine non necessariamente allora il problema qual è allora il problema qual è dipende la motivazione per dirle un esempio lei dice una cosa non dipende una gara no non dipende una gara perché la gara è quando noi stabiliamo dall'inizio i parametri noi chiediamo alla proposta più la migliore proposta noi l'abbiamo fatto con delle reti di scuole recentemente comune capofile se se no 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 seguitemi il problema è la proposta migliore che non è sempre il prezzo ma non perché esce la proposta peggiore chiariamo bene quello che dico per farvi un esempio pratico giusto per cercare di allinearci con una rete di scuole capofila scuola di mandaloni un convinto nazionale abbiamo fatto gli acquisti di computer anzi di lim con apparecchiature informatiche prezzo di acquisto quasi 40.000 euro che è una rete di scuola abbiamo chiesto preventivi con la formula che ho detto prima fateci la migliore proposta sono arrivati tre i preventivi uno che prevedeva facciamo riferimento al singolo computer senza gli importi uno per un singolo computer ci chiedeva 650 euro con quelle caratteristiche minime come da scheda tecnica legato ovviamente devi dare delle caratteristiche minime altrimenti pure l'indagine un altro ci ha chiesto 890 euro un altro invece ci ha chiesto 720 725 però quindi ci ha chiesto 725 ha detto io ti offro il computer per ogni computer ti metto la webcam e comunque ti garantisco che per tre anni ti aggiorno e ti faccio l'assistenza e allora in questo caso che hanno deciso tutti i dirigenti scolari senza dubbio che il prezzo del primo era recessivo rispetto alla migliore qualità perché l'interesse pubblico del 720 era molto più apprezzabile i preventivi ah beh comparate che cosa no no sono due cose diverse seguitemi i preventivi vanno sicuramente esaminati e comparati che significa noi chiediamo se lui mi metta la carta se mancherebbe una volta che ce ne vengono i preventivi non è che diciamo questo lo vede e questo non lo vede che facciamo i sorteggi e ma che cosa cambia secondo lei cambia qualcosa o no per chi conosce il sistema delle gare che cambia tra quello che dice il collega no e cambia come che cosa cambia secondo voi ma allora che l'indagine di mercato serve per comparare le proposte in dubbio altrimenti che la facciamo ma che cosa cambia tecnicamente guardate non insistete perché c'è una differenza ontologica straordinaria se non la riportate significa che non conoscete bene il meccanismo nella gara con la competizione ci vuole la commissione di gara le aperture delle offerte vanno fatte secondo determinati modelli procedimentali l'offerta tecnica è divisa dall'offerta economica si devono attribuire dei punteggi sulla bassa i criteri predefiniti c'è una verifica di anomalia per uno che conosce le gare sa che queste sono le regole minime nella comparazione di preventivi per uno che conosce le gare sono queste le regole no e quindi cambia completamente ma vedete ma le richieste di preventivi le indagini di mercato non significa fare come voglio tanto è vero che la corte dei condici ma voi siete comunque una pubblica amministrazione e che sto dicendo no ma io non riesco a capire la riflessione su guardate l'affidamento diretto è un modello procedimentale semplificato semplificato il modello procedimentale semplificato non significa che siccome sono sotto soglia sono soldi miei e faccio quelle voglioni il privato può andare da un rivenditore o da un altro e scegliere in base alla simpatia ma noi siamo una pubblica amministrazione mica possiamo scegliere in base alla simpatia dobbiamo chiedere preventivi una volta chiesti i preventivi non è che possiamo dire sono tre preventivi facciamo i sorteggi tipo una tombola o no dobbiamo comparare i preventivi che cosa ci si impone essendo noi una pubblica amministrazione un provvedimento motivato vedete ma voi dovete motivare tutto o no se negate un permesso di costruire lo fate in base alla simpatia motivate o no se voi fate una richiesta o negate o disponete la giustura o l'inibitore di una scia non motivate tutti i provvedimenti vanno motivati la giudica un provvedimento e va motivato ovviamente quello che vi ho detto a monte va scritto che non fate la comparazione in base a parametri e criteri predefiniti perché diventa una gara ma se diventa una gara non è così semplice la differenza tra l'affidamento diretto e la gara non è che nell'affidamento diretto potete scegliere in base alla simpatia non è la simpatia il criterio ci mancherà noi siamo una pubblica amministrazione l'interesse pubblico va sempre ma cambia il procedimento ma è chiara questa cosa però quello che vi dico lì voi funzionate quindi se vi fare l'affidamento diretto ai primi stati di valori di mercato dobbiamo dire il minimo per i valori io vi ho detto non è io ho detto ripeto ripeto vi ho detto la richiesta però me lo ripeto perché prima ho detto un'altra cosa ma non sono stato chiaro quindi mi scusi innanzitutto ho detto la richiesta di preventivi che è la migliore pratica si valorizza a livello ordinamentale per importi che possono determinare danni erariali ho detto prima cosa quindi così come già preannunciato nel regolamento di attuazione per gli importi modesti la richiesta di preventivi può anche essere inutile perché lì lo scostamento non configura un danno erariale cioè se noi acquistiamo due computer o tre computer o i toner la cartuccia ed altro tenete conto che la differenza di 150 euro 200 euro 1000 euro non è un danno erariale se invece affidiamo un lavoro e la DIT ha un affidamento per un lavoro e facciamo un contratto di 130.000 euro quindi arriviamo verso la soglia più alta e se scrivono altri operatori o scrivi il consigliere come una liminoranza o qualcuno e dice ma qua per queste categorie di lavori se c'è un ribasso comune del 35% allora iniziamo ad avere un danno erariale di 40.000 euro vi seguite quindi è una cosa che ci dovrebbe far riflettere di più in secondo luogo io ho detto la richiesta di preventivi che è la migliore pratica ma non lo dico io lo dice la linea equidiana con 4 del 2016 e la giornata del 2018 non è l'unico modello perché accanto alla richiesta di preventivi ci sono altre modalità di indagini di mercato quali sono i costi standard per esempio noi con il dipartimento dell'università con soprattutto quelli di scienze giuridiche quando acquistiamo la carta adesso stiamo procedendo con gli accordi 4 e poi dopo faremo una riflessione sull'accordo 4 ma quando acquistavamo la carta che vedeva andavamo sul sito dell'ANAC dove ci sono i prezzi standard l'ANAC ha anche pubblicato con i cosiddetti costi standard per esempio per il materiale di cancellerie qual è il prezzo standard che si applica nelle diverse zone del territorio nazionale per cui il riaffronto con quel prezzo standard veniva ritenuto all'elemento di concluità lì non chiedevamo i preventivi quando chiedevamo la fornitura applicavamo quel costo standard ma questo per esempio in materia sanitaria le siringhe questo tutto sta vicendo non so se ricordate qualche anno fa uno scandalo in materia sanitaria che le siringhe tra una regione e l'altra d'Italia si pagavano le stesse tipologie 4-5 volte in più allora l'ANAC ha detto per alcuni interventi vi indico qual è il costo standard il prezzo standard il riferimento è un elemento di concluità oppure si fa ma questo dice pure il giudice amministrativo ricerche in rete cioè voi andate sul motore di ricerca mettete i contratti non li facciamo per esempio per le scuole per i contratti di tesoreria ma per i lavori voi potete farli se la tipologia di intervento è tale che è simile ad un'altra tipologia di interventi la ricerca in rete presuppone un'equivalenza di prestazioni per un lavoro se voi dovete appaltare un lavoro che deve questo edificio ristrutturare il tetto cambiare le porte non potete dire il lavoro è simile a quello che ha fatto il comune di Capaccio di Eboli perché ci deve essere un'equivalenza di categorie di classi nelle qualificazioni se voi però avete un lavoro similare perché casomai affidate per due scuole due tipologie di interventi identici casomai uno per 80 mila euro avete fatto una gara una competizione e poi tenete lato finanziamenti per un'altra scuola stessa categoria di interventi tipologie uguali ci dovrebbe essere una corrispondenza perché poi se c'è una diversità voi potete dire pure rispetto alla gara che ho affidato con competizione dove rispetto al prezzare c'è stato il 32% di ribasso io vado a trattare con loro due lui mi fa il 32% di affidaventamento e che ci sta di male ma sicuramente ma sicuramente sicuramente però questo non giusto ma vedete qui non parliamo tenete conto di una cosa qui non parliamo di criteri meccanici questo voglio farvi capire non è un criterio meccanico qui è un criterio motivazionale ovviamente se per un milione quello fa un ribasso maggiore e voi affidate 80.000 euro in questo caso potete anche dire che rispetto al 35% è affidato al 25% però un rigo di motivazione la differenza deriva anche dall'importo vedete il criterio io parto da questa filosofia io sono qui stamattina non per dirvi sbaradiamo tutto facciamo io vi sto secondo me è la mia finalità darvi un suggerimento pratico per irrobustire l'affidamento parliamoci chiaramente l'affidamento diretto è una semplificazione abbiamo detto però è anche un elemento di ansia perché nel fare l'affidamento diretto io ho la paura che se non faccio una cosa rigorosa se io affido al preventivo più alto ho paura o no perché se io affido al preventivo più alto allora qua arrivino i carabinieri o la corte dei comuni e allora come faccio a proteggermi con una motivazione la motivazione come deve essere certo la motivazione non è uno standard formale questo è quello che non passa nella metodologia della pubblica amministrazione la motivazione non è un preconcetto la motivazione è frutto di un istruttore e allora se la motivazione è generica io affido a lui perché è migliore allora la corte dei comuni vuole andare a venire e viene a carici migliore che significa meglio vocabolare meglio di un altro perché? non si capisce e quindi vuole collaborare alla grande come deve fare il problema è la motivazione che non deve essere apodittica la motivazione apodittica è quando io affermo una cosa senza avere l'elemento di pro e allora per dire che è migliore deve avere l'elemento documentale allora il mio suggerimento qual è? quando scegliete nel criterio di applicazione dovete scegliere un criterio che poi abbia una sua riconducibilità a un dato oggettivabile verificabile perciò chiedendo i preventivi voi avete l'elemento documentale o no però la differenza sta in questo io spero che l'abbia chiarito il fatto con la richiesta di preventivi e non la richiesta di offerta si alleggerisce la gara ma non è che lo scopo della norma è quello di dire spendete troppo inutilmente il legislatore con questa norma che poi è una cosa difficile perché ogni anno c'è una modifica di questa norma perché linee guida perché l'elemento è più attenzionato perché noi da un lato abbiamo l'esigenza di semplificare dall'altro che abbiamo l'ansia dice se semplifichi troppo c'è la corruzione ma questo si legge in tutti i documenti e allora da un lato semplifichiamo dall'altro l'anac ci stai attento e noi viviamo continuamente in queste ansie oscillanti tra di loro non è facile conciliare semplificazione e trasparenza non è facile perché se noi dovessimo dire d'amblei togliamo le regole d'altro canto quando hanno provato a diminuire quando hanno adottato i decreti di semplificazione vi ricordate si dimise il presidente dell'anac tutti scrivevano dicevano via libera alla corruzione nuova tangente l'avete letta queste cose perché dice nel momento in cui noi leviamo le soglie e togliamo le regole si apre il barco alla corruzione o no questo porta ad aumentare indagini o no ad aumentare le denunce la ditta che sta fuori non viene invitata fa l'esposto all'anac denuncia o no allora noi viviamo da un lato nella pressione con la politica che dice ma ti vuoi muovere su 100 mila euro vuoi fare questi lavori che puoi fare l'affidamento diretto o no perché la politica vuole dare risultato alla comunità dall'altro noi abbiamo l'ansia di dire gli faccio l'affidamento diretto chiama che la ditta o in una pressione arrivi a ricarabinire subito arrivi i quali compulsati da qualcuno che denuncia vengono qui acquisiscono i fascicoli poi pensate che chi li smette a studiare l'affidamento diretto in linea equidiana che la prima cosa è questa casomai questa sei misi fermi se avessimo fatto una gara europea avremmo finito prima il vero problema qual è? che quando il giudice legge le carte legge la determina se la determina è anacquata io ne vedo tantissime vedete io ne vedo visto l'articolo 36 si affida direttamente visto l'articolo 36 ma recentemente 30 mila euro tutta la vicenda che in questi giorni si è avuto pure a Salerno no no qualcosa l'avete sentito per l'affidamento di un servizio di vigilanza piazza della libertà fa un affidamento l'ingegnere capo fa l'affidamento 18 mila euro affidamento diretto se non che emerge che l'ha detto non avevi requisito perché non teneva l'autorizzazione emerge dagli indagini chissà se è vero non è vero non voglio entrare nel merito però sorge il sospetto o no sorge il sospetto sorge l'indagine e tutta la vicenda perale perché non teneva l'autorizzazione da quest'urgo per fare la vigilanza il problema è che il fatto che è un affidamento diretto non significa che quello è un affidamento anacquato questo lo riusciamo a capire non è un affidamento fiduciario spero che sia chiaro è un affidamento alleggerito però è in dubbio perché se io chiedo offerte devo nominare una commissione o no se è l'offerta economicamente più vantaggiosa devo aprire prima l'offerta tecnica dare un punteggio e poi l'offerta economica sommare i punteggi se si superano le soldi dei 4 quindi la verifica dell'anomalia o no le fate così le cari sicuramente in tutto questo ci devono essere criteri per definire quali sono i controlli poi da fare no i controlli stanno proprio alla fine i controlli oggi pomeriggio perché per dire quali sono i controlli dobbiamo dire quali sono i requisiti da controllare nell'affidamento di detti invece noi andiamo con un modello procedimentale dove acquisiti i preventivi oggi domani possiamo fare l'affidamento ci bisogna nominare la commissione no il RUP può fare tutto sì deve fare la verifica dell'anomalia no deve applicare dei criteri prestabiliti no questa è la semplificazione quella che sicuramente ma questo è in dubbio tanto è vero che oggi pomeriggio perciò vi ho detto mangiate poco oggi pomeriggio noi ci dedichiamo ai requisiti perché ripeto non significa un affidamento intero che ai principi generali di affidamento intero i requisiti è una cosa importante ma potete io più che dirvi leggete i giornali di questi giorni e vedete che sta passando un ingegnere capo di un comune anche abbastanza consistente quale è Salerno il quale con una grossa esperienza per fare un affidamento di 18 mila euro si trova con una misura cautelare perché l'affidatario non ha i requisiti di unità professionale ha fatto l'affidamento diretto ma non deve avere i requisiti ha così di che un'indagine io la conosco in verità quella persona e ne ho una grande stima quindi per dirvi come si può avere un pregiudizio perché poi alla fine si fa un affidamento diretto ma bisogna avere i requisiti è in dubbio questa cosa vedete non pensate che siccome è un affidamento diretto possiamo affidare l'armenante la progettazione quando non sa nemmeno fare un disegnino se non è scritto all'armo professionale questo è chiaro no? cerchiamo di noi abbiamo delle categorie minime che non possiamo mai passare pure con l'affidamento diretto è un microsistema di semplificazione procedimentale è chiaro no? sta cosa non voglio appesantire quindi primo profilo economicità economicità significa quando scrivete la determina poi scrivete quello che volete potete scrivere il prezzo è congruo perché l'ho detto io e vabbè oppure il prezzo è congruo perché dall'indagine di mercato emerge la congruità qual è l'indagine di mercato? abbiamo agli atti qualcosa va bene? motivazione sintetica su istruttoria congrua congrua che significa congrua? rispetto al prezzo cioè più arriviamo a 140.000 più c'è il rischio dell'indagine patrimoniale o no? e allora io lì sarei un po' più attento per i minori importi la congruità può anche essere ho visto che cosa ha fatto Laureana Cilento ha acquistato i computer lo limbo i microfoni sei mesi fa ha pagato questo prezzo io pago un prezzo similare perché stiamo a 5.000 euro ma voi non siete vincolati nel momento in cui vedete che uno scrive follie non lo pensate proprio e chiedete a un altro mi ricordo vedete un comune della provincia di Avellino io sta cosa l'ho trattata anche dove un dirigente della provincia disse una cosa che sembrava folle tutti hanno riso ma poi alla fine nessuno gli ha dato torto per un incarico di progettazione chiese tre preventivi e siamo noi preventivi e affidò a un quarto cioè quelle chiese tre preventivi facendo scannacchi di tre poi chiamiamo a un quarto e faccio l'affidamento a te utilizzando come quelli come parametro disse che aveva applicato la rotazione nessuno l'ha impugnato notine contestazioni denunce cose non è successo assolutamente nulla che ha detto? ma nell'affidamento però vedete noi poi ci lamentiamo che ci sono le regole perché noi siamo i primi a pensare in modo patologico no cioè quando parliamo degli affidamenti diretti noi siamo i primi ad avere il sospetto poi non ci dobbiamo lamentare che l'ordinamento quando legge le nostre carte le leggo con l'ottica del sospetto perché noi siamo i primi se noi chiediamo i preventivi questo prima a lui poi a lui e lo chiedo ieri l'ho chiesto a lui stamattina a lui a lui lo chiedo domani e lui vince voi che pensate? che a lui ho detto i loro prezzi noi pensiamo così il nostro paese è fatto così noi abbiamo questa cultura del sospetto che nel nostro ordinamento è intrisa allora siccome è così poi non possiamo lamentarci del fatto che siccome è così non ci sono le regole perché noi pensiamo però qual è il contrappeso? l'ordinamento comunitario ha detto tu puoi favorare così perché è indubbio nell'affidamento direttamente inutile ci siamo guardate io non vi dico le esperienze ormai sono anni che faccio questa cosa io ho visto preventivi che provenivano da ditte similare cioè la stessa ditta che aveva ramide aziende ha presentato 5 preventivi il RUP se piate che di 5 preventivi era la stessa ditta praticamente una volta a un corso per vice consigliere di prefettura a Roma trovai una ragazza che era la più brava del corso quando trattavamo questo argomento questi alzò disse ma veramente è un reato presentare più offerte alla stessa gara io fino a prima del concorso lavoravo in un'azienda il mio compito era per ogni gara fare 4 offerte cioè io tengo le carte intestate di 4 ditte e su quella gara faccio 4 offerte cioè quello è un modus di agire e allora noi ragioniamo così noi dobbiamo avere agli atti 3 preventivi poi c'è chi lo fa con una discrezionalità nella funzione pubblica e dire 3 preventivi seri per garantire l'interesse pubblico chi lo fa in modo malandrino che si fa portare da quella ditta 3 preventivi con nomi diversi preferibilmente e poi aggiudica il preventivo di quella ditta che è il preventivo ovviamente miglioro no se ce lo porto tant'è vero che dice il regolamento il preventivo si può chiedere anche in modo informale mi seguite e questo differenzia dalla gara sicuramente quindi non possiamo dire che sono uguali alle gara dire una cosa questa è tecnicamente una show kids cioè la gara presuppone un'offerta che viene trasmessa non a mezzo PEC ma caricata su una piattaforma perché anche l'offerta a mezzo PEC è sbagliata perché la PEC può essere letta prima quindi la gara mediante piattaforma con sistema informatizzato una piattaforma che garantisce la marcatura dell'offerta prima e l'apertura contestualmente invece i preventivi si possono consegnare brevi mano possono consegnare con un'email non c'è niente di male l'importante che alla fine e come fa l'ordinamento a proteggersi da una gestione così arbitraria con il principio di rotazione l'efficacia l'abbiamo trattata prima già è il divieto di artificioso frazionamento non possiamo fare un affidamento parziale cui poi si rende necessario un nuovo affidamento aggiuntivo questa è l'efficacia e tecnicamente l'idoneità dell'atto a raggiungere lo scopo ma è il primo paragrafo dell'iniquidiana che dice voi se avete una programmazione avete programmato un lavoro non è che ne affidate una parte e poi si rende necessario il completamento perché così se quella parte in aggiunta fa superare la soglia avete raggiunto la soglia ma è talmente evidente l'altro principio è quello della rotazione la rotazione sancisce il divieto di rivolgersi a chi già è stato beneficiario prima la rotazione risponde da tutta una serie di valori tanto è vero che un articolo che ho fatto qualche tempo fa sono gratuiti non è che mi sto facendo scrissi in principio è la rotazione perché la rotazione tutela la concorrenza almeno nell'auspicio comunitario perché la rotazione evita la rendita di posizione noi in passato le avevamo io quando ne ho viste quella è l'impresa di fiducia dell'amministrazione o il tecnico di fiducia del sindaco no io ho seguito delle procedure mi ricordo una volta lo facevamo ovvero un comune si chiama Barcellona Pozzo di Gotto dove un tecnico aveva avuto nell'arco di 5 anni una decina di affidamenti diretti dopodiché fece una gara la città metropolitana di Messina e lui vinse come curriculum perché aveva tutta una serie di affidamenti ma tutti diretti tanto è vero che poi il dirigente che poi era come si chiama la figlia Caponnetto che era la figlia di a un certo punto disse ma io non posso dare premio a uno che ne è mai fatta una gara praticamente quindi levocò l'intero affidamento di una gara aperta dove il suo vantaggio derivava da tutti gli affidamenti diretti mi seguite come come è diversa l'ottica allora la rendita di posizione l'affidamento diretto evita che ci sia una troppo un'amicizia consolidata dice per cui quando poi il rapporto si consolida nel tempo di fatto cadono le barriere all'imparzialità queste sono argomentazioni date da diversi giudici ed è il contrappeso alla discrezionalità per cui se ho chiesto i preventivi e li ho scelti arbitrariamente a loro tre e a lui glielo ho chiesto oggi dopo gli altri due ho fatto l'operazione a favore del mio amico certo con le richieste i preventivi il prezzo comunque deve essere un prezzo congruo quindi comunque lui deve fare un prezzo più basso degli altri due e comunque dice anche il decreto semplificazione garantendo anche a livello territoriale una diversità territoriale ancora più quando si chiedono offerte ma quando se a lui glielo ho chiesto per ultimo è avuto il beneficio la seconda volta non può averlo e fino a quando non lo può avere e qui entriamo in un altro settore magmatico c'è chi dice almeno deve passare l'anno c'è chi dice ogni settimana è tipo vaccino stanno facendo la stessa tecnica ogni sei mesi poi ci ammettiamo dei richiami noi siamo abituati a ragionare così dice di fatto dice la giusprudenza fintando che sussistono documentate alternative per cui se io ho nel settore dei lavori pubblici con categorie oggi 1 oggi 3 ma qua per tornare alla ditta che ha avuto l'affidamento a voi gli girano negli ingarichi di progettazione gli ingarichi tecnici e come facciamo a dire allo stesso competitore due volte dopo un anno o entro l'anno ma poi vedete non dipende dagli uffici dipende dal comune quindi se l'affidamento l'ha fatto il settore tecnico non è che il settore lavori pubblici o il settore patrimonio dici ma io non ci ho mai fatto l'affidamento la rotazione riguarda l'ente almeno linea generale certo però ci sono prestazioni diverse pensiamo all'auto officine dove riparare i mezzi e una volta se mettiamo che nel comune qui ce ne sono due perché poi non è un problema quante ce ne sono quanto ce ne sono per contrarre con la pubblica amministrazione quindi se ce ne dovesse essere due e uno non ha i requisiti perché casomai è un locale abusivo non baga le tasse noi ci rivolgiamo all'altro se non ci sono alternativi ci possiamo rivolgere un'altra volta all'altro ovviamente se deroghiamo alla rotazione dobbiamo motivare se non deroghiamo possiamo anche non motivare cioè se ci rivolgiamo a un altro non dobbiamo dire perché non scegliamo quello di prima è anche vero che la giurisprudenza ci dà qualche elemento elastico ci dice se tu però fai per esempio una gara aperta oppure una procedura negoziata aperta come dice il MEPA cioè rivolgi l'invito a tutti quelli che stanno in quel settore merceologico non metti filtri perché se tu metti i filtri e dici li invitiamo 5 o ne chiamiamo 3 o 2 e allora tu non puoi dare la scienza sempre allo stesso ma se inviti tutti indifferentemente a questo punto non c'è un problema di rotazione mi seguite cioè è un criterio tendenzialmente rigido ma non è un criterio inderogabile quando lo deroghiamo dobbiamo motivare il perché lo facciamo per evitare rendita di posizione per evitare che ci sia un rapporto troppo confidenziale per evitare che l'uscente sia sempre avvantaggiato e questo è un altro degli elementi però la rotazione vedete ormai io vi dico solo questo se voi derogate la rotazione il vostro affidamento è tendenzialmente impugnabile se voi non derogate il vostro affidamento è solito quindi uno fa una scelta o no? dice vabbè io voglio un'altra volta la ditta Maiorino perché è una ditta seria però devi trovare una motivazione solida se non la trovi c'è il rischio che lui che non ha avuto l'affidamento lo impugni vi è chiaro questo? il paradosso però sapete qual è? che pur essendo un affidamento diretto semplificato pur essendo caratterizzato un procedimento semplificato noi rischiamo l'impugnativo al TAR è il paradosso peggiore cioè pur essendo un affidamento senza gara noi rischiamo di rendere un impugnabile e questo è quello che io non concepisco perché così poi si bloccano veramente gli interventi per ragioni che non sono motivate la rotazione cioè non c'è proprio dubbio la rotazione può anche comportare un danno apparentemente un maggior costo allora tenete conto io ho seguito carincella relator una sentenza di novembre 2019 un appalto che riguardava la concessione la gestione dei servizi cimiteriali un caso emblematico proprio che io ho seguito proprio direttamente anche con la scuola superiore manifestazione di interesse rispondono sette ditte il comune invita tutte e sette proprio nella massima trasparenza invita tutte e sette vince una delle ne partecipano due vince l'uscente che aveva fatto il 45% di ribasso il secondo l'altro concorrente fa il 27% di ribasso il secondo fa ricorso al TAR TAR è consiglio di Stato consiglio di Stato sentenza di novembre 2019 dice l'uscente deve essere tenuto fuori perché essendo l'uscente avendo lui gestito i servizi è avvantaggiato quindi è meno male che condividete questo tiene tenuto fuori allora la sua domanda ma a questo punto l'ente che danno ha ha un danno sicuro ha un danno paga di più è vero che a livello comunitario si dice ma non vedere il micro affidamento tu devi vedere il mercato con l'affidamento al nuovo il nuovo si qualifica e diventa un altro competitore aumentando la concorrenza si favorisce il mercato però praticamente il comune paga di più cioè per il comune guardate che concorrenza paga di più quindi è evidente questo è un caso che paga di più per quel servizio a livello di macroeconomia dovrebbe pagare di meno il sistema cioè il dato è visto in quest'ottica però paradossalmente è vero che nel singolo caso ci può essere un maggiore onere quindi principio di economicità efficace quindi io scriverei nel redigere la determina considerato che per quanto concerne l'efficacia la prestazione riguarda l'intervento così come programmato oppure un lotto funzionale quindi non c'è stato artificioso frazionamento quello ci dobbiamo preoccupare perché l'ottica dell'ANAC ma anche nelle checklist ma l'importo è frutto di artificioso frazionamento cioè quella prestazione che affidi è quello che ti serve o hai ridotto l'importo per fare l'affidamento diretto cosa che noi facevamo comunemente prima tutti quanti noi diciamo ma 48 mila euro ma mettete sotto 40 e fare l'affidamento diretto ma era un modo ma non perché vogliamo imbrogliare perché era più semplice era più semplice e garantavamo subito la prestazione se riusciamo a mantenerci sotto perché invece di fare tre anni di affidamento facciamo due anni e mezzo sì ma se frazioniamo l'intervento e lasciamo le finestre da un altro lotto oppure cambiamo sei finestre altre tre no ma altre tre sono buono oppure un primo piano questo rischia di essere soprattutto se poi si fa il secondo affidamento emerge l'alert del primo e questo va chiarito il problema si pone se siamo in prossimità della soglia ma se stiamo a 5 mila euro l'affidamento a 7 mila possiamo fare pure un altro di 4 mila non cambia assolutamente nulla mi seguite quindi considerato che in relazione all'efficacia l'affidamento che poniamo in essere corrisponde a quello che ci serve e a quello che abbiamo programmato in relazione all'economicità l'importo che corrispondiamo è da stimarsi congruo in virtù di queste indagini di mercato che abbiamo fatto in relazione alla rotazione l'affidamento che noi facciamo riguarda un operatore non beneficiare di altro analogo affidamento analogo è perché poi l'affidamento è diverso oppure l'abbiamo garantita la rotazione in altro modo oppure non abbiamo fatto filtri invitato tutto poi dobbiamo dire la motivazione poi c'è un altro problema un altro tema linee guida ANAC 15 del 2019 il conflitto di interesse potenziale questo è un tema che sta diventando oggi un tema di attualità perché soprattutto per gli affidamenti diretti io posso scegliere liberamente perché con la gara aperta io non ho grande discrezionità con l'affidamento diretto posso scegliere qualcuno che voglia il conflitto di interesse potenziale è un elemento che si aggiunge a quello che noi già conoscevamo il conflitto di interesse non posso fare affidamenti o provvedimenti laddove in capo a me che faccio il provvedimento sussiste una situazione di conflitto di interesse il conflitto di interesse può essere tipico e potenziale il conflitto di interesse tipico è quando io faccio un affidamento in violazione dell'articolo 7 del DPR 62 del 2013 che ci dice quel DPR c'è conflitto di interesse quando io faccio un affidamento a parenti o affini entro il quarto grado oppure c'è una grave nemicizia oppure il DPR sarebbe il codice di comportamento della pubblica amministrazione l'articolo 7 ci dice quali sono i casi di conflitto di interesse negli appalti pubblici ma anche l'articolo 6 bis della 241 a questo punto però hanno introdotto un profilo in più conflitto di interesse anche potenziale siccome questa espressione non si capiva si è chiesto un parere al Consiglio di Stato e l'ANAC ha fatto una linea guida e si è detto che significa conflitto di interesse potenziale bisogna evitare però queste cose vedete se voi vi capita di leggere ma se lo volete una pubblicazione fatta dalla Commissione Europea anch'essa 2019 ottobre 2019 che riguarda i cosiddetti tassi di errore cioè nell'utilizzo di fondi comunitari a livello di Stati membri e non solo l'Italia quali sono gli errori che maggiormente sono stati oggetto di richieste di ridestituzione di somme e oltre agli errori di mancate pubblicazioni di bandi oppure un termine per presentare le offerte ridotti uno un grande tema centrale che sembra è il conflitto di interesse potenziale dicono i commissari europei noi abbiamo disposto all'istituzione di somme in presenza di affidamenti inficiati da situazioni di conflitto di interesse potenziale quali sono i conflitti di interessi potenziali? quelle situazioni che ad oggi non sono conflitti di interesse ma che possono diventarlo per situazioni future o pregresse l'espressione che utilizza la linea guidana sono i conflitti di interesse de preterito o de futuro cioè situazioni che possono diventare conflitti di interesse o che da situazioni pregresse lo sono per fare un esempio io posso affidare la commessa a mio fratello evidentemente no posso farla a mio cugino evidentemente no ma posso farla alla fidanzata di mio cugino e qui c'è il rischio diciamo così ah certo noi possiamo pure dire vista la prassi attuale non è detto che dal fidanzamento consegui il matrimonio anzi nella maggior parte dei casi non consegui allora il proprio è vero proprio questo c'è il rischio che si sposino ma vedete voi se leggete che sono fidanzati no 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 io vi consiglio di non farlo queste cose il problema è allora io vi faccio un'altra riflessione se lei fa un affidamento alla fidanzata di suo cugino lui che cosa pensa che ci sta la linea guidana che dice state attenti che il conflitto di interesse non va a perseguire l'illecito la cosa è più seria di quanto io vi dico questo perché nell'ultima rendicontazione che abbiamo fatto con i fondi comunitari ve lo dico perché io poi l'ho vissuto per restituzione di somme ovviamente la percentuale era dal 5 al 10 in alcuni casi è stato il 25 ovvero è più clamoroso la restituzione delle somme veniva disposta non perché c'era il conflitto di interesse questa è una cosa che non riesco a trasmettere ma perché negli atti il RUP non aveva attestato l'assenza del conflitto di interesse cioè quello che voleva il commissario o il controllore non era ma è verificato che non c'è il conflitto di interesse e si dice no ma a me leggete quel che è un conflitto di interesse chi usa fondi comunitari deve entrare in quest'ottica io lo dico sempre cioè non puoi pretendere regole tue con fondi a livello comunitare che seguono determinate impostazioni nel vademecum della commissione europea per i fondi comunitari c'è addirittura nell'ultima parte gli schemi delle autocertificazioni e io vi dico gli esempi che li si portano dicono abbiamo disposto all'istituzione delle somme perché il RUP poi in base all'ordinamento si chiama anche in modo diverso aveva fatto affidamento ad un soggetto con cui era stato più volte in crociere insieme o facevano parte dello stesso circolo ricreativo della stessa associazione in direzione dello stesso partito politico e vabbè io ma non l'hai fatto come Apoli non l'hai scritti la regola io vi do l'indirizzo ma voi l'hai potuto fare ma hai immagini uno di questi paesi piccolissimi che vive nel 2000 anni o è una famiglia numerosa o è un paese o ha litigato o ha andato a scuola assieme o gioco per carcettare allora però il problema è l'abituale l'abituale rapporto ma poi vedete ma questo mica riguarda solo le gare pensate un permesso di costruire io ho avuto una vicenda per un comune del reggino reggio Calabria però lì il tal reggio Calabria disse una cosa molto illuminante disse è vero che quelli anzi erano amici di scuola impugnati da un terzo perché poi l'impugnativo l'hanno fatto un terzo chi li profusca gli ho vicini gli impugnò i permessi di costruire ma chi l'ha dato un permessi di costruire a lui qui li stanno in scuola insieme portò la fotografia disse il giudice amministrativo gli ha permessi di costruire è un atto vincolato quello non è che gli ha dato un favore ha visto i parametri edilizio urbanistici si poteva rilasciare quindi l'eventuale conflitto di interesse potenziale è rilevante allora se voi fate una competizione rigorosa il problema non si pone proprio il vero problema si pone quando lo chiamate direttamente gli fate l'affidamento e questo affidamento che gli fate casomai senza preventivi senza elementi allora i problemi sono de futuro e de pretendo certo va conosciuto il problema si pone maggiormente nelle realtà locali ma lì la situazione diventa di conflitto quando è marcata la vicenda cioè è ben nota ovviamente in quel caso uno può prevenire dicendo io avevo un elenco un albo ho fatto una rotazione ho fatto un torteggio più metodologie oggettive di sono e meglio è ma voi pensate il de preterito cioè deriva dal passato qua nella linea guida ANAC dice in virtù di frequentazioni scolastiche e voi tenete conto che in piccoli comuni come voi dite tra la scuola elementare la scuola media o superiore l'hanno fatto ovviamente sono indirizzi vedete la linea guida non è una norma va bene perché se fosse stata una legge e avesse detto frequentazioni scolastiche era vincolante l'articolo 7 del codice di comportamento questo è un indirizzo per cui giusto un esempio che cosa tende a prevenire fenomeni che noi purtroppo abbiamo avuto perché dei casi sono io e Francesco stiamo nello stesso studio tecnico abbiamo collaborazioni professionali insieme abbiamo addirittura un'associazione professionale dopo di che Francesco partecipa a un avviso ex 110 del comune diventi responsabile dell'ufficio lavori pubblici mi affida un incarico di progettazione lei che cosa pensa? che pensa? vedete non è inutile che noi giriamo la norma e facciamo i filosofi perché sono follie quelle cose che dicono apparentemente però il dato tracciabile lo abbiamo lei la prima cosa che pensa la cultura delle sospette che l'affidamento non sia un affidamento fatto per valori ma perché stavano nello stesso studio insieme anzi lei che è molto più acuta e incisiva dice chi lo studia non è ancora formalmente deve sciogliere il vincolo perché ha avuto l'articolo 110 ma sostanzialmente collaborano ancora stanno sempre insieme ma anzi che il pomeriggio dopo che scende dal comune va allo studio o no ma scrivono così guardate io abito a Cava di Tire non è che non sono in un altro mondo ne siamo vicini quindi i problemi ma vi assicuro che da Cormonzi in Friuli o a Gibellina nel Valle del Belice come si chiama tu l'hai frequentato o no? quei posti ogni età sono pensieri che sono comuni non è che sono cose che si pensano qua non si pensano in altra parte quindi il conflitto di interesse potenziale è uno strumento per prevenire l'illecito non è uno strumento di sanzione perché nessuno vi sta condannando se voi fate l'affidamento al fidanzato di vostro cugino no al fidanzato scusate alla fidanzato del cugino vabbè tecnicamente alla linea guida non lo penso ma noi mai siamo europeisti in questo ci mancherebbe venne un commissario europeo dice noi siamo andati avanti l'abbiamo tolto ci mancherebbe lo stesso sesso noi stiamo avanti queste sono belle risposte che mi favre quando venne un danese un norvegese che pensa che stavamo al meridione d'Europa quando allora l'affidamento fatto non è un illecito cioè non è che rischiamo una condanna a livello però di affidamento c'è uno strumento che deve operare in un'ottica preventiva vabbè adesso è stato un po' alleggerito perché l'abuso d'ufficio dice la violazione di norme o regolamenti qui sarebbe una violazione di una linea guida no no regolamento ci sta in materia di concorsi pubblici è stato tolto il problema dell'amicizia Facebook se fosse un presupposto che è compatibile ma regolamento non è regolamento ma la chitarra ha detto che l'amicizia non va bene l'amicizia Facebook ma non è detto che non diventi più rigoroso cioè il problema è che noi dobbiamo partire dell'ottica però per farci un ricorso al tale si fece uno che l'ha sollevato allora io vi dico questo non entrare nel merito ovviamente sono valutazioni che noi facciamo il problema si si pone quando noi esercitiamo al massimo la discrezionalità bene là ci dobbiamo preoccupare ma se noi facciamo una procedura che ha un rigore formale per esempio chiediamo offerte compariamo offerte facciamo competizione sono dieci ditte invitate lì il fidanzato era la cugina diciamo così è un problema più svilito il problema si pone se gli diamo un affidamento di 140 mila euro in via diretta e lì il problema potrebbe emergere cioè iniziamo a vedete ma io non ho scritto l'articolo 36 con Maduro per farà cortesi di tornare indietro io mica l'ho scritto io l'articolo 36 che abbiamo visto prima è giusto un po' più sopra dovrebbe essere ecco qua dice l'affidamento di questi in via diretta avvengono nei rispetti dei principi l'articolo 42 è il conflitto di interesse potenziale ed è diventato almeno importante che hanno fatto in linea guida ANAC per dire vi dico che non è il conflitto di interesse è il conflitto di interesse potenziale c'è una situazione che può diventare conflitto di interesse ovviamente tutto questo ci può far ridere ci può far sospettare io vi do solo un consiglio quando utilizzate al massimo la discrezionalità state attenti così come dovete stare attenti quando utilizzate fonti comunitari perché poi è un danno per l'entio un comune che deve restituire una somma lì il tasso di errore è parametrato dal 5 al 25% a secondo della possibilità di far emergere quella situazione della conoscibilità dell'attendibilità però se dovesse emergere quel dato rischia di essere di restituire una somma ma vi dico anche però non sono parole mie le argomentazioni fatte nei provvedimenti spesso la restituzione è la mancata attestazione dell'assenza di conflitto di interesse non il conflitto di interesse che è tutta un'altra cosa o no? chiaro il dato ci sono domande? sì nel caso opposto cioè nel caso in cui ci sia inimicizia nei confronti più dei partecipati e lì già c'è l'articolo 7 già c'è l'articolo la grave inimicizia si deve ma non lo dice questo la lo dice l'articolo 7 del DPR 61 del 2013 tenete conto che se questa circostanza emerge al momento dell'affidamento è peggio ancora perché c'è il rischio che la ditta debba essere cacciata fuori vabbè il problema è quando c'è il rapporto quando c'è le inimicizie mi astengo vabbè però se dovesse per esempio celebrarsi una gara e poi dalla gara emerge quando andiamo a fare i controlli che il direttore tecnico noi abbiamo avuto un problema recentemente che il direttore tecnico di una società era un ah meglio che il direttore tecnico di quella società o meglio che il RUP era stato aveva svolto attività di consulenza per conto di quella società in passato aveva fatto più perizie anche tecniche di parte ma dovrebbe essere un bravo come lo sai e in quel caso TAR e Consiglio di Stato hanno annullato la giudicazione anzi lì quel consorio è un consorcio dopo la giudica ha annullato la giudica perché è emerso questo dato io non volevo andare nel merito però voi sapete già l'episodio quindi è emerso dopo è annullata la giudicazione va bene perché è un conflitto di interesse vedete però non ci scherziamo questi categori vi sono annullamenti anzi il vero problema per la società sapete qual è che avendo dichiarato in serie di contattori che non aveva rapporti qui l'è stata dichiarata il mentale c'è la dichiarazione cioè la cosa grave non è tanta che ha perso la giudica e che viene fatta la segnalazione all'ANAC che ha avuto il procedimento per l'annotazione mi seguite sono problemi ma noi l'affidamento diretto è un strumento semplice ma perché ci mi ha impenagato in questa situazione se sappiamo che c'è un potenziale conflitto di interesse preferibilmente asteniamoci così come un conflitto di interesse situazioni che potrebbero non essere Tar Piemonte l'affidamento fatto per la vendita di un immobile l'acquisto dell'immobile viene fatto a favore del tecnico del comune che operava in un altro settore quella ha partecipato con una società all'acquisto e ha vinto comune dell'Umbria tutta questione che io ho seguito vendita di un bosco pensi che è un bosco l'acquirente il padre del sindaco quando leggete questa cosa vi viene il sospetto che c'è qualcuno però può darsi che non c'è nessun elemento di illecito però nella prassi c'è il sospetto se vedete le linee guidiane hanno delle espressioni anche simpatiche dice il principio che vale è il principio della moglie di Cesare la moglie di Cesare non solo deve essere pura ma deve essere al di sopra di ogni sospetto perché la moglie di Cesare ma è un principio che deriva dall'ordinamento romano figuratevi se adesso lo possiamo sfinire andiamo avanti no no torniamo alle tre allora principi di rotazione ma lui doveva fare una domanda qual è la domanda ha i controlli anticipato quello non può venire oggi pomeriggio avete capito faccia la domanda per oggi pomeriggio no la cosa bella è che Gio al Bar mi ha fatto la domanda che riguardava questo cioè anticipa gli argomenti no mi ha fatto la domanda sui controlli che hanno fatto oggi pomeriggio che mi chiede l'affidamento diretto determina a contrarre e procedura informale indagine di mercato abbiamo detto e aggiudicazione come verifica dei requisiti oppure può essere l'atto unico o no determina a contrarre e determina le aggiudicazioni di solito quando fa gli affidamenti diretti però anche lì c'è la motivazione sui requisiti e sui presupposti per l'affidamento diretto bene poi la procedura negoziata la procedura negoziata abbiamo detto che è una vera e propria competizione seppur semplificata c'è la determina a contrarre dove si danno i presupposti della procedura lì l'elemento critico qual è? che è attenzionato dall'ANAC l'individuazione dei soggetti da invitare perché è una competizione lì stretta agli invitati e allora l'ANAC pone l'attenzione e dice ma come gli scegliete gli invitati? qual è il sistema? i criteri come sapete sono due o no? elenco e indagine di mercato l'elenco è uno strumento che noi in passato utilizzavamo di più vi devo essere sincero nelle prassi girando adesso gli enti vedo che gli elenchi gli albi di fiducia perché già la parola fiducia fa preoccupare gli albi o l'elenco delle imprese di fiducia mi sembra che è una prassi che si sta abbandonando sempre di più perché si abbandona? perché leggendo le linee guida che diventano appesantimento perché l'elenco deve essere sempre aperto costantemente aggiornato ma poi noi dovremmo con l'elenco andare a verificare se i requisiti sono mantenuti se sono di fatto per tenere quell'elenco dovremmo ogni sei mesi casomai chiedere il casellare giudiziale verificare la regola dei contributi ma serve ancora questa cosa noi abbiamo elenchi ufficiali molto più solidi per esempio il casellario ANAC nelle sezioni di accesso diffuso pubblico consente di accedere alle imprese che hanno la SOA sapendo qual è la classifica e la categoria abbiamo le white list abbiamo l'elenco delle ditte che sono accreditate dal mercato elettronico o no che bisogno c'è di costituire un elenco e fare l'elenco e l'ufficio si mette a tenere l'elenco perché poi il problema dell'elenco qual è? un membro è troppo buono ma uno può fare filtri sezioni territoriali nel momento in cui noi andiamo a avere questo elenco e soprattutto poi lo pubblichiamo la difficoltà è che quando poi invitiamo quelli e scegliamo nell'elenco se è una short list come nelle frasi certe volte con poche ditte rischiamo che si rendano conoscibili gli invitati vedete nelle persone negoziate c'è un errore che non dobbiamo fare perché l'articolo 53 del codice dice che è un reato penale non dobbiamo rendere noti i nominativi degli invitati nel momento in cui noi attingiamo dall'elenco e diciamo invitiamo quelli dell'elenco del comune l'elenco è pubblicato ne sono 12 o 10 diciamo tutti quelli dell'elenco abbiamo reso noti gli invitati allora tenete conto che le linee guida ANAC dice il certeggio deve essere anonimo è pubblico no e tanto è vero che quando si fa il sorteggio c'è la sua riflessione come si fa a garantire la pubblicità del sorteggio l'anonimato dei sorteggiati non sorteggiando il nominativo ma sorteggiando numeri di protocollo ma così facciamo comunemente proprio recentemente in un comune del Potentino nel fare i sorteggi si è sorteggiato il nominativo è vero che era presente solo un operatore non c'erano gli altri però una volta che poi si è spartito gli inviti è arrivato subito l'esposto anonimo il segretario comunale ha consigliato di annullare tutto quindi un errore non dobbiamo fare è quello di invitare operatori scelti arbitrariamente perché la scelta arbitraria degli operatori è l'elemento di censurabilità non possiamo dire che abbiamo invitati cinque cioè non è soltanto il numero degli invitati a proteggerli ma anche come li abbiamo scelti tant'è vero che lo stesso decreto semplificazione dice garantendo un criterio territoriale che però non significa lo stesso comune è tutto al contrario perché più sono distanti da loro e meno si conoscono cioè questa è la razza della norma appare evidente quindi garantendo una diversità territoriale per fare in modo che non ci siano collegamenti tra le ditte apparentemente poi il mercato può essere sano o meno ci sono territori del paese dove è sano territori dove potete fare una gara europea partecipa sempre uno solo e ne ho visti tanti di ipotici ma com'è possibile con questi valori gara europea partecipa uno solo ma non dipende dal comune là il comune può fare tutti gli sforzi che vuole ma evidentemente il mercato non è sano o meglio quella fetta di operatori economici allora dobbiamo fare o scegliamo da un elenco e quindi quando scegliamo da un elenco o scegliamo i primi cinque poi gli altri oppure facciamo il sorteggio ma vedete il MEPA voi l'avete mai utilizzato il random generation cioè fate fare il sorteggio dal MEPA è il sistema secondo me più lineare più pulito più semplice o no? non ne siete convinti molti lo contestano dice vabbè il MEPA nell'applicare l'algoritmo sceglie sempre quelli che non sono stati scelti prima quindi apparentemente i più scarsi ma non è proprio sempre così perché poi se è un sorteggio è il sorteggio dall'inizio alla fine quindi non è che è sempre più scarsi però vedete sono criteri ma questo vi semplifica la vita più che fare l'eventuale manifestazione di interesse o scegliete da un elenco oppure pubblicate un avviso un avviso di manifestazione di interesse vi arrivano le candidature e voi scegliete chi invitare la scelta può essere invitare tutti oppure invitare alcuni se voi invitate tutti il problema non si pone se voi invitate alcuni dovete sorteggiare chi invitare c'è chi applica io vi dico qual è la prassi poi chi applica criteri rigorosi prassi per me non preferibile ma applicabile cioè in base al fatturato chi è più solido però io una volta l'ho seguito per la Vigenzi l'associazione per i comuni del Bresciano e lì abbiamo avuto una gara prima della gara perché si applicava il fatturato quale fatturato in quale periodo questo secondo me è un appesantimento la cosa migliore è anche qui fare un sorteggio tra quelli che si sono proposti oppure invitare tutti però scegliere il criterio del fatturato ma anche con un altro criterio di generale che è di un interesse lo so però vedete voi quando scegliamo il fatturato non possiamo dire diciamo così dobbiamo per forza invitare le piccole imprese noi dobbiamo scegliere un criterio oggettivo potrebbe essere discutibile però anche scegliere per esempio chi ha svolto il servizio analogo può essere un criterio discretivo perché va a premiare chi già ha lavorato però è comunque un criterio che risponde all'interesse pubblico non lo vedo così perché poi quella impresa non può essere invitata un'altra volta anche qui negli inviti bisogna saltare almeno un invito questo lo dicono le linee guida ANAC c'era chi diceva una volta invitato non può essere invitato più c'era invece chi diceva ma dobbiamo evitare di invitare chi ha vinto non di invitare gli invitati che non hanno vinto le linee guida ANAC danno un indirizzo e dice chi ha avuto l'invito la prossima volta non deve essere invitato deve saltare almeno un invito va bene vedete io vi do le prassi io non so quali prassi voi quale prassi eseguite come scegliete le ditte da invitare fate sempre le manifestazioni però vedete la manifestazione significa pubblicare almeno 15 giorni o no sperando che rispondano 5 o il numero minimo per i lavori pubblici 10 o 15 o no dobbiamo riaprire i termini quello è proprio perché la norma dice invitarne dove dice invitarne almeno 5 o invitarne almeno 10 ditte o 15 ditte perciò vi dico se noi invece vediamo sull'elenco delle ditte che hanno la SOA sulla base dell'elenco dell'ANAC e noi individuiamo le ditte che hanno quella SOA con quella categoria anche garantendo una diversità territoriale le invitiamo noi abbiamo semplificato facendo il sorteggio tra quell'elenco cioè noi risparmiamo 15 giorni manifestazione di interesse adesso con una scuola d'alberghiero di Battipaglia per dei laboratori di idroponica abbiamo chiesto alla Camera di Commercio quali erano le ditte che operavano in quel settore merceologico vabbè ma tu nel momento in cui hai invitato dei soggetti hai utilizzato da quell'elenco la seconda volta se dovessi sorteggiare quello non lo metti oppure lo cancelli già prima cioè io non vedo grandi proprietà quella è una procedura semplificata però se noi ci rivolgiamo a ditte che hanno la SOAC per quella categoria o per quell'importo o li sorteggiamo oppure facciamo la gara aperta non è che poi possiamo dire nella gara aperta non puoi partecipare se quelli hanno la SOAC con quella classifica con quella categoria le dobbiamo invitare per forza quindi si presume che abbiano la qualità però vedete noi dobbiamo da un lato favorire un criterio di qualità ma dall'altro non possiamo nemmeno agire poi troppo arbitrariamente il dato oggettivo è cercare di avere un numero minimo di soggetti invitati non scelti fiduciariamente cioè per questa procedura il rischio potrebbe essere ci impugnano la procedura perché li abbiamo scelti arbitrariamente ci impugnano la procedura perché abbiamo scelto un soggetto già invitato prima oppure ci impugnano la procedura perché la scelta l'abbiamo fatto seppur avvalido in una restazione di interesse ma non garantendo l'anonimato degli invitati e questo in verità è pure addirittura un reato dice l'articolo 53 del codice dei contratti pubblici quindi cerchiamo se noi attenzioniamo questi profili la manifestazione va avanti però la manifestazione non è detta che sia la cosa migliore perché comunque ci vogliono 15-20 giorni se andiamo di fretta possiamo anche attingere dai lenghi ufficiali che già esistono e quindi evitare la manifestazione di interesse io almeno la penso così per esempio la CUC aria nolana per esempio qui aderiscono una morena di comuni ha fatto tutta una serie di albi per cui quando il comune deve invitare chiede alla CUC quella centrale unica di committenza per i più comuni di fare loro hanno l'algoritmo per cui invitano quelli che non sono stati invitati da comuni della stessa CUC quindi addirittura è più ampio non è che lo stesso comune la comuni della stessa CUC invita quelli che non sono stati già invitati in precedenza però sono tutti sistemi che non hanno criticità bene perché noi dobbiamo garantire l'alternanza delle possibilità poi determina a contraria intuazione spedizione della lettera d'invito la procedura negoziata prevede una selezione prevede l'aggiudicazione il controllo sui requisiti l'avvio della prestazione l'esecuzione l'attestazione conclusiva queste sono cose noi abbiamo messo di epilogativo ma che dovete sapere già tranquillamente poi se andiamo velocemente vediamo che ci sta di nuovo ma la determina a contraria questo è il contenuto del minimo della determina a contraria ve le lascio le slide se avete qualcosa poi possiamo vedere con calma come si consulta gli invitati o in elenchi o manifestazione di interesse principio di rotazione salvo motivazione sorteggio pubblico e anonimo degli operatori che viene dopo la lettera d'invito questo è un contenuto minimo della lettera d'invito e l'ultimo che ripetiamo per il secondo voi l'avete avuto queste slide quindi le potete tranquillamente poi consultare allora ci vuole un'autocertificazione dei requisiti di solito il DGUE è quello che è più completo perché richiama tutti i requisiti dell'articolo 80 quindi preferibilmente noi se lo adattiamo anche alle procedure di affidamento mediante le procedure negoziate la cosa è migliore altrimenti dovremmo utilizzare un'autocertificazione esaustiva come il DGUE ma non è il motivo di esclusione il mancato utilizzo dello stesso ma il motivo di esclusione è la mancata risposta ad uno dei requisiti quella avrebbe addirittura un'altra finalità di semplificazione nel momento in cui si sovrappone allo stesso quindi significa che richiamo tutti quei requisiti però il DGUE avrebbe un'altra funzione quello di elaborarlo in modo informatico cioè una volta che entra in una banca dati l'operatore può dire vedi che è lo stesso che ti ho già prodotto non è cambiato nulla la riforma del decreto semplificazione la riforma più seria è quella di creare la banca dati dei contraenti pubblici se dovesse entrare in micro sta cosa semplificheremo spedite la lettera di video questo è il contenuto c'è il seggio di gara se il prezzo più basso la gara viene fatta da RUP in presenza di due testimoni tenete conto che con le gare informatiche con le piattaforme anche il problema dei testimoni sta diventando un problema secondario perché il testimone serviva per attestare che le operazioni venivano svolte in quel momento se la piattaforma rende tutto tracciabile anche la presenza dei testimoni diciamo non diventa più un primo motivo di impugnazione addirittura si discuteva se i testimoni erano membri di commissione oppure no è pacifico che i testimoni possono cambiare continuamente possono avere categorie e qualificazioni diverse la commissione di gara evidentemente deve rispondere la commissione nel caso dell'offerta economicamente più vantaggiosa e perciò sto dicendo già che normativamente la norma non è cambiata perché quelli sono verbali i verbali richiamano le norme sul notariato dove prevede che il verbale si fa con presenza di testimoni tenete conto che però con le procedure informatiche dove è tutto tracciabile l'assenza di testimoni che prima era un alert come motivo di impugnazione oggi di fatto potrebbero non esserlo più l'offerta economicamente più vantaggiosa presuppone una commissione quali sono i principi ordinamentari sulla commissione errori da non commettere perché rendono impugnabile un'attività ampiamente discrezionale la commissione è un collegio amministrativo significa che deve essere composto a un numero dispare di soggetti poi è un collegio perfetto devono essere tutti presenti altrimenti non si può decidere la presenza di due commissari su tre non rende operabile il collegio cioè il collegio funziona quando ci sono tutti il principio del plenum se manca non è come in a delibri giunto di consigli dove c'è il quorum qui il quorum è il plenum se manca qualcuno l'organismo non può funzionare se fanno attività diciamo così meramente marginale sicuramente mandiamo l'offerta a distanza il problema è il giudizio cioè la necessità di ammettere valutare le decisioni rilevanti in quel caso la collegia di te è fondamentale collegi di esperti un altro motivo di impugnazione continua nella commissione non ci sono esperti dice la giustprudenza fortunatamente ma vedete la differenza a livello di commissione europea devono essere tutti esperti noi per esempio la regione campana abbiamo avuto un problema relativamente ai fondi nel settore agricoltura perché non erano cinque esperti agronomi e periti come commissari il nostro consiglio il nostro giudice amministrativo dice l'importante è che ci sia la prevalenza di esperti o comunque ci sia una figura esperienziale perché le esperienze possono anche diciamo così rendersi comparabili o tra di loro diciamo così integrabili per cui se c'è il segretario comunale e c'è l'ingegnere l'importante è che c'è l'esperto non è che se c'è l'amministrativo è tutto illegittimo perché ci vogliono tutti ingegneri sono esperienze che si intrecciano tra di loro certo un'esperienza che non deriva solo dal dato curriculare ma anche dal fatto che si è occupato di quel settore però è uno dei motivi di impugnazione perciò dico stiamo attenti a questo profilo poi il collegio è un collegio postumo ho scritto postumo non significa non è che è una brutta cosa ci do postumorte postumo nel senso di dire che va nominato dopo la scadenza del termine di presentazione delle offerte noi abbiamo avuto anche qui un caso sempre dove è stata disposta l'istituzione delle somme perché un'amministrazione regionale aveva bandito una gara anzi finanziamenti su cinque lotti arrivano proposte su quattro lotti sul lotto non arriva nessuna proposta la regione nomina la commissione uguale per tutti e cinque lotti riapre i termini per il quinto lotto arrivano le offerte in sete di controllo hanno dovuto restituire i soldi del quinto lotto perché in quel caso la commissione era precedente alla domanda di partecipazione perché in caso di apertura del termine va differita la nomina sono cose che sapete perciò vado velocemente ma mica vi sto confondendo le idee intervenite velocemente le incompatibilità il vero problema giurisprudenziale è la presenza del gruppo in commissione è un altro problema che è attenzionato continuamente la giurisprudenza sta alleggerendo questo che leggendo il codice sembrava un'incompatibilità assoluta dice chiunque fa parte del vecchio codice dicevi i componenti versi dal presidente quindi ci poteva stare il dirigente il responsabile i componenti devono essere puri della gara cioè non soggetti influenzati da quella gara oggi dice tutti i componenti quindi si pone un problema della presenza del gruppo che già ha svolto attività così come il problema del progettista che non può stare in commissione non devono avere svolto già attività relativa a quella gara la giurisprudenza alleggerisce un po' l'incompatibilità dice però chi contesta questo vizio deve dare la prova vedete come diventa difficile che la presenza del gruppo abbia potuto alterare gli esiti della gara e mica è facile cioè vabbè io potrei dare la prova se dovessi dire il gruppo ha fissato come criteri criteri molto ampi cioè 30 punti alla qualità 30 punti a migliorie senza specificare di che cosa debbano riguardare allora con questo margine poi si è messo pure in commissione e addirittura insieme a lui c'è un altro dipendente che è un suo subordinato questo comporta una deviazione dell'esito della gara però diventa una prova difficile ovviamente se il gruppo non fa parte della commissione è un elemento che svilisce la contestazione se fa parte della commissione è un possibile motivo di impugnazione non che la causa sia persa però vi esponete alla contestazione di chi perde bene questo solo vi rappresenta discrezionalità tecnica e giustiziabilità cioè le valutazioni che fa la commissione sono sottratte al sindacato giustiziale il giudice amministrativo può contestare il giudizio che dà la commissione soltanto se è manifestamente illogico ma non può dire invece di 12 punti meritava 14 il giudice su questo non entra proprio così come anche la verifica dell'anomalia la verifica dell'anomalia come sapete è un giudizio globale e sintetico non è la caccia all'errore di una singola voce dell'offerta è pure possibile che l'impresa quando vada a dare giustificativi riscriva le voci certo non può poi rispetto a quei valori portare un'offerta diversa se rimani mutata l'offerta e riscrive le voci il giudizio anomali può essere pure positivo può anche riscrivere i costi del personale che è indicato in senso di offerta purché però il nuovo costo non deroghi ai costi tabellari minimi quindi vedete che può rimodulare casomai voi andate a verificare le voci e dici ma come fai a mantenere l'8% dell'utile non hai considerato quest'altro costo quello riscrive e dici vabbè allora l'utile dall'8 lo porta al 4 e copre il costo questo che sembra una cosa assurda io ho avuto una volta una vicenda innanzi al Tarnapoli dove l'ha detto per tre volte ha cambiato le voci fino a quando non c'è stato l'equilibrio e dal vecchio codice adesso mentre il vecchio codice avevamo per l'anomalia un procedimento tipico no 15 giorni poi si faceva l'audizione poi si decide oggi possiamo avere un procedimento anche articolato non c'è però possiamo avere possiamo pure farla cioè un procedimento più diciamo si svincolato da canoni ordinamentali rispetto al quale poi alla fine l'importante è che l'offerta sia sostenibile anche se ci sono errori purché sia nel suo complesso sostenibile lui può ridurre le spese generali può integrarle può dire questo costo non è sbagliato lo posso rivedere diversamente può rimodulare l'offerta anche rispetto alle singole voci che inizialmente ha ipotizzato però quanti costi della sicurezza e vabbè costi della sicurezza che ha indicato quello significa che le ha sostenuti già il costo del personale il costo del personale non è che non può modificare se ha indicato un costo del personale nell'offerta può anche dire ok ho messo di più ti vado a ricalcolare secondo il personale impiegato certo se quel costo che indica poi non rispetti i minimi tabellari in quel caso non è sostenibile perché dicevo a questo punto per dare la congruità dell'offerta devi derogare al costo del personale che non sono derogabili però per far capire che lo giudizio è connotato discrezionata tecnica il giudizio di congruità anzi si dice se la commissione o il RUP quando valuta l'anomalia prende atto delle giustificazioni e dice non è anomala non c'è bisogno di motivazione la motivazione serve quando non le ritiene esaustive e la esclude lì ci vuole una dichiarazione puntuale sul perché l'offerta non è sostenibile poi che c'è più la gara come procede ma questa è una cosa che voi già fate comunemente seduta pubblica offerta documentazione amministrativa soccorso istruttorio comunicazione degli scusi a mezzo PEC poi sedute riservate per la valutazione dell'offerta tecnica poi si comunica in seduta pubblica il punteggio si attribuisce il punteggio all'offerta economica si propone l'aggiudicazione eventuale verifica dell'anomalia c'è l'aggiudicazione a vale dei controlli comunicazione dell'esito della gara eventuale stand still e poi la stipula del contratto riepiloga grossomodo cosa che voi già fate quotidianamente poi le principali modifiche del decreto 76 ne voglio segnalare due ma mi sembra che stanno dopo già questa è una scheda di sintesi c'è uno nell'articolo 32 se andiamo avanti ecco qua che l'articolo 32 il contratto deve avere luogo nei 60 giorni prima era una norma di carattere acceleratore adesso dobbiamo fare il contratto né possiamo dire che non abbiamo fatto il contratto perché c'è un contenzioso pendente solo se c'è un contenzioso con sospensiva possiamo differire il contratto ma altrimenti il contratto dobbiamo farlo anche se c'è un ricorso certo se facciamo un contratto con un ricorso pendente mettiamo una clausola risolutiva cioè per evidenziare alle parti che il contratto avrà diciamo si cesserà come efficacia laddove l'impugnativa giurisprudenziale o inzitate giustiziale dovesse comportare come effetto di travolgere l'esito di quella gara poi se andiamo avanti qualche altra novità è sempre autorizzata la consegna sotto d'urgenza dei lavori vedete quello che ho detto prima anche nelle more dei controlli questa è una novità significativa perché in base al codice noi non possiamo fare l'esecuzione anticipata se non abbiamo fatto i controlli per i lavori anzi prima ho detto soltanto sopra sogno invece non è vero è sopra e sotto sogno per i lavori possiamo fare la consegna d'urgenza anche se abbiamo fatto stiamo facendo ancora i controlli solo per i lavori quindi è una norma di deroga questa qua quindi anche se non abbiamo tutt'ora possiamo iniziare i lavori ovviamente anche qui una condizione risolutiva perché di fatto laddove i controlli dovesse essere negativi si cessa il rapporto poi si possono applicare riduzioni dei termini qui si dice in questo periodo storico la riduzione dei termini pura rappresentata l'offerta è motivata in re ipsa cioè non c'è bisogno di una particolare motivazione a regime invece una motivazione l'obbligo di sovralluogo quando è strettamente necessario altrimenti non possiamo chiederlo più vediamo invece qualche altra la vita dopo allora il decreto 77 la disciplina subappalto anche se c'è la modifica all'annullamento perché riguarda sono 12 mesi e non più 18 mesi la modifica relativamente ai provvedimenti dotato dopo il silenzio ma la modifica subappalto è la cosa vediamo se c'è la slide successiva però è arrivata l'ultima slide per allargare il campo poi le soglie dell'affidamento diretto le procedure soggette da invitare in base ai importi lavori però questo possiamo dire anche sinteticamente visto che sono soglie che non sono discutibili per principio l'argomento di questo pomeriggio riguarda uno dei profili maggiormente critici nell'ambito dell'attività negoziale attiene cioè al sistema dei controlli sui requisiti dei partecipanti alla procedura di evidenza pubblica e trattiamo la tematica che è anche sotto il profilo giustiziale più controversa perché i ricorsi le impugnative tutte le questioni giudiziarie per lo più riguardano questi aspetti impugnare una gara per contestare una valutazione un punteggio è anche un'impugnativa molto difficile per una ditta cioè ottenere un vantaggio per contestando la valutazione tecnica che ha fatto una commissione è un tipo di ricorso che difficilmente può trovare accoglimento contestare invece un affidamento perché in capo all'affidatare non ci sono i requisiti è diventato un ricorso che in caso di accoglimento comporta l'espulsione dell'altro candidato ed è un tipo di contenzioso dove l'amministrazione rischia di essere soccombente perché il giudice fa una valutazione un po' più dettagliata e quindi ci occupiamo oggi di quella che sono i cosiddetti requisiti di partecipazione a gara con un focus particolare sugli articoli 80 e 83 del codice dei contratti pubblici soprattutto sull'articolo 80 che diventa è una norma centrale del sistema è una norma di un'importanza straordinaria anche perché sino anche se un privato vuole realizzare un'opera finanziando quindi un'opera pubblica la ditta che deve realizzare l'intervento deve avere i requisiti con l'articolo 80 del codice è la norma più richiamata più discussa su cui ci sono anche diverse linee qui di ANAC quindi cerchiamo di soffermarci su questi che sono i cosiddetti requisiti morali però facciamoci una domanda di carattere generale io devo scrivere un bando devo predisporre un bando una lettera d'invito nel paragrafo nella sezione requisiti di partecipazione che cosa devo scrivere? dovrei individuare i requisiti di partecipazione ma sono solo quelli di quell'articolo 80 di fatto noi potremmo dire in modo semplicistico ma soprattutto per una trattazione schematica che i requisiti sono di quattro tipi li vediamo tutti e quattro a video idoneità o capacità morale idoneità professionale capacità economico finanziaria e capacità tecnico professionale diciamo che questi sono quattro subparagrafi allora io quando scrivo un bando una lettera d'invito mi devo chiedere come devo riportarli questi requisiti di fatto dovrei richiamare tutte e quattro i subparagrafi chiariamo però subito un altro dato in modo che sgombriamo il campo d'equivoci i primi due ci vogliono sempre sono requisiti si dice indefettibili gli altri due sono eventuali per cui sugli altri due che vedremo di qui a breve il bando può essere più o meno esplicito più o meno puntuale un consiglio pratico se è un bando di minore importo questi altri due cerchiamo di non metterli provi perché più mettiamo requisiti più si appesantisce nei controlli per i lavori pubblici questi due sono accorpati nella SOA per servizi e fornitura invece sono frutto di quello che stabilisce la Lex Specialis cioè quello che abbiamo scritto negli atti di gara i requisiti con l'articolo 80 lo vedremo è importante lo vedremo comma per comma quindi per adesso andiamo avanti l'idoneità professionale è l'iscrizione nell'albo o nel registro per cui se devo fare un affidamento di incarico di progettazione il tecnico deve essere iscritto all'albo professionale in verità il giovane professionista una sentenza recentissima del Tar Salerno ha affrontato questo tema il giovane professionista è quello che fa parte del gruppo di progettazione e deve avere meno di 5 anni di iscrizione ma la domanda è dall'albo o dall'abilitazione il quinquennio si calcola dall'iscrizione all'albo o all'abilitazione perché era capitato che tra i professionisti era il comune di Ravello che ha fatto questa gara d'appalto per l'incarico di progettazione nel gruppo di progettazione c'era un giovane professionista indicato così dal gruppo dei progettisti quel giovane professionista laureato nel 96 1996 idoneo con l'idoneità conseguita penso il 97 l'anno dopo un anno e mezzo dopo si era iscritta all'albo degli avvocati all'albo degli ingegneri nel 2020 e loro dicevano il giovane professionista perché è iscritta all'albo da meno di 5 anni il secondo fa ricorso e io sono stato contento perché ci trovate di Ipurim sono più o meno della stessa età quindi sono giovane avvocato a questo punto quando votare d'avvocato poi venire il presidente giovane avvocato perché è di stessa età il secondo ha fatto ricorso al tar e il tar ha accolto il ricorso del secondo dicendo dicendo che il quinquennio per essere individuato giovane professionista va computato dal conseguimento dell'abilitazione non dall'iscrizione all'albo perché uno si può abilitare poi si iscrive quando vuole però di Ciltaro nel frattempo può maturare esperienze nell'ambito delle pubbliche amministrazioni e quindi siccome la norma tende a favorire chi è appena entrato nel mondo del lavoro va considerato il quinquennio come idoneità professionale dall'abilitazione non dall'iscrizione all'albo poi andando a vedere le carte ho visto altri affidamenti dove l'amministrazione non si è fatto problemi cioè molti vedono dall'iscrizione all'albo quindi sappiate che tecnicamente è un errore alla luce di questo orientamento però la norma parla di l'articolo 4 del DM fa riferimento al quinquennio come giovane professionista dalla laurea e abilitazione e abilitazione non parla di iscrizione all'albo quindi il quinquennio va calcolato ma questa è la sentenza dell'altro lunedì non di lunedì scorso l'altro lunedì quindi è una sentenza recentissima del Tarsaleno riguardo il comune di Ravello nell'affidamento di questo incarico di progettazione e allora l'idoneità professionale l'iscrizione all'albo o al registro di riferimento gara per i servizi di igiene urbana deve essere iscritta all'albo gestori ambientali l'albo di trasportatori per un servizio di trasporto pubblico locale iscrizione ai registri di riferimento iscrizione alla camera di commercio l'iscrizione alla camera di commercio vedete la norma quanti problemi poni questa è una normativa terribile allora io vi ho mandato ma vi ho mandato pure a loro la rassegna appalti fino a ottobre 2021 vi ho mandato c'è un file cospicuo corposo la rassegna non l'ho stampata perché era sono scontenari di pagine però ve la consiglio perché per esempio tra le altre cose sull'iscrizione all'albo che cosa si chiede quando una ditta partecipa a una gara io per vedere se quella ditta può svolgere quelle attività per conto del comune o dell'ente devo leggere che cosa il camerale devo vedere la visura camerale ma che parte della visura camerale devo leggere per vedere se può partecipare dice il giudice amministrativo non l'oggetto sociale perché l'oggetto sociale quello può fare quello che vuole ma il codice ad eco oppure l'attività svolta poi c'è incertezza su un punto e se la ditta è inattiva qua abbiamo orientamenti che dicono ma la ditta inattiva è segno che non sta operando quindi è inaffidabile per l'ente un tarlazio di qualche giorno fa che la tenete in questa rassegna dice vabbè ma l'inattività è sindomo soltanto di una vicenda temporanea ma non è detto che la ditta non abbia esperienze del settore il consiglio che però vi do è di attenzionare quando parla di iscrizione all'albo ovviamente se si tratta di professionisti all'albo e professionali ma quando si tratta di operatori economici di verificare qual è l'attività che concretamente esercita io questo tema l'ho scoperto sempre in sede processuale perché con un comune del vicino Taranto Sava si chiama San Giorgio Ionico una gara per la ristorazione e nell'affidamento di questo servizio vinse la ditta che aveva come codice Ateco ristorazione pubblica tipo pizzeria ristorante invece siccome ristorazione a favor di scuola è ristorazione collettiva il codice Ateco e il secondo fece ricorso ottenendo l'esclusione del primo perché ciò che rileva è l'attività svolta relativamente al settore che è oggetto della prestazione quindi quando io scrivo un bando io richiamerei l'articolo 80 poi lo vedremo l'articolo 80 poi secondo paragrafo l'idoneità professionale la ditta deve essere scritta in quest'alpo o iscritta alla Camera di Commercio e deve svolgere un servizio per un codice di attività analogo quindi per l'articolo 80 sì per l'articolo 83 ovviamente se sull'eventuale no pur sull'idoneità professionale se il bando è carente l'idoneità professionale non è che dipende da noi di fatto io non posso svolgere non posso firmare un progetto se non sono abilitato quindi quelle sono norme si dice che l'ordinamento pone come legislazione di settore qui le direttive comunitarie non dicono nulla perché l'ordinamento interno di uno Stato che dice per svolgere quella professione quale abilitazione ci vogliono e ovviamente se il bando non dovesse dire nulla di fatto la prestazione non può essere svolta quindi l'idoneità professionale dipende dalle singole norme di settore quando l'operatore economico è straniero c'è l'allegato 16 al codice dei contratti pubblici nell'allegato 16 al codice dei contratti ti vengono indicati quali sono gli albi che nei singoli stati membri sono equiparati al nostro camera di commercio quando non è uno Stato membro non pensa che sia pure consentita la partecipazione se l'amministrazione lo esclude perché le direttive comunitarie proteggono la libera circolazione dei lavoratori relativamente ai membri della comunità europea per gli altri per le imprese strane dovrebbe essere un'esplicita previsione comunque dovrebbe essere poi un'equipollenza che dovrebbe attestare il consolato o un altro istituto che dovrebbe dire che quel registro equivale mentre noi per lo Stato membro abbiamo previsioni che sono di per sé riconducibili al codice che dice se sono iscritti in questi albi allegato 16 allegato 16 al codice dei contratti e dice quali sono i camerali praticamente degli altri Stati membri la capacità gli altri due teniamo ancora sospeso l'articolo 80 perché è talmente importante che non possiamo svilirlo in poche battute la capacità economica e tecnico-finanziaria sono due requisiti per i quali a il bando può essere incisivo o meno incisivo dipende dalla scelta discrezionale della stazione appaltante b sono requisiti che si possono soddisfare con l'avvalimento o sono requisiti che si possono soddisfare mediante raggruppamenti temporanei con l'avvalimento noi abbiamo la possibilità che un concorrente e l'avvalimento riguarda tutta la capacità riguarda la SOA riguarda la qualità riguarda tutti i requisiti di capacità anzi per essere più chiari questi requisiti di capacità come ce li possiamo inventare noi dobbiamo scegliere da alcune opzioni le opzioni stanno legato 17 al codice dei contratti il quale ci dice la capacità economica può essere fatturato generale fatturato specifico referenze bancarie capacità tecnica mezzi attrezzature personale sedi operative servizi di punta quindi abbiamo le tipologie da cui attingere come scegliere quali scegliere con quali dimensioni perché il fatturato può essere due volte tre volte una volta e mezzo fino a due volte la legge lo consente oltre deve essere motivato come scegliere in che termini è frutto di scelte discrezionali della stazione appaltante questi requisiti di capacità che sono sbarramento però per la partecipazione sono quelli anche un po' più attenzionati perché quando noi abbiamo fatto le prime attività di analisi di questo tema qui nasce tutta la letteratura sui bandi sartoriali perché qui si possono fare parecchi giochetti c'è chi ha svolto il servizio analogo per conto del comune o di un comune di identiche dimensioni proprio quando sono stato la settimana scorsa dicevo già a Matera per un problema che riguardava un appalto il comune aveva fatto un bando dicendo è possibile partecipare se si è svolto già il servizio per un comune della stessa provincia di analoghe dimensioni solo Pisticcia e Policoro ci stanno quindi era già facile individuare i concorrenti tanto è vero che su segnalazione anche dell'ANAC io avevo consigliato di annullare il bando c'è una cosa è dire per un comune di analoghe dimensioni altra cosa un comune di analoghe dimensioni della provincia quando poi sa che in provincia ci sono altri due comuni ma un problema simile l'ho avuto anche a Belluna per un bando di un comune che si chiama Longarone che sta nel Vaiont e lì hanno avuto un problema similare perché per un appalto relativo al trasporto anche lì si parlava di un comune in analoghe dimensioni o meglio di dimensioni lì faceva difendere la popolazione fluttuante quindi l'unico comune della provincia che aveva la stessa popolazione fluttuante era Belluno quindi è l'amico tuo Sacchetta che è in sala quindi di fatto si poneva il processo così rende individuabile il partecipante quindi con la sede operativa dire avere la sede operativa nel comune o a tre chilometri dal comune la sede operativa sono tutte clausole che se diventano sbarramento sono motivi di impugnazione se sono cause attributive di punteggio è possibile ammetterli purché non diano punteggio di rimente questi requisiti devono superare tre filtri per non essere contestabili il primo la pertinenza noi chiediamo la sede operativa si giustifica per questo appalto o no secondo la congruità o proporzionalità perché quando noi chiediamo spesso la sede operativa per esempio il comune di Amalfe aveva vendito una gara per quanto riguarda la gestione dei rifiuti dice voglio una sede operativa che in verità per quanto riguarda lo spogliatoio del personale e tutto voglio che la ditta abbia questa sede operativa entro 30 km dal comune però inizialmente nel band era scritto doveva essere dichiarata al momento della domanda di partecipazione a gara e qualcuno ha detto e perché mi devi perché mi fai fittare a un locale per partecipare a una gara così è incongruo è pertinente ma è incongruo cioè mi fai sostenere un'ora in eccessivo siccome questi sono requisiti di esecuzione questi requisiti vanno dichiarati nella sede di partecipazione come impegno ad averli dopo la giudica bisogna garantirli si ragiona in questo modo altrimenti sono tutte clausole impugnabili quindi pertinenza e congruità se noi vogliamo forzare la mano dobbiamo sapere che però questa cosa è a rischio impugnativa se invece noi il problema qual è che molte ditte ma non fanno ricorsaltare ti fanno andare avanti scrivono all'ANAC e fanno la contestazione l'ANAC dice ti invita a non fare atti in contrasto quando la gara è già finita quindi significa che devi annullare per forza siccome sono errori troppo clamorosi perché sono proprio nella sensibilità dell'ANAC queste cose il fatto di prevedere requisiti di sbarramento che sono riconducibili a soggetti individuabili e allora questa è una cosa che io vi consiglio di non forzare a livello di una cosa è scrivere sempre per un comune che avevamo seguito per Molfetta era una gara per i servizi di ristorazione inizialmente aveva scritto deve avere il centro di cottura nel comune per i pasti caldi per i pasti caldi alle scuole se non che capitò che uno dei centri di cottura escluso in virtù di questa clausola aveva rispetto alla scuola perché stava a Barletta un centro di cottura praticamente prossimo alla scuola però non stava nel comune di Molfetta e il tanto è vero che poi questo esiste ma è illogico perché chi ha vinto sta tre volte la distanza dove sto io allora la razza qual è? mica è quella di favorire i siti del comune è favorire chi sta più vicino mi seguite? rischiano di essere clausole facilmente contestabili e allora capacità economica riguarda fatturato generico e specifico riguarda referenze bancarie anche sulle referenze bancarie due referenze tre referenze ma è inutile che allarghiamo perché ormai la giustizia dice ma la ditta che si è appena costituita mica può avere per forza le referenze chiediamone una anzi mettiamo gli elementi equivalenti perché diventano inutili sparramenti facilmente impugnabili oggi nell'ottica della più ampia partecipazione però le ditte hanno uno strumento in più in passato potevano fare soltanto raggruppamenti per soddisfare C e D non A e B perché A e B non è che dici io pago le tasse lui paga i contributi sarebbe una cosa non piacere noi parliamo di C e D quindi per soddisfare possono avere mettersi insieme oppure possono fare ricorso all'avvalimento che è lo strumento più complicato perché è un contratto che noi chiamiamo contratto atipico dicono i civilisti non è previsto nel codice tanto è vero che dieci anni di convegno no? che contratto è? ogni giurista noi italiani possiamo bravissimo per me è delegazione per me è mandato tutte cose in verità uno che non è poi esperto di contrattualistica privata ti da indovinare dice per me è più semplice più serio poi alla fine praticamente dice venire l'operatore sì ma che cosa cambia fino a quando poi la giurisprudenza quella più accorta che è quella che arriva quando non si capisce qual è la soluzione dice è un contratto atipico tanto è uno strumento curioso perché l'avvalimento è lo strumento attraverso il quale uno che non ha il requisito partecipa alla gara dicendo io non ce l'ho il requisito quindi è una forma di reagire anzi quella l'ottica comunitaria è proprio questa tu più aggravi C e D più quella è la possibilità di reagirare a questo aggravio il contratto di avvalimento che cos'è? è lo strumento è un contratto attraverso il quale il concorrente che però A e B va a soddisfare C e D o C o D ma addirittura anche la SO anche la qualità va a soddisfarla facendosela prestare da un terzo uno che rimane fuori tant'è vero che quando poi andiamo a fare il contratto d'appalto non è che facciamo il contratto il comune di Sapri con la ditta ausiliare facciamo il contratto con la ditta ausiliata cioè col concorrente l'ausiliare sta fuori bene dal contratto però è un garante e questo ha avuto nel nostro ordinamento una vita tormentata perché? perché noi siamo giuristi di civil law sempre un po' precisi vuoi fare l'avvalimento però o fai l'avvalimento o fai il raggruppamento non è che puoi avere due benefici o no? non è che puoi avere tutte e due le cose una dei due la corte giuristica e la commissione europea dice perché? nel dirittivo comunitario non c'è il limite uno può fare il raggruppamento si mette insieme a un altro non ce la fa e fa pure l'avvalimento bene assolutamente ammissibile poi noi abbiamo scritto nel codice se vuoi fare l'avvalimento e ti manca qualcosa per esempio tu hai un fatturato di 800 mila euro il bando vuole un fatturato di un milione puoi chiedere di 200 mila a uno solo la commissione europea ha detto e perché? si può fare pure l'avvalimento plurimo per cui? per quei 200 mila euro io chiedo a 5 di loro 40 mila euro ciascuno poi ci si è chiesti ma l'avvalimento in che cosa consiste? i soldi te li devono dare? no quello è soltanto cartolare è un documento formale con cui loro si impegnano a mettere a disposizione mia quello che mi serve ma di fatto il fatturato mica mi serve per eseguire i lavori tanto è vero si chiama avvalimento di garanzia altra domanda ma che si deve produrre in gara? quando la ditta partecipa a gara mettiamo che io sono il concorrente facciamo questo esempio e lui è il mio ausiliario io che devo portare in gara quando dico lui mi presti il fatturato mi presti i mezzi un contratto di avvalimento però e qui è il nostro piccolo errore non basta il contratto di avvalimento perché il contratto di avvalimento vincola me e lui si ma questo è un altro passaggio bene oltre al contratto tra me e lui dove lui si impegna nei miei confronti il comune da che cosa è tutelato? ci vuole tant'è vero che dice la giusprudenza accanto al contratto di avvalimento la dichiarazione di impegno cioè lui come ausiliario deve scrivere al comune e dice spettabile comune vedi che io mi impegno a mettere a disposizione di Armenante quello che gli serve per il contratto senza questa dichiarazione il contratto di avvalimento è carente altro problema perché un avvalimento noi abbiamo fatto tesilario sull'avvalimento copiato ogni tanto perché poi però se potevano fare tesilario tranquilli perché naturalmente tanti gli argomenti anche ma anche i requisiti della quotidiana di quella l'entra come anche i requisiti ma non mi può prestare i requisiti ah deve avere sì 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 ma questo è un tema che affronteremo di qui a breve sì sì non avevo capito però lui mi proprestare solo C e D quindi compresa la Sola qualità mezzi attrezzature quindi però come contratto io quando vado a fare il controllo come segretario comunale dico dove sta il contratto di avvalimento contratto in originale o copia conforme ovviamente chi viene scansionato oggi c'è ma c'è pure la dichiarazione di impegno è perché col contratto ripeto noi siamo abbiamo un concorrente che dimostra il requisito però quello è un garante nel caso in cui il concorrente è nato in piente come faccio a chiamare a lui e dice segui la prestazione e se non tengo l'impegno dice a chi ti conosce seconda cosa state attenti perché questo è una cosa ve le dico alchimie di avvocati però gli avvocati italiani sono bravi quindi su questo perciò noi ci sciomuniamo leggete il contratto di avvalimento perché un tema che si pone state attenti a quelle clausole che ne condizionano l'efficacia perché molto spesso si scrive nel contratto di avvalimento prima ci si provava di più ma ho visto un po' di meno lui mi presti il requisito però si riserva la facoltà dopo la giudica di confermare l'impegno e dice la giusprudenza ma così significa quello è un impegno claudicante quando tu lo vai a chiamare e dici vedi che la prestazione è stata fatta bene quello dice e dice ma non l'ho confermato altro problema la giusprudenza ma questo lo dicono pure gli avvocati ma per essere seri il contratto di avvalimento non può essere gratuito cioè lui perché mette a disposizione mia un milione di fatturato con la responsabilità solidale nei miei confronti possibile che lo fa gratuitamente se lo fa gratuitamente è una fessericchia e chi lo contratta e fa solo e la giusprudenza dice non può essere gratuito però è anche vero la giusprudenza dice ma non deve essere per forza previsto un onere economico bisogna capire qual è la motivazione perché può anche essere che io come membro di una società facendo parte di un gruppo voglio far crescere pure lui o lui anzi lui che è un'impresa solida vuole far crescere me per capire meglio e scusate se arriva a dire questo però perché le ditte dovrebbero fare l'avvalimento e non fare il raggruppamento non è più facile il raggruppamento perché devono utilizzare il suo strumento complicato perché perché nel raggruppamento se io e lui ci mettiamo insieme nel realizzare la prestazione abbiamo una quota o no 60 e 40 io mi piglio 600 mila euro lui 400 mila euro alla fine io mi qualifico per 600 mila lui per 400 mila con l'avvalimento io mi prendo tutto il milione di euro e mi qualifico per l'intero milione quindi se io grazie a uno che mi aiuta sono una piccola impresa appena costituita che non ho niente come curriculum nel momento in cui mi prendo un lavoro di un milione di euro io mi qualifico per un milione di euro dopo un lavoro mi seguite o no cioè col suo ausilio cresco immediatamente è uno strumento per ampliare la platea concorrente mi seguite o no qual è il dato allora però deve esserci un interesse può essere anche questo non necessariamente economico finanziario seppur l'elemento patrimoniale è un indice importante altra cosa che dovete controllare il contenuto dell'impegno ma questa è una cosa che è importante perché se leggete il codice di quello che vi sto dicendo non c'è scritto nulla quindi giusto per capire come è la difficoltà di questa materia la giurisprudenza però su tutte le cose che trovate nelle sentenze che vi ho mandato distingue tra avvalimento operativo e avvalimento di garanzia dice quando c'è lettera C quindi di quelle e quelle si è avvalimento di garanzia cioè è una specie di garanza quindi nel contratto di avvalimento basta che scriva io presto ad Armenante quello che gli serve punto quando è lettera D cioè si prestano mezzi attrezzature una volta per il comune di Ravello per una gestione di rifiuti prestarono i muli perché là in alcune zone del territorio non si può andare direttamente si deve prestare il mulo l'avvalimento la cosa bella è capire chi in udienza vuole venire il ma chi le vuole dei mezzi vogliono la targa per rendere identificabile ecco però è un contenzioso che abbiamo fatto cioè quando è avvalimento operativo si prestano mezzi attrezzature nel contratto diceva bene il collega vanno indicati mezzi attrezzature rendendoli identificabili ovviamente alcuni rigorosi tu mi devi mettere la targa del mezzo che gli presti altri dicono ma che senso ha perché una volta che presti il mezzo non lo può vendere più può venderlo tranquillamente questo mezzo l'importante è che impegni un mezzo che poi se non ha quello ne ha uno similare quindi l'importante è che indichi le caratteristiche dei mezzi o il personale che presta qual è l'inquadramento professionale io presto due operai ho presto il responsabile tecnico responsabile di cantiere cioè vi dice le figure professionali che sono oggetto di prestito deve essere un contenuto dettagliato poi vi faccio fare domande perché tengo in mente non so che cosa rischio che perdo il filo ma segnate perché sono domande importantissime quindi io quando vado a fare i controlli che cosa faccio devo controllare l'impresa concorrente e l'impresa ausiliaria perché entrambi devono avere requisiti visto che l'ausiliaria è uno che è garante del concorrente e poi si si dà la prestazione in sostituzione del concorrente questione giuridica successiva ma può la stessa impresa prestare quel mezzo a più persone a più concorrenti il nostro codice attualmente dice di no la commissione europea ci ha invitato a rivedere questa norma quello che poi è vietato ancora ma anche su questa la commissione europea ci ha già monito è l'avvalimento a cascata cioè io non ho il requisito lo chiedo a lui che se lo fa prestare da un altro mi seguito dice la commissione europea ma perché cioè vedete l'ottica comunitaria sapete qual è ma a te che te ne frega tu come comune hai messo questi requisiti l'importante è che ci siano alcuni che fanno da garante dell'esecutore ma qual è la strategia modale formale per te tu più più ausiliari hai e più sei garantito cioè la tua posizione è garantita dal fatto che concorrono più soggetti che ci sono più soggetti che sono garanti nei tuoi confronti come stazione appaltante il fatto che poi questi garanti siano garanti di un garante o siano più garanti insieme per te un dato secondario questa è l'ottica comunitaria anzi l'ottica comunitaria è proprio quasi per punirci tu più aggravi C e D e più l'avvalimento è possibile per evitare tu che con il C e D mi limiti i concorrenti io ti consenti di reagirare mi seguite non è finita qui il tema più scottante voi fate i controlli diceva giustamente il collega chi controllate il concorrente ausiliato e l'ausiliario se il concorrente ausiliato non ha i requisiti voi che fate immettiamo che il mio DURC è irregolare che fate mi cacciate fuori o no e se irregolare lui che fate se irregolare lui cioè lui è l'ausiliare lo dovete sapere non vi è mai capitato voi siete fortunati però tutti i controlli o due cose o non vi fate i controlli o siete fortunati perché se l'ausiliare non ha i requisiti mettiamo che non ha l'iscrizione camerale ha una condanna penale interdittiva antimafia voi avete a controllare l'ausiliario non scherzate a chi escludete a chi l'ausiliare quindi non è un concorrente che se ne freghi e quindi escludete me il concorrente ed è un errore evidente perché il nuovo codice dal 2016 dice non potete per i guai sui punire il concorrente e questo è quello che diciamo noi che siamo tanti bravi ragazzi ma la comunità europea dice sì ma nel momento in cui l'ho scelto mettiamo che lui aveva i requisiti e poi l'ha persi mica io posso durante una gara ma che l'ha scritto nel codice vedete io non vi sto dicendo nient'altro che la norma dice l'articolo 89 nel fare i controlli se in capo all'ausiliario dovesse emergere la carenza di requisito che devi fare devi invitare il concorrente a cambiare ausiliario dice il codice italiano seguitemi perché qua spero di non confondervi l'idea ma sono argomenti tostissimi tranne tranne se lui ha dichiarato il falso perché il legislatore italiano è stato abbastanza intelligente e ha detto e ha detto se lui ha dichiarato il falso significa che i requisiti non li teneva ci siete quindi quando abbiamo fatto l'avvalimento io mi sono rivolto a uno che già non aveva i requisiti quindi non posso avere la chance se invece lui li teneva e poi li ha persi non posso essere punito perché il nego posso chiamare tutti i giorni ricordo di pagare le tasse o no perché dici se vedi che se non paghi i tasse mi cacciano fura a me e io che posso fare questa è l'ottica comunitaria quindi io e lo so ma nel momento in cui tu rischi di punire un soggetto nella concorrenza a gara per una sua irregolarità contributiva fiscale c'è un problema di un terzo che diventa una specie di responsabilità oggettiva ma vedete la legge italiana che sembrava sensata è stata sottoposta al vaglio della corte giustizia europea sentenza di 3 giugno 2021 io ve le ho mandate queste sentenze dice la commissione europea la corte giustizia la legge italiana va cambiata o meglio va disapplicata perché non c'è bisogno di niente anche se lui ha dichiarato il falso il concorrente deve essere messo in grado di cambiare l'ausiliario mi seguite che dice cioè dice vabbè ma questa per me è un'ottica pericolosissima perché io posso fare un avvalimento adesso con un bandito uguale a un se te ne accorgi io ho la chance per cambiarlo vedete è straordinariamente assurda questa cosa è una specie di soccorso istruttore tanto è vero che il vero problema qual è? come si fa a cambiare l'ausiliario? se fosse un falso o no? è un falso mi dice vabbè tu una volta pure se quello ha dichiarato il falso tu comunque gli puoi dare la chance al concorrente però vedete questo del responsabilizza mi seguite io a questo punto chiamo a chiunque tanto se voi fate i controlli male che va io lo cambio se voi non fate i controlli io risolto anzi più lui è delinquente più vado bene io cioè si peggia di me no no se vado da una ditta seria e solida che deve pagare tassi e contributi chi l'avvalimento quello si prende di solito il 3% del contratto cioè nell'utile quel 10% io buona parte lo devo dare a lui se invece quello è uno che non deve niente aperto comunque se gli va bene 1% cioè io rischio di andare in un mercato più illecito dove trovo più condizioni di vantaggio tanto alla fine alla fine pur se quello ha dichiarato il falso io ho la chance di cambiare come si fa la legge non lo dice e questo è quello che diceva il codice il codice diceva se quelli teneva e poi li ha persi non puoi punire il concorrente perché è quello quando è fatto il contratto il nostro codice se invece non li aveva già tu non lo puoi cambiare la corte la corte di giustizia europea a giugno 2021 dice no lo può cambiare anche se ha dichiarato il falso mi seguite ma questa è una stendenza della corte di giustizia è inutile che parliamo cioè vale più vale più di una legge italiana tanto è vero che il codice rimane rimasto così quindi il codice italiano si disapplica se voi cacciate fuori una ditta perché la ditta è falsa facilmente perdete la causa al Taro è all'estrema cioè il provvedere dice finitelo con queste capacità inutili cioè proprio quando è necessario ma voi che chiedete fatturato generico fatturato specifico referenze bancarie più appesantiti il bando e più sappiate che qui le può nare tanti alla fine l'importante è che avete un concorrente e uno che fa da ausiliare il Tar Piemonte è arrivato addirittura a dire cose folle a mio parere per carità ma non è che ci manano la registrazione a qualcuno che è Stato Piemonte e chi si vaga perché il Tar Piemonte è arrivato a dire questo una ditta vince senti aveva fatto un contratto di avvalimento fatti i controlli l'ausiliare non aveva i requisiti il comune ha detto cambia ausiliario il secondo ausiliario non aveva i requisiti il comune ha detto cambia ausiliario il terzo non li aveva un certo punto il comune l'ha cacciato fuori il Tar ha detto perché e dove sta scritto che lo puoi fare una sola volta a mio parere è implicito cioè il codice avrebbe potuto dire più volte secondo quel Tar la sentenza dell'anno scorso non c'è un limite alle sostituzioni no non l'ho trovato l'appello secondo me ho scocciato ma poi l'appello avrebbe potuto farlo il comune il comune a un certo punto se non ha fatto l'appello è finita l'anno però tenete conto che è una cosa curiosa o no quante volte può cambiare l'ausiliario questo veramente no ma diventa una gara che non finisce più ma poi vedete il paradosso sapete qual è che se uno casomai non è stato il regalo col turco per un mese viene cacciato fuori questo invece è uno che non ha non ha il requisito perché il requisito non ce l'ha se lo fa prestare sbaglia una volta sbaglia due sbaglia tre qual è il limite detto così non c'è il limite cioè detto così significa che il concorrente deve per forza rimanere in gara o no è un assurdo questo però si ma al di là di tutto vedete e arriviamo alla fine che si può finire o quando quello si stanca oppure fin dando che non trova un'ausilia ma la tempistica riguarda la celebrazione della gara la gara è finita noi stiamo facendo i controlli qua qua stiamo nella fase dei controlli cioè noi ci accorgiamo che lui non ha i requisiti quando stiamo facendo i controlli la gara si è chiusa io sono l'aggiudicatore o il soggetto di cui si propone l'aggiudicazione e lui è il mio ausiliario nel fare i controlli vi accorgete che lui non ha i requisiti quindi innanzitutto mi dovete invitare a metterne un altro se continua a non essere i requisiti questa cosa potrebbe andare sine die io sono per un'idea molto più restrittivo però è sempre un'altra soluzione che sta in una norma che non c'è mi seguite sicuramente io sono convinto che non si possa fare più di una volta però non so nessuno rispetto al Taro ovviamente conto molto più quella sentenza è anche vero che non è un orientamento pacifico va bene tantomeno definitivo altro problema un altro tema che a noi ci ha un po' stravolti è che in Italia l'avvalimento è diventato avvalificio e l'avvalificio significa che una ditta che casomai ha un autocompattatore con caratteristiche particolari non fa più gare presta presta ma io ho visto consorzio che stanno là e prestano solo requisiti non fanno più requisiti ma quello è così ma che certamente lo fanno di default ma vi dico come questo è diventato un segmento a parte di concorrenza cioè non avere il lucro dalla gara dall'esecuzione avere il lucro dall'avvalimento tanto è vero che vi ho detto l'espressione che noi usiamo nella casistica è l'avvalificio cioè come se fosse un stabilificio che è un stabilimento il codice nel decreto correttivo del 2017 proprio per arginare questo perché qualcuno è stato mi ricordo un primo condizio se lo fece con Vito Bonanno il quale Vito che lui conosce bene anche un segretario molto molto bravo che fece nel bando scrisse se vuoi fare l'avvalimento quel mezzo devi dichiararlo di non averlo prestato a favore di altri enti lui stava ad Alcamo fece questo bando boom impugnati però a 15 giorni li sono spesi rubati perché disse il requisito che scrivi questa cosa cioè perché lui non può prestare il mezzo a lui a lui a lei per evitare che poi alla fine non riesca a prestarlo a qualcuno ma dove è scritto che vincono tutte e tre cioè se quello presti in mezzo per 4-5 gare insieme anche contestuali non è detto che i suoi usiliari vincono quindi può prestare il mezzo tutta questa vicenda arrivò poi ha avuto anche clamori giudiziari tanto è vero che poi il correttivo lì il codice è stato il legislatore è stato abbastanza attento nel 2017 ha detto e questo dovreste controllare il RUP o il direttore dei lavori o il DEC il direttore dell'esecuzione durante l'esecuzione deve controllare che il mezzo l'attrezzatura e il personale sia stata effettivamente messa a disposizione in mancanza c'è risoluzione dell'appalto risoluzione del contratto eh no tu alla fine hai la garanzia però la vera tua garanzia è che si faccia il lavoro nel momento in cui durante l'esecuzione vedi che quello non mette a disposizione un uso da quel mezzo è motivo di risoluzione del contratto qua dovete insistere su questo sulla fase di esecuzione il controllo in fase di esecuzione è inutile che appesantiti i controlli sulla gara perché l'ha riuscita rischiata di perdere facilmente il contenzioso e nel 2017 è stato inserito perciò avete detto il primo decreto correttivo non c'era nel 163 non c'era nel 2006 nel 50 è intervenuto nel 2017 col correttivo quindi controllo in fase di esecuzione altro approdo giurisprudenziale recente anche questo vi tutela un po' di più perché il vero problema sapete qual è quando noi facciamo l'avvalimento di un requisito esperenziale questo soprattutto i professionisti cioè io voglio faccio un affidamento per un incarico di progettazione voglio che il professionista già abbia fatto un progetto simile o no voglio mi dice ma per partecipare un bando un fondo comunitario un bando comunitario mi devi dare una mano devi aver fatto già l'indicondazione di fondi comunitari quindi voglio non un consulente economico finanziario ma uno già esperto della materia quello partecipa e fa l'avvalimento e dice ma allora la garanzia dell'ente è sfilita praticamente facendo così c'è uno che fa la prestazione che chiaramente non ha l'esperienza per me importante cioè il bando si struttura nel cercare una figura che abbia già svolto l'attività non una figura generica quando c'è il requisito esperenziale dice la giusprudenza l'ausiliario deve essere coinvolto nell'esecuzione se non c'è coinvolgimento diretto dell'ausiliario va escluso anche il concorrente perché l'avvalimento quando il contratto è generico non si può sanare c'è una partecipazione però mentre il raggruppamento comporta sempre questo comporta un'attribuzione di quote con qualificazione ad ormai qui l'ausiliario partecipa in fase di esecuzione ma le modalità le forme può essere frutto di un modello organizzativo autonomo intero altro problema se nell'esaminare la documentazione il contratto di avvalimento non c'è agli atti voi potete sanarlo col soccorso istruttorio cioè quello dichiarato di fare l'avvalimento ad aprire a bustata a scaricare il file non c'è come fate? si può integrare col soccorso istruttorio soltanto se si prova che l'avvalimento è stato scritto prima se ha una data certa anteriore non la registrazione certo se è firmata digitalmente o le pec che si sono scambiate cioè da questo è vincere che la trattativa è avvenuta prima altrimenti il contratto di avvalimento carente non si può integrare in sede di gara con un contratto con una data successiva però volete sapere quello è il paradosso questo non si può fare però se tu hai fatto il contratto con un avevi requisiti qua ne chiamo un altro quello non è un contratto nulo o no cioè quando tu scegli il nuovo soggetto tu vai a fare un contratto con una data palesemente successiva o no vabbè però l'anno mi sono già presentato alla stazione affattante senza requisiti lo so però quando fai quando fai l'avvalimento con uno che non le ha e non ce l'aveva eh vabbè questa poi nelle idee per i soggetti però a livello di insomma di all'adempimento il paradosso è che in un caso è avvissibile un altro no e allora requisiti quindi torniamo a requisiti morali è chiaro l'avvalimento abbiamo fatto un'apparenza prego prego è quello che ho detto prima allora tendenza no 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 bene la domanda però è importante rifarla giusto lei ha fatto una domanda ammissibile e pertinente va bene quindi è giusto che io ripeta sperando questa volta però di essere chiaro allora il contratto deve essere oneroso non può essere non può essere gratuito fatto per liberalità se non che la giustizia che cosa sottolinea l'onerosità può essere data da un prezzo oppure da un vantaggio che deriva al contraente da che cosa per esempio qual è il caso che abbiamo avuto spesso che lui abbiamo fatto il raggruppamento siamo raggruppanti nonostante il raggruppamento però a me manca un requisito per essere per esempio mandataria o manca la referenza bancaria abbiamo fatto il raggruppamento sul fatturato ma a me manca per esempio la qualità noi dobbiamo avere tutte e due la qualità oppure a me manca una categoria soa per svolgere i servizi la categoria prevalente a questo punto facciamo il contratto di avvalimento e lui mi presta anche questa categoria senza perché il suo vantaggio qual è? è di rimanere in gara insieme a me come c'è il vostro vantaggio si capisce dal fatto che c'è il raggruppamento cioè che lui mi fa l'avvalimento perché è mio raggruppando da qua si capisce il vantaggio sta nel fatto che io stipulo un contratto con una mia raggruppanda e così è abbastanza evidente quando lui controlla come fa sapere che lui mi sono raggruppando e no no quando il contratto lo sappiamo perché io quando partecipo a gara partecipo in raggruppamento con lui se lo faccio in raggruppamento posso fare in raggruppamento perché lo mostra in te il conto allora se non è un raggruppamento e io stipulo un contratto di avvalimento con uno qualsiasi se non c'è nessun profilo di carattere economico non fa parte per esempio di una rete oppure di un consorzio ordinario perché se è un consorzio qual è il vantaggio? perfetto che so vince una consorziata voi sapete che il consorzio si qualifica per i requisiti anche dei consorziati siamo cumulo alla rinfusa in questo caso il vantaggio io prima di escluderlo faccio un contraddittorio e lui mi dice guarda che il mio interesse è che cresca anche quell'altra impresa consorziale ma se non c'è nessun vincolo nessun rapporto il contratto gratuito è da escludere perché si capisce che è una finzione mi seguito? cioè quello che voglio dirvi il contratto deve essere oneroso per avere la serietà dell'avvalimento tuttavia l'onerosità non può essere soltanto frutto di un corrispettivo economico ma può essere frutto di un impegno che lui mette a disposizione i mezzi per un'utilità di carattere anche professionale imprenditoriale in alcuni casi è abbastanza palese cioè io i due casi che ho trattato il Taro ha detto va bene il contratto anche senza importo perché essendo raggruppanti in quella gara il suo interesse è che rimaneva in gara anche l'altro mi seguito quindi l'interesse era partecipare a gara insieme a lui no 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 vabbè però il problema quant'è? in questo caso si dice quando è senza corrispettivo o corrispettivo che di per sé è meramente simbolico però vedete noi partiamo da questo assunto che l'avvalimento gode di un favor normativo quindi noi per escludo dovremmo dire un euro è ingiustificato ma io l'ho fatto recentemente per un comune che è una somma vesuviana in un avvalimento o San Giuseppe vesuviana per un avvalimento che riguardava anche presti mezzi attrezzatori ecco quello metteva si prendeva 1500 euro all'anno che era una somma assolutamente ridicola o il Taro non ci ha pensato proprio cioè dice vabbè c'è il prezzo cioè il giudice cerca di non entrarci perché l'ottica è che almeno che non è clamorosamente vedete uso questi avverbi dove il giudice dice è una scelta che fa l'amministrazione perché poi l'amministrazione si ritiene ammissibile si fida cioè quello è un rischio per lente poi di fatto quindi non è che perché rischia di avere un operatore che non ha la capacità però è anche vero che spesso questi avvalimenti sono dovuti a forzature nelle requisite capacità perché noi chiediamo questo quello quell'altro quell'altro cioè appesantiamo la partecipazione e l'ordinamento dà le ditte questa chance per cercare di raggirare questa norma articolo 80 l'articolo più importante è una norma di eterointegrazione cioè questa norma vincola le stazioni appaltanti ed entra nel contratto e negli atti di gara anche se non l'abbiamo richiamato ma questo perché quando noi facciamo copia in colla quante volte copiamo l'articolo 80 può capitare che è stato cambiato qualche mese fa le banche date non è che sono quasi tutto quanto aggiornate quindi noi nel momento in cui andiamo a copiare quell'articolo rischiamo di copiare pensate che l'articolo 80 comma 5 lettera C che inizialmente è nato 80 comma 5 lettera C oggi è C Cbis Cter e Cquater basta che uno sbaglia A C o si scorda in A C e U testa è sbagliato va bene quindi ma anche le altre gli altri commi prevedono lette che si moltiplicano quindi il legislatore dice ma non è che poi il bando si dimentica una lettera e quindi la ditte me l'ha ammessa perché si è scordata un requisito anche per evitare che uno si dimentica oppure una metta no quindi per evitare questa norma di etere integrazione tant'è vero che lui l'ha detto prima io condivido quella cosa io quando scrivo gli atti per partecipare a GAR non deve sussistere alcun motivo di esclusione ex articolo 80 punto che senso ha copiare e mettere negli atti GAR una norma che è vincolante già per quello che dice diventa un appesantemente inutile anche soltanto un elemento di confusione poi abbiamo il documento di GAR unico europeo compilato bene che ci dà le singole singole chiamate quello deve rispondere poi sono requisiti necessari motivi di esclusione grounds of exclusion dice l'articolo 57 della direttiva comunità motivi di esclusione per ogni affidamento da un euro a miliardi e miliardi di euro va bene perché non si applicano in modo graduato si applicano comunque poi permanenza del requisito questa è un'altra cosa importante il requisito deve essere posseduto sempre la ditta partecipa a GAR è il requisito lo perde dopo la giudica va esclusa la ditta non aveva il requisito ce l'ha adesso al momento della giudica va esclusa i requisiti deve sussistere sempre e che significa se l'ha persa l'ha perso è capitato dopo aver vinto la gara avuto un gruppo di vento di sospensione da parte dell'area che per prendere il nome si è stipulato un contratto da parte che fa sul cuore dopo la scadenza della della eh beh perché hai aspettato tu no 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 i termini erano qui cioè nel momento in cui c'è quella sospensione temporale cioè ha partecipato alla gara possedeva i requisiti è intervenuta la sospensione eh beh però è finita l'efficacia della sospensione temporale stipulare il contratto ah beh però in questo caso più che una perdita di requisiti è un inibitore temporanea a superare ha cessato l'efficacia in quel periodo però in quel caso si può fare il contratto perché ve l'ha impugnato qualcuno perché di fatto e cioè se voi andavate a fare cioè se quello è stato inibitore per due anni non è che potevate aspettare per due anni quei 30 giorni diciamo che allora di solito l'atto equipolente si può utilizzare per affidamenti sotto 40.000 euro oltre ai quali ci vorrebbe documenti con i europei però il documento ripeto siccome la giustizia su questo dà valore al dato sostanziale che è formale a me non è mai capitato trovare una gara annullata perché non si utilizzava il documento di care unico europeo anche perché se io impugno la sua giudicazione devo dire il problema è che la lettura è sempre sostanzialistica cioè manca la regolità contributiva io non posso fare ricorso perché si è utilizzato un modello diverso sono ricorso ormai non più proponibili perché c'è una lettura sostanziale dei requisiti quindi l'utilizzo di modulistica diversa può essere un errore procedimentale modale però a livello di incisione sull'esito della gara non vedo un elemento che incide anche sull'area 40.000 cioè nel senso che non avrebbe più dovrebbe essere obbligatorio utilizzarlo però il mancato utilizzo io mi chiedo a livello giustiziale che cosa porta nulla rispetto all'eventuale perché male che va se non ha dichiarato un requisito quello deve essere ammesso al soccorso istruttorio addirittura si può fare in fase processuale il soccorso istruttorio cioè se la modulistica non prevedeva la dichiarazione sulla regolità contributiva e noi non l'abbiamo chiesto e ce ne accorgiamo durante la causa il soccorso istruttorio processuale è lo strumento attraverso il quale dice il TAR prima di arrivare a decidere chiediamolo adesso se nel processo emerge la regolità contributiva rimane la giudica se la perde viene escluso cioè si fa in senso di processo per dire evitiamo di fare tante attività è inutile ripetere questa attività quindi non mi soffermerei troppo sulla modulistica certo il documento di gara ci aiuta perché noi possiamo seguire quella traccia anche rispetto ai requisiti quindi fatto bene quel documento di gara ci aiuta per tutte le gare che andiamo a fare poi divieto di avvalimento non è possibile fare l'avvalimento per i requisiti di cui è l'articolo 80 poi come si distinguono i requisiti di cui è l'articolo 80 soggettivi e oggettivi li devono avere tutti i concorrenti i raggruppanti gli ausiliari si fa l'autocertificazione e di soldi il documento di gara unico europeo soggettivi e oggettivi comma 1 e 2 4 e 5 ma vediamolo articolo 80 requisiti soggettivi quali sono articolo 80 comma 1 assenza di sentenze definitive di condanna o di decreti penali di condanna e perché non si può fare tutte le procedure e mi sembra strana però vedete che l'avvalimento di istituto di carattere generale cioè l'esclusione dell'avvalimento va prevista una norma e perché non si può fare noi abbiamo dei profili dell'avvalimento dei limiti per quanto riguarda le categorie super specialistiche ma lì ma sono norme proprio indicate per esempio i guard re nelle strade quelle categorie che è OS qualcosa quindi sono OS 12 per quelle ipotesi ci sono divieti di avvalimento però negli altri casi non ho mai sentito questo fatto ma mi sembra strano perché poi la norma è di carattere generale escludere l'avvalimento significa esporsi all'impugnativa però io vi dico una cosa di solito il MEPA si fa sotto soglio comunitario o no e quindi 150 mila euro siccome ma io non chiederei i propri requisiti di capacità a che chiedetela come requisiti no perché di solito queste procedure che si fanno ma dico che tipo di perché l'avvalimento non si può fare per requisiti morali e di unità professionali la capacità l'avvalimento potrebbe essere inutile se io non scrivo nessun requisito di capacità cioè se io non prevedo fatturato specifico fatturato generico referenze bancarie ed altro l'avvalimento non serve proprio però devo chiedere io conosco diversi amici che si occupano di questa piattaforma e devo cercare di capire perché no no è una curiosità che si si ma che da fare la piattaforma quello è un file allegato cioè l'avvalimento è un documento in più io come in Italia sono scritto oggi 1 vedo la gara fatta perché è aperta per tutti i quarti per ogni più in distanza vedo quella gara dell'og3 però io non posso partecipare quindi dovrei scrivere all'og3 a meno che non faccio l'avvalimento dell'og1 però non mi fa partecipare perché non posso fare l'unico modo è fare l'avvalimento perché quella è una gara che lei lancia a tutti gli operatori iscritti in quell'elenco sì però la gara aperta riguardo tutti gli operatori iscritti sul MEPA però che hanno quel requisito che lei ha individuato come oggi 1 faccio l'avvalimento io oggi 1 non posso scrivere oggi 2 faccio l'avvalimento dal giugno sì sì ma secondo me è una cosa logica però di fatto è la piattaforma che lo impedisce agli altri non è lei che scrive che non è possibile l'avvalimento nel momento in cui le lancio la RDO aperta non dice non è possibile l'avvalimento sono quelli di oggi 3 che non possono fare la domanda però anche in questo caso non risolvo il problema se lei dice solo chi ha l'og3 e si capisce che sono nel senso che lei chiede come requisito l'og3 ma sicuramente è rivolto solo a quelle che è allog3 il problema se le arriva la domanda di uno che è oggi uno ma quello che il sistema non gliela fa fare proprio ma è il problema del sistema non è il problema del bando sicuramente l'ho capito però non è un problema del suo bando fino a quando non è lei che lo mette come precauzione nel bando nella lettera d'invito nella richiesta di offerta non è una gara impugnabile è il sistema che non glielo consente ma così noi abbiamo un problema è una gara che abbiamo discusso poche settimane fa col tarlatina per una gara di servizi sociali il gestione di asilo nido che la modulistica MEPA non faceva a dire di una della parte inserire i costi della mano d'opera e i costi della sicurezza perché la modulistica non prevedeva questa possibilità poi in verità il MEPA si è adeguato a queste perché il file è vero che è già previsto però è anche editabile quindi l'inserimento della voce si può fare ma inizialmente non prevedeva un campo aggiuntivo quindi o si faceva una dichiarazione a parte e si allegava anche se poi il sistema la vedeva come errore oppure alcuni che si sono inventati tant'è vero che poi abbiamo avuto i contenziosi connessi di farlo dichiarare la ditta e l'offerta tecnica di dire quale sarebbe stato i costi e la mano d'opera però questo poi ha aperto il barco ad alta impugnazione perché come sapete non si può inserire di offerta tecnica inserire un elemento dell'offerta economica tant'è vero che adesso però la piattaforma si è aggiornata perché consente anche di editare di modificare quel file allora però questa è una cosa che voglio curiosamente accertare però la cosa che vi consiglio di non scrivere voi e vi è dato l'avvalimento perché così rendete impugnabile il bando altra cosa è se il sistema perché è un problema proprio tra gli operatori e la piattaforma no però è aperta perché invita tutti gli OG3 il problema negoziato è quando lei invita alcuni individuati quando le invita a tutti quelli di quella categoria di fatto è sempre aperta non è aperta a tutto il mail per me è aperta a quella l'importante è che lei non fa filtri cioè nel senso di dire solo no ma quello è requisito il filtro è quando lei dice possono partecipare due o tre e li sceglie ma il filtro quello che rileva i fini ordinamentali è quando lei mette il filtro numerico bene possono partecipare 5, 10 invece se fa partecipare a tutti quelli di quella categoria di fatto vale come procedura aperta comunque eh beh riservare a dire che è riservata e senza la procedura negoziata è tutta un'altra cosa perché invitando tutti quelli di quel catalogo lei non fa una scelta cioè non fa la selezione all'interno del catalogo eh quello è il problema quando lei è all'interno del catalogo sceglie alcuni qui si pone ma quando lei sceglie tutto il catalogo siccome non li ha catalogati lei non fa una selezione tra quelli questo è il dato che va rappresentato e allora articolo 80 comma 1 prevede l'assenza di condanne o sentenze definitivi di condanne decreto di penale di condanne o sentenze di patteggiamento il precedente codice parlava di condanne contro lo Stato e la comunità e c'era un problema di interpretazione perché ci si chiedeva ma chi ha avuto la condanna per abuso edilizio oppure una condanna per omicidio può partecipare a gara e si diceva la gravità va relazionata in base alla capacità di contrarre per cui è più grave uno che ha avuto una condanna per un falso in bilancio oppure per evasione fiscale piuttosto che un incidente stradale un incidente o un uccidio colposo perché non c'entra nulla con la gara oggi il codice è un po' più serio più serio perché ci dà meno dubbi ci fa l'elenco delle leate o no l'articolo 80 comma 1 elenca le fatti specie delittuose non si può controllare con la pubblica amministrazione per colui il quale ha subito una sentenza definitiva di condanne per un dei seguenti reati e quindi c'è l'elenco l'articolo 416 16 bis reati dell'anticorruzione frode comunitari sfruttamento del lavoro minorile territorismo internazionale falso in bilancio incapacità di controllare con la piacita le tipologie di fatti specie delittuose la cui sussistenza comporta l'esclusione il comma 2 parla delle misure inibitori interdittive di quella codice antimafia per entrambi comma 1 e comma 2 dice l'articolo 86 si deve chiedere il casellare giudiziale ribadiamo un dato il casellare giudiziale va richiesto d'ufficio non ce lo può portare la ditta questo non perché la ditta ci dice il falso perché la ditta potrebbe dire l'ho chiesto due giorni fa perché voi lo sapete bene ma scusate se lo ripeto quello che chiede un privato non è diciamo sì integrale come contenuto perché le sentenze con il beneficio da non menzione non emergono io ho avuto con diversi dirigenti scolastici questo problema quando facevamo i pon comunitari perché il preside poi la preside nella sua semplificazione perché poi occupandosi di altre cose per loro è anche difficile eseguire questa materia si prendevano il casellare giudiziale della ditta dopo la giudica si trovavano impugnative di altri che dice ma qui lei è stato condannato dicendo al casellare risulta nulla perché il casellare che chiede il privato riporta soltanto le condanne per le quali il beneficio non menzione non vi è invece il casellare chiesto alla pubblica amministrazione è integrale porta tutte le condanne quindi dovete acquisirlo d'ufficio ma proprio per l'esigenza di certezza del contenuto casellare giudiziale in secondo luogo l'articolo 80,1 e 2 fa riferimento all'assenza di requisiti in capo a chi? ai titolari di cariche e questo è il vero problema chi dobbiamo controllare? quali sono i soggetti di cui dobbiamo controllare l'assenza di condanne? e aspetta no anche sui soci vediamo bene perché il precedente codice parlava di amministratori muniti di potere di rappresentanza tutto ad un'anze plenare per dire ma chi sono gli amministratori muniti di potere di rappresentanza si diceva solo chi è amministratore però poi nella realtà noi avevamo ipotesi in cui a sottoscrivere il contratto era un procuratore era un direttore generale un istitore cioè chi è preposto a rammi dell'azienda il nuovo codice usa una terminologia più ampia e dice per le ditte individuali il titolare è il direttore tecnico per le società in accomandita gli accomandatari il direttore tecnico società in nome collettivo tutti i soci è il direttore tecnico per le SPA SRL quindi anche le società cooperative responsabili di limitata tutti i titolari di cariche compresi il potere di controllo per esempio i revisori compresi i direttori generali procuratori istitori compresi i soci di maggioranza nelle società con meno di 5 soci prima di meno di 4 quindi chi si intende però soci di maggioranza anche questo è un tema questo è tutto ad un'anze plenare per il 2013 in poi soci di maggioranza è il socio che ha almeno il 50% del capitale nelle società dove ci sono più soci se sono superiori a 5 astrattamente non andrebbe controllato nessuno se sono inferiori a 5 dobbiamo controllare chi ha almeno il 50 per cui se sono 4 soci 25 25 25 non controlliamo nessuno se ci sta uno col 50 e poi 20 20 e 10 dobbiamo controllare chi ha il 50 perché il socio di maggioranza i soci hanno come tutti i soci perché sono legali rappresentanti hanno il potere di firma il consorzio che è il consorzio che forma giuridica è una srl una spa che cos'è è una srl allora va è società di capitali nelle società di capitali le deve controllare tutti i titoli di cariche quindi qualunque soggetto ha una carica societaria ma quello c'è titolare di carica nel camerale tenete conto che il legislatore ha cercato di prevenire un altro fenomeno cioè un titolare che si dimetteva prima della gara tanto è vero che come sapete si controllano fino a tre anni precedenti poi adesso un anno prima della gara c'è un altro fenomeno che però noi non riusciamo a controllare bene le fusioni e le incorporazioni e su questo trovate due sentenze recentissime perché che succede vedete praticamente qual è la strategia della ditta io sono una grossa azienda che ho lo G1 o G3 qualsiasi cosa subisco una condanna definitiva o un'interdittiva antimafia bene posso partecipare alla gara che voi imbandite no a meno che non sono folla che dichiari il falso però ordinariamente non potrei partecipare sapendo che voi fate i controlli non partecipo potrei dimettermi e nominare un altro al posto mio e deve passare almeno un anno se no comunque non lo diciamo potrei fare il raggruppamento con lui e partecipare insieme a lui ci mettiamo insieme e partecipiamo a gara ma mandando no mandando mandatare possiamo fare il raggruppamento con lui e partecipare no perché comunque controllate pure lui e quindi comunque non riusciremo e se lui partecipa a gara e io faccio da ausiliario e sto dietro di lui e comunque comando neppure no neppure perché se voi fate i controlli controllate lui e me ma mi caccia fuori e cioè facciamo tutto l'operazione la faccio io a favore mio lui cambia l'ausiliario ma io sono io che voglio il vantaggio nel momento in cui mi caccia vi dite cambialo e facciamo tutto l'operazione a favore lui qual è la grande strategia che hanno le ditte a noi poco noti in verità l'impresa ausiliaria cioè l'impresa diciamo sì inquinata con problemi crea una nuova società imprese in un giorno la fanno andare in un'altra una nuova società nuovi titolari belle gente tranquilla comunione da poco cresima da qualche settimana gente abbastanza in questo momento abbastanza tranquilla la nuova società partecipa a gara ovviamente voi chi controllate i titolari di cariche di questa nuova società che cosa manca a questa nuova società la capacità il curriculum o no manca la capacità però se fa l'avvalimento è in generazione se facciamo il raggruppamento comunque macchiappato la fusione o l'incorporazione o il fitto d'azienda o la cessione a questo punto questo fitta il mio ramo d'azienda si prende tutta l'attività che ho svolto e si prende pure il curriculum nel 90% dei casi che fa la stazione appaltante controlla la nuova società bello pulito pulito qualcuno cioè comunque però non è che siamo proprio tutti bambini o ingenui qualcuno ha detto ma ma ti rendi conto che quello partecipa grazie ai requisiti dell'inquinato devi controllare pure l'inquinato il codice di questa cosa non se ne occupa proprio la giurisprudenza voi trovate un paio di sentenze nel tutto settembre ottobre 2021 nella rassegna dice vedi che c'è un principio ubi commoda ibi incomoda ti prendi le cose buone ti prende pure i guai quindi tu devi controllare anche la società fusa e incorporata i cui titolari di carica sono equivalenti ai titolari di carica di un'impresa cessata cioè ai cessati dalla carica se però utilizzi quella rama d'azienda ovviamente se quello ha fatto il fito di azienda per un altro profilo e lui non si è beneficiato del mio del mio curriculum non mi devi controllare è chiaro? quindi l'alert no perché quando tu vai a vedere gli atti di cara tu verifichi i requisiti della nuova società quando dici ma hai svolto servizi analoghi quello ti porta un contratto e non c'è lui nel contratto ci sto io ci sento ma chi è questo? c'è questa è la società fusa no l'ho incorporato c'è il fatturato hai il fatturato nell'ultimo triennio lui ti porta i bilanci a un certo punto o fatturato o meglio e dici senti ma questo non è il tuo il fatturato questo è un mosa è nata e dici perché non hai fatto l'avvalimento no perché avendo incorporato quell'azienda prendo i requisiti di quello a questo punto devi controllare anche il trovare di carica di quell'impresa vi è chiaro questo passaggio no no purtroppo sì perché le ditte ne utilizzano quando hai fatto il contratto dopo due anni di contratto io faccio gestione con chi con chi avete fatto il contratto una ditta ha fatto il contratto avete di accordo la ritenziata ah no noi parliamo della modifica in corso di esecuzione articolo 106 è tutta un'altra norma noi l'ipotesi che vi ho detto io è la partecipazione a gara per raggirare quei requisiti ma invece nel vostro caso è successo che durante l'esecuzione quello ha ceduto però vedete il contratto non si può cedere ha fatto soltanto una cessione del ramo di azienda e quindi con il ramo di azienda nel ramo di azienda è compreso anche quel contratto in questo caso dovete controllare il cedente e il cessionario per evitare che la cessione sia un raggiro ma è cosa che si può fare perché lo prevede l'articolo 106 comma 2 lettera D la modifica soggettiva del contratto non si può cedere il contratto per esempio noi con abbiamo avuto un problema recente con l'accordo buonare all'università perché avevamo una ditta che faceva questi servizi di catering per quanto riguarda tutti i servizi di ausilio per i convegni è stata ferma un anno e mezzo perché non si è fatto a un certo punto ha detto siccome io questo ramo di azienda ormai l'ho cessato io mi tolgo di mezzo però ti indico lui che vuole subentrare ma questo abbiamo fatto le verifiche con di nenne al dipartimento abbiamo visto che quello di fatto è tutto un altro operatore non ci sta nessun collegamento quindi la cessione del contratto ma non lo può fare non è che può regalare il contratto a un altro chiaro questi profili che abbiamo visto sicuro possiamo andare avanti quindi articolo 80,1 articolo 80,2 articolo 80,3 i soggetti che dobbiamo controllare nei soggetti che dobbiamo controllare dobbiamo verificare se ci sono sentenze di condanne le uniche sentenze che non rilevano e quindi non devono essere dichiarate sono quelle per le quali c'è l'estinzione o c'è stata la riabilitazione quindi nel caserario giudiziale c'è scritto dei reati dichiarato estinto comma 4 regolarità fiscale regolarità contributive regolarità fiscale regolarità contributive la regolarità col DURC per il pagamento di contributi previdenziali e quant'altro la giurisprudente dice state attenti alla differenza tra DURC interno e DURC esterno ad un'anse plenare Cassazione a sezioni unite una differenza che legislativamente non c'è che cosa è la differenza tra DURC interno e DURC esterno il DURC interno è quello che chiede l'operatore economico al proprio ente previdenziale in questo caso si dice se non è in regola l'ente previdenziale lo deve invitare a regolarizzare assegnandogli 15 giorni però può regolarizzare durante il procedimento nelle gare d'appalto invece non si può regolarizzare il DURC esterno cioè il DURC che chiede un terzo cioè una stazione appaltante relativamente a un operatore economico non riguarda i rapporti tra operatore economico e ente previdenziale in caso di DURC esterno se l'operatore economico non è in regola non può regolarizzare durante la gara questo è il principio nella pratica è tutta un'altra cosa perché noi quando andiamo a chiedere il DURC online ci dice regolari regolari in verifica e quindi di fatto non sappiamo se quello sta regolarizzando o meno c'è chi è più preciso alcuni dipendenti che sono proprio pesanti pesanti precisi che iscrivono la PEC all'INPS e dicenti ma questa è in verifica dopo 20 giorni regolare ma ha regolarizzato durante la gara perché se è così va escluso c'è invece chi fa fin da di niente nel momento in cui esce regolare fa il contratto bene però io vi devo dire che dice la norma poi il modus operandi non voglio coinvolgere le vostre scelte organizzative però il principio è la regolarità contributiva non può essere mai regolarizzata durante la gara mi seguite inoltre la regolarità contributiva è comprovata dall'acquisizione del DURC che si deve acquisire d'ufficio perché se la parte lo acquisisce di due iniziativa può beneficiare della regolarizzazione regolarità fiscale il DURF si chiede all'agenzia delle entrate la regolarità fiscale riguarda l'assenza di posizioni debitorie la norma prima diceva definitivamente accertata oggi dice anche non definitivamente accertata quando è l'esposizione tributaria definitivamente accertata è motivo di esclusione automatica quando non è definitivamente accertata è motivo di possibile esclusione cioè seguite questa vicenda io non ho pagato tasse per un milione di euro ho impugnato l'atto impositivo dinanzi alla commissione tributaria l'ente potrebbe dire ma con te non ci voglio vedere che fa perché un milione di euro di tassa che devi pagare sono sintomo di un'assenza di solidità se tu perdi ricorso addirittura poi non può fare più niente e allora quando la regolarità fiscale è definitivamente accertata allora l'esclusione è doverosa quando non è definitivamente accertata l'esclusione è possibile ma non è finita qui questo è un tema caldissimo la ditta può partecipare a gara dicendo che intende regolarizzare e rateizzare dice la giurisprudenza se ha chiesto e ottenuto la rateizzazione prima della domanda di partecipazione non può partecipare se ha chiesto la rateizzazione e la ottiene in corso di gara può partecipare alla gara la ditta che ha impugnato la cartella dinanzi al giudice amministrativo dinanzi alla commissione tributaria dice la giurisprudenza vedete queste sono tematiche recentissime molto molto difficili da gestire io la tratto ma anche non avendo una competenza specifica quindi vi do il suggerimento poi approfonditela voi che molti di voi sono sicuramente più esperti di me il ricorso verso la cartella esattoriale in commissione tributaria si può fare soltanto per vizi propri della cartella non si può impugnare anche l'avviso di accertamento cioè la debbenza del tributo quindi io per fare in modo che la violazione non sia definitivamente accertata devo impugnare l'atto impositivo e se arriva la cartella puoi integrarla con l'impugnativo della cartella ma non posso impugnare la cartella e dire il debito non è perché se impugno la cartella il debito è già consolidato c'è una grossa incertezza per i cosiddetti accertamenti automatizzati l'articolo 36 bis per i quali non c'è l'atto impositivo ma c'è una sorta di avviso bonario perché se vi capita di fare una ricerca la stessa cassazione tributaria sull'avviso bonario dice la prevalenza che non si deve impugnare l'agenzia delle entrate se vedete le note informativi dice l'avviso bonario non si impugna alcuni dicono stessi giudici tributari non vi è l'obbligo di impugnare ma si può impugnare cioè io perché devo attendere la cartella se mi voglio togliere il problema e ho ragione posso impugnare l'avviso bonario il giudice amministrativo con queste categorie ha più difficoltà e tende a dire l'avviso bonario non è atto impositivo e quindi impugnando la cartella che è il primo atto impositivo in quel caso la debbenza non è definitivamente accertata se invece c'è un avviso di liquidazione e non l'ha impugnato e impugna soltanto la cartella o impugna con la cartella tutte e due ma non ha impugnato quello di prima che andava impugnato nei termini in questo caso il debito tributario è da intendersi definitivamente accertato vi è però un altro problema giurisprudenziale se la ditta chiede la rateizzazione non paga le rate cioè quella ha partecipato a GAR ha chiesto la rateizzazione è andata a fare il controllo dice una censura è andata ha chiesto la rateizzazione non è mai pagata ci sono casi soprattutto la rottamazione delle cartelle e le ultime normative di riferimento che dicono che se non si pagano le rate si decade in verità io quello che non capisco è perché non dice l'agenzia delle entrate cioè si pretende che il comune dica che è decaduto ma lo dovrebbe dire l'agenzia delle entrate ha chiesto la rateizzazione non ha pagato quindi è decaduto la normativa invece di carattere generale che non riguarda la rottamazione delle cartelle dice quando si tratta di pagamenti di debiti tributari e si è chiesta la rateizzazione si decade nel momento in cui non si pagano 5 rate anche non consecutive va bene? non stanno male a Francesco Minardi vi sono chiare queste cose che stiamo dicendo? sicuro? poi rateizzazione e istinzione queste sono ulteriori ah qui non so se si vede bene ma allora queste sono le altre ipotesi su cui l'articolo 80 si leggono parzialmente ma sta nell'articolo 80,5 la prima ipotesi di esclusione è se la ditta ha subito scontestazione per violazione di norme in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro o di normativa tutela della salute molti dicono in qualsiasi modo lo sappia la stazione appaltante pensiamo per esempio se ha avuto il servizio ispettivo dell'Aseo spettorato del lavoro fa un accertamento e va a constatare una violazione da parte della ditta quello è motivo di esclusione la lettera B è l'assenza di procedure fallimentari a carico della ditta c'è un'eccezione che cosa no se non c'è stato fatto già il verbale se c'è il verbale di contestazione allora già è una violazione se invece c'è stato c'è un contenzioso in quel caso l'amministrazione potrebbe non tenerne conto se l'impugnativa è stata fatta ritualmente il secondo profilo l'ipotesi della pendenza di una procura fallimentare o concorsuale potrei bene senza che devi valutare anche che il tipo di impugnativa la gravità della violazione la lettera B dell'articolo 80,5 dice se c'è una procura fallimentare o di concordato preventivo è motivo di esclusione tranne il concordato preventivo con continuità aziendale che è una figura nuova che è il codice si chiama adesso il codice della crisi di impresa anche se è differito come entrato in vigore ma la modifica della legge fallimentare dice che se la ditta è autorizzata pur essendo inconcordato ad avere la continuità aziendale può partecipare quando si può essere questa ipotesi quando una ditta sta in difficoltà economiche però deve avere soldi dice io devo avere un milione della regione campana un milione da questo un milione da quello dice è vero che sono inconcordato preventivo però io ho una sua solidità anzi se continuo a realizzare questo lavoro vengo questa commessa ripiano tutti i debiti cioè i mezzi ce l'ho le attrezzature ce l'ho mi manca un po' di liquidità economica però sono in condizioni lì c'è una relazione che deve fare un fiscalista e tutto il giudice fallimentare diciamo così ammette la ditta a continuare l'azienda in questo caso non è motivo di esclusione poi ci sono i conflitti di interesse anche potenziali il fatto che si è partecipato alla preparazione degli atti di gara pensiamo al professionista che ha partecipato alla progettazione poi è il tecnico anche dell'azienda che vince la gara d'appalto il divieto di contrario cioè c'è una sanzione interdittiva inibitoria ha dichiarato il falso nella gara ci sono tutte le altre ipotesi collegamento sostanziale sono tutte le ipotesi complicatucce nel senso che voi le conoscete bene mi voglio soffermare sull'illecito professionale prego prego vuoi fare una domanda dichiarazione mentale in altre gare capita casellario dell'indicazione l'impresa è stata sospesa perché ha presentato falsa dichiarazione ma sospesa da chi? dall'arco sospesa per se è messa dall'arco se è falsa dichiarazione c'è un procedimento penale però non c'è una sentenza passata in situazione ma quelle sono due cose diverse cioè se è la dichiarazione se è il falso nella gara vostra che voi state allora in quel caso è esclusione doverosa e automatica in altre gare è necessario che o ci sia un provvedimento di annotazione nel casellario e in quel caso diventa un motivo di possibile esclusione quindi diventa nell'articolo C la lettera C se invece quella dichiarazione falsa ha determinato da parte dell'ANAC un provvedimento inibitorio si entra nell'altra ipotesi di inibitorio da iscrizione ANAC per il falso oppure aspettateci dovrebbe essere il comma 12 il comma 12 che prevede che l'ANAC adotta un provvedimento di inibizione a contrarre e quindi per tutto il periodo di inibizione che può durare fino a due anni non può contrarre quindi nell'ipotesi di dichiarazione falsa in altre gare che cosa ha trovato lei che è successo poi e non è motivo di esclusione però e a livello di ANAC e quindi non è più un motivo di esclusione automatica tutt'al più può essere un motivo di potenziale esclusione tutte queste ipotesi rientrano ormai la giustizia ormai si sta focalizzando su questo voi troverete un sacco di sentenze su questo sulla lettera C che è il motivo oggi di maggiore contenzioso giudiziario e questa è la roba perché il C è grave illecito professionale nella lettera C inizialmente nel vecchio codice si ricomprendevano soltanto le inadempienze in fase di esecuzione cioè io sto realizzato sto eseguendo un lavoro per conto del comune di Sapri sono stati inadempienti nell'esecuzione me l'hanno segnalato l'ANAC quindi sono un operatore inaffidabile perché ho sbagliato l'esecuzione penali risarcimento danni risoluzione dei contratti sono tutti elementi di inaffidabilità come operatore economico nell'esecuzione dice la norma comunitaria ma perché deve avere a che fare con uno che non sa nemmeno eseguire i lavori oppure non rispetti i tempi quante volte noi ci troviamo a sto problema di imprese appaltatrici che stipulano il contratto d'appalto e poi abbandonano il cantiere la vostra grande arma è questa dice guardi se tu non rispetti il problema del programma e ti faccio la risoluzione per gravi inadempienmenti grave ritardo siccome ai sensi del comma 12 devo segnalare all'anac questo dato può essere motivo di esclusione in tante plurime altre gare l'illecito professionale si dice oggi rileva fino a tre anni dal verificarsi dell'evento ma l'illecito professionale quello che sembrava una piccola cosa è diventato oggi un contenitore enorme dice il tar che è una fattispecie aperta dove ci può entrare di tutto e questo crea sinceramente una confusione noi eravamo partiti da un codice lineare lineare con le ipotesi di condanna e tassativamente indicata a un certo punto è esplosa questa ipotesi dove può rientrare una condanna per qualsiasi reato perché vedete il vero problema non è se è motivo di esclusione il vero problema è che la ditta la deve dichiarare se non la dichiara ha dichiarato il falso per una circostanza che non è tipicamente prevista dice la giusprudenza la ditta ha l'obbligo di dichiarare tutte le violazioni che ha commesse come operatore economico tutte le gravi violazioni relative a norme civili penali e amministrativi quindi qualsiasi violazione ha commesso nell'esercizio dell'impresa va dichiarata non solo nel grave illecito professionale rientra anche il comportamento fraudolento in altre gare è stato escluso dal comune di Vallo della Lucania perché ha dichiarato il falso ha prodotto una polizza falsa uno potrebbe dire vabbè però c'è la denuncia penale fino a quando non c'è la condanna penale rimane sì quello per la condanna penale ma siccome ha prodotto un documento falso ed è stato escluso per falso è comunque motivo autonome di esclusione ai sensi dell'articolo 80 comma 5 lettera c qual è la differenza che quando scatta l'ipotesi che l'articolo 80 comma 1 è motivo di esclusione doverosa in caso di articolo 80 comma 5 lettera c è possibile esclusione per cui se io mi trovo di fronte a una ditta condannata per mafia primo grado non è sentenza definitiva non posso applicare il comma 1 quindi non è motivo di esclusione automatica posso applicare il comma 5 e dire di te non mi fido cioè questo è un potere discrezionale che è il RUP non è una banalità deve essere ovviamente motivata se noi escludiamo dobbiamo dare una motivazione rispetto alla quale il giudice amministrativo non può entrare nel merito a meno che non è manifestamente illogica l'unico parametro che ci dà la norma è il tempo trascorso e la gravità della misura sta a vedere che si dice se c'è una penale che la ditta ha subito per un altro contratto d'appalto ma l'importo è modesto la penale non rileva una sanità consistente c'è una penale inferiore al 5% è quasi fisiologica altra cosa è una penale del 10% come facciamo a sapere queste cose? ordinariamente attraverso la notazione ANAC ma in qualsiasi altro modo dovessimo saperlo è motivo di esclusione cioè motivo di possibile esclusione è chiaro che significa qualsiasi condanna che riguarda l'esercizio dell'impresa anche condanne per reati di cui ha il comma 1 che non siano definitive perché il comma 1 se la sentenza è definitiva è motivo di esclusione automatica se non è definitiva è motivo di possibile esclusione molto molto nel senso che da rupp perché che può succedere proprio per quella vicenda che lei prima citava a Valle della Lucani la stessa vicenda cioè l'imprenditore non ha dichiarato perché nell'articolo 80,5 c'è il rinvria giudizio c'è l'arresto la misura cautelare io sono stato rinviato a giudizio nemmeno la condanna penale lo stesso imprenditore che non aveva dichiarato per una gara di avere un rinvio a giudizio per bancarotta fradolenta quando era presidente di una squadra di calcio della provincia e che è successo? che in un comune ha detto per me non è niente un altro comune ha detto ma bancarotta fradolenta per me è un reato grave addirittura questo è un reato che in caso di condanna comporti la capacità di contrarre con la pubblica amministrazione quindi io non voglio rischiare con te perché se la condanna definitiva interviene durante la gara durante l'esecuzione del contratto io devo risolvere il contratto e quindi rischio di perdere il finanziamento mi seguite? quindi rispetto a queste vicende rispetto a tutte queste valutazioni il RUP deve motivare rispetto a quello che è la fattispecie che emerge però io quello che voglio rappresentarvi è che mentre l'articolo 80,1 prevede ipotesi tassative l'articolo 80,5 prevede è una fattispecie aperta in cui ci può andare dal rinvio a giudizio alla misura cautelare personale alla sentenza di primo grado alla penale alla risoluzione di un contratto per grave ritardo grave inadempienza mi seguite? tutte le violazioni alla causa di risarcimento danni che fa un comune contro l'impresa tutto quello che dimostra l'inaffidabilità del concorrente altri due passaggi importantissimi mi rendo conto che vi sto annoiando assai ma sono questioni giurisprudenziali recentissime la ditta si dice ha l'obbligo di informare la stazione appaltante non solo delle vicende che preesistevano ma anche delle vicende che dovessero emergere durante la gara cioè se l'arresto interviene durante la gara deve comunicare la ditta se la condanna penale interviene durante la gara ha l'obbligo informativo altrimenti il fatto di non informare è anch'esso un illecito professionale cioè nel senso che si dice tu devi dichiararlo e sarà la stazione appaltante a valutare la gravità il falso innocuo in che cosa vedete quello che lui parlava di falso innocuo cosa la giustezza ma io vi invito a leggere le sentenze in modo di tre o quattro giorni di ferie tra una festa e un'altra fate una lettura ma almeno se leggete per chi è interessato a legare sarebbe una cosa preziosa leggere non perché il materiale che ho fatto io anche perché io sinceramente ve lo dico perché siamo tra amici non è che io l'ho fatto per questo corso sono cure di riassenti di giustizia che io faccio sistematicamente quindi altrimenti non l'avrei mai potuto fare per una lezione tutte quelle sentenze voi troverete la giustizia recente che distingue seguitemi perché è una categoria importante la dichiarazione falsa omissiva o reticente cioè una ditta partecipa a gara compila l'autocertificazione o il documento di gara unico europeo una circostanza può essere dichiarata falsamente non dichiarata oppure essere reticente è falsa la circostanza quando c'è l'immutazio veri cioè la ditta dice non ho mai avuto una condanna invece c'è è omissivo quando la ditta non dice proprio niente è reticente quando la ditta dice ho avuto un problema giudiziario oppure ho avuto una condanna ma non dice né quando né di che entità né a che punto è il giudizio dice il giudice amministrativo l'esclusione è possibile soltanto quando la dichiarazione è falsa quando la dichiarazione è omissiva o reticente deve essere il RUP a valutare la gravità di quel comportamento è chiaro questa cosa cioè ce la fate resistere da mezz'oretta eh? solo sul comma qui c'è questo che voglio rappresentare mentre sul comma 1 sul comma allora pure sul comma 4 abbiamo perché quando parla di accertamenti non definitivi tributari o previdenziali quando il debito è definitivo è motivo di esclusione doverosa quando non è definitivo è motivo di possibile esclusione cioè lì il RUP il RUP è un mestiere difficile io sono convinto che una delle figure più difficili noi proponiamo una volta con lo centro interdipartimentale di fare proprio un corso di preparazione per il RUP che deve essere ingegnere, tecnico, economista, giurista voi immagini noi giuristi abbiamo una marea di difficoltà io quando mi chiedono un parere su queste cose è una difficoltà enorme perché leggendo le sentenze è pur difficile capire dove si può arrivare figuriamoci un tecnico oppure pensate a uno che ha un'istrazione umanistica un dirigente scolastico che si trova di fronte a queste categorie io ne eseguo tanti li vedo un affanno enorme perché sono tutte queste cose la dichiarazione omissiva falsa reticente ma dove stanno scritte queste definizioni ci sono orientamenti giurisprudenziali e allora ci siete su questi profili possiamo andare avanti perché ci sono altri due temi allora uno è bruttissimo che è il self-cleaning di cui parleremo di qui a Bro e un altro è il sistema dei controlli per ultima cosa che diciamo però è la cosa più utile ma vi sono chiare queste categorie per esempio il collegamento sostanziale la legge 68 del 99 le categorie protette cioè il rispetto dei soggetti con disabilità collegamento sostanziale quando per si applica quando ci sono più di 15 dipendenti il collegamento sostanziale è quando le offerte sono riconducibili al medesimo centro decisionale però sono cose vedete oggi con la documentazione informatica diciamo che il problema si è un po' ridotto ma prima i plichi confezionati allo stesso modo la modulistica fatta allo stesso modo tutta una serie di documenti che potevano fare vincere che quelle imprese erano collegate tra di loro oggi possiamo avere degli elementi sintomatici due fratelli mamma e figli sono tutti elementi che ci fanno presumere che c'è qualche vicinanza ma che non sono affatto esaustivi per dire che sono da escluderle però vediamo dopo in caso di mendacio obbligo di segnalazione all'ANAC se c'è il falso l'ANAC procede all'iscrizione se c'è l'iscrizione per due anni non può contrarre con la pubblica amministrazione massimo due anni articolo 80 come 7 e 8 e questo è un istituto anch'esso nuovissimo non è del legislatore italiano questa è una misura prevista dall'articolo 57 del codice delle direttive comunitari e considerando 102 della direttiva in mezzo all'annotazione ANAC viene cancellata su richiesta dell'operatore economico dopo un certo lasso temporale viene cancellato precisamente non lo so se viene cancellato però di fatto c'è scritto quanto vale se l'annotazione però noi parliamo di annotazione inibitoria cioè l'ANAC che dice non puoi contrarre le altre annotazioni non vengono cancellate le altre annotazioni possono esistere pur dopo 5 anni e il codice che è modificato nel 2019 dice il grave illecito professional non rileva dei corsi 3 anni quindi se l'annotazione riguarda un fatto commesso 5 anni fa non rileva più però l'annotazione rimane l'ANAC non fa una diciamo si una rilettura di queste cose non so precisamente però l'ipotesi in cui l'ANAC annota l'inibitoria dice non puoi contrarre non so se questa perché siccome può valere fino a due anni non so se questa viene proprio cancellata questo non è un caso specifico che mi è mai capitato però articolo 80 commi 7 e 8 che cos'è? è un istituto nuovo le ditte lo stanno scoprendo quindi ci mi abituano il self-cleaning le misure autoriparatorie il self-cleaning quando si applica? si applica quando la ditta versi in una delle condizioni di cui l'articolo 80,1 o in una delle condizioni di cui l'articolo 80,5 si tratta di una ditta che avendo subito e versando di una di queste ipotesi di esclusione non potrebbe partecipare a gara se non che l'ordinamento comunitario dice diamo a questa ditta una chance per ripulirsi riorganizzarsi e partecipare alla gara alle nuove gare tant'è vero che abbiamo scritto efficacia pro futuro solo per le gare da bandirsi che cosa significa o come può avvenire il self-cleaning può essere di natura esterna pensate per esempio alla prefettura o all'autorità giudiziaria che sostituisce gli organi di governo dell'amministrazione di quella ditta abbiamo società commissariate con nuovi organi nominati all'autorità giudiziaria sono sostituiti i titolari rimangono solo le maestranze rimangono fermi i contratti rimangono le maestranze i titolari vengono messi fuori sono commissari giudiziari consulenti fiscalisti vengono nominati dal magistrato e gestiscono l'azienda per chiudere i contratti oppure comportare a compimento prestazioni negoziali ancora in corso il self-cleaning però può essere frutto anche di un'auto-organizzazione della ditta può avvenire sia quando la ditta è stata condannata e a sentenze definitivi di condanna dice l'articolo 80,7 quando la ditta ha subito una condanna per un reato definitivo se la pena non è superiore a 18 mesi e la ditta si è impegnata a risarcire il danno o ha collaborato può invocare il self-cleaning cioè può dire io mi sono riorganizzato come ho cacciato via l'amministratore o il direttore dell'ecchia che mi ha creato il problema addirittura l'ho denunciato io ho nominato nuovi organi dice quella società ho messo un controllo un audit esterno per controllare i miei bilanci ho adottato un codice etico di comportamento sia l'ineguideana classe 7 del 2016 che i considerando dell'articolo 102 dell'additivo comunitario dicono ci sono una serie di misure autoriparatorie cioè misure con cui l'operatore economico va a riorganizzarsi per comprovare che quella vicenda che ha determinato l'illecito tendenzialmente non si verifica più mi seguite quindi quando voi compilate il digioe o l'avete letto c'è scritto ai senza l'articolo 80,5 dichiarami hai mai commesso illeciti professionali ci sono reati condanne per uno dei reati di quell'articolo 80,1 quello potrebbe dire sì allora voi dite ah se è così la facciamo fuori però c'è la domanda dopo hai adottato misure riparatorie che misure hai adottato quello potrebbe dire niente oppure dire io mi sono riorganizzato siccome mi sono riorganizzato l'evento non dovrebbe ripetersi la vera difficoltà della norma sta nel fatto che chi è che decide se quelle misure sono idonee il RUP mentre in alcuni per esempio l'ordinamento francese in verità io adesso ne ho visto uno recentemente dell'ASNapoli 1 è uscito pure su tutti i giornali tutte perché il servizio 118 trasporto ambulanze di urgenza appalto di 6-7 milioni di euro la società che ha vinto Italia Sicurdi una cosa di questo che poi è una società di estrazione siciliana ha avuto arrestato tutti i vertici arresti misure cautelare e quant'altro nel partecipare a gara ha dichiarato che si è auto-organizzato ha nominato nuovi titolari i soci che sono ODV organismi di volontariato ha nominato nuovi soci ha individuato un organismo esterno che fa l'audit i controlli interni anche negli atti di gara nelle valutazioni e l'ASNapoli ha detto la misura riparatoria a mio parere è sufficiente il secondo ha fatto ricorso al TAR dicendo ma come vuoi controllare con uno di questi con tutti questi misure il TAR Napoli la sentenza di giugno 2021 l'ha trovata nella rassegna ha detto io come giudice non posso sindacare quello che dice il RUP se il RUP si fida almeno che non sono dichiarazioni quelle del RUP manifestamente illogiche cioè che dà per buono una cosa che non esiste o si inventa di cose io come giudice posso avere dubbi ma non posso sostituirmi ma credo che dice il RUP cioè quello è un grande potere che è il RUP è una discrezionalità enorme che è il RUP quindi non è per un altro caso invece ASL Caserta ambiente simile sempre nel 618 anche qui è stato arrestato il titolare dell'organismo di volontariato che partecipava a quella gara dopo l'arresto l'ASL ha indetto la nuova gara l'ODV ha l'organismo di volontariato ha nominato nuovi titolari di cariche ha cambiato tutti i vertici l'ASL Caserta ha detto io non mi fido di queste misure primo perché è passato poco tempo dalla misura alla gara la misura l'ha adottata un mezzo e mezzo fa per me è troppo poco tempo per dire che sono misure sufficienti in secondo luogo dice siccome tu hai accettato le dimissioni non hai fatto niente di tua spontanea iniziativa sono misure il cambiamento dei vertici è una misura per me assolutamente semplicistica il TAR Napoli ha detto io prendo atto di questa motivazione non posso dire nulla non so se è chiaro questa cosa cioè la decisione del RUP l'importante è che sia motivata rispetto a questa motivazione tendenzialmente il giudice amministrativo si astiene a meno che non è manifestamente illogica dicevo per esempio in altri ordinamenti come in quello francese l'idoneità del self-clinic l'ha valuto un giudice speciale in altri ordinamenti è l'ANAC di quei paesi l'autorità anticorruzione che verifica l'idoneità nel nostro paese la scelta è stata fatta in capo al RUP cioè il RUP che vuole ma dice l'articolo 80,8 ma è chiaro come funziona o no? in realtà non è altro che un'autodichiarazione che viene allegata all'autodichiarazione eh lo so ma non è che un'autodichiarazione solo cioè quello porta pure dei documenti produce anche delle documentazioni sì nel senso che quello ovviamente l'operatore economico dice per conto mi sono buono poi il RUP che deve dire se sono idonei oppure no il problema è la valutazione del RUP anche se apparentemente è sempre un problema complicato perché molti dicono eh chi sono in grado di valutare queste cose il problema è capire se quelle misure a vostro parere sono tendenzialmente idonee ad evitare che quella fattispecie si verifichi di nuovo ovviamente è una valutazione che viene fatta non con una competenza tecnica ma nessuno vi chiede una competenza tecnica a vostro giudizio se una nuova organizzazione è tale che ci può essere un'effettiva separazione tra il vecchio e il nuovo se vi ritenete non dovete essere così preoccupati perché non è così incisiva o meglio indipendentemente da quello che voi fate l'importante è che motiviate il giudizio il giudice non si sostituisce al vostro giudizio può soltanto contestarvi che avete travisato i fatti ma nel momento in cui voi dite ha cambiato gli amministratori per esempio è stato lui a denunciare il cessato dalla carica non ha più rapporti con l'amministratura almeno così ha dichiarato dice le misure sembrano astrattamente idonee voi non dovete dare la prova che sicuramente non succederà più dovete dire se astrattamente quelle misure sono solide o sono semplicistiche secondo me tecnicamente è una cosa difficilissima ma chi ci vuole qual è sta figura che le dice e dove sta mica esiste una figura capace di dire se quello commetterà più reati è come una cosa è una follia quello che vi treve tranquillizzare è che non vi si chiede un'analisi tecnica vi chiede una motivazione e voi potete superare tutto questo con un'idonea motivazione cioè una motivazione che prende atto di tutte le circostanze di fatto oltre non dovete andare e vi dico questi due precedenti che vi ho citato sono emblematici di questo fatto cioè ripeto uno era una grossa anzienda un'odv un'organismo di contrato a livello nazionale misure cautelare su tutti gli organismi societari è una cosa gravissima l'asl napoleum ha detto ha vinto la cara si era organizzata ha sostituito i titolari di cariche ha individuato uno studio professionale esterno che fa da audit da controllo da compagno da tutor e per me è una misura sufficiente l'importante che mi fa il servizio tanto il servizio non è che fanno i titolari di cariche come fanno gli associati mi seguì un'altra è passata troppo poco tempo siccome questo non ha fatto niente che prendere atto delle dimissioni a mio parere non si è creato quella soluzione in entrambi i casi il tarra ha detto non è buono il giudizio non è buono il giudizio prendo atto del giudizio prendo atto che non è travisato non è manifestamente illogico lo condivido o meno ma io non posso toccarlo cioè non so se è chiaro siete protetti in sede giurisprudenziale perché in sede giudiziale il giudice non travalica questa competenza però vi dico al di là che ci piaccia o meno l'istituto su cui ci dobbiamo confrontare perché le ditte che hanno subito adesso la sentenza quando è entrato in vigore il codice il problema era relativo perché le sentenze effettive di condanna potevano anche non essere già definitive quindi si calleggiava un po' adesso soprattutto col fatto che con i gravi leciti professionali le fatti specie rilevanti possono essere plurime e amplissime le ditte fanno ricorso adesso a self-cleaning altrimenti sbattono contro i gravi leciti professionali allora c'è l'illecito professionale dicono però stappi che la misura io ho messo in mezzo strumenti riparatori per cercare di evitare che ciò capiti di nuovo poi vedete valutazione motivata della pubblica amministrazione la capacità economica allegato 17 l'abbiamo già accennato prima i controlli si fanno soltanto sulla giudicataria le verifiche d'ufficio per requisiti morale professionali richiesti dell'operatore economico per gli altri requisiti ecco qui il sistema dei controlli che controlli dobbiamo fare sulla ditta perché noi siamo abituati a dire o meglio è quasi una leggenda a dire vabbè ma è un importo modesto sono 2000 euro 3000 euro dobbiamo fare tutti i controlli vedetevi conto che le norme di cui abbiamo parlato prima non è che si applicano in base all'importo si applicano sempre anzi se noi abbiamo previsto requisiti di capacità economica si applicano pure quelli perciò vi dico negli affidamenti di minore importo cerchiamo di evitare questi requisiti per evitare di appesantire la gara così come non possiamo dire siccome la ditta sta sul MEPA non la controlliamo perché il decreto legge 32 del 2019 aveva inizialmente detto le ditte accreditate dal MEPA non devono essere controllate poi nelle leggi di conversione si è detto solo se sono state oggetto di controllo a campione dalla parte del MEPA ma se non sono state siccome non si sa e non lo dicono anche perché secondo i maligni sono talmente pochi i controlli che non lo dicono perché sennò emerge che la maggior parte dei casi non li fanno e allora si dice in quel caso anche se tu fai l'affidamento alla ditta che sta sul MEPA devi fare i controlli le linee guide ANAC del 2018 hanno però alleggerito il sistema dei controlli i regolamenti di attuazione al codice in parte richiama questo schema in parte perché nell'ultima versione ho visto già che hanno cambiato le soglie però per adesso abbiamo questo riferimento fino a 5.000 euro fino a 5.000 euro noi possiamo fare gli affidamenti sulla base di autocertificazione quindi la ditta ci autocertifichi possono essere requisiti noi facciamo l'affidamento però dobbiamo necessariamente avere agli atti casellario ANAC DURC e camerale iscrizione all'albo quindi per le ditte sono il camerale e poi la white list la notazione che si riguarda alcune prestazioni che rientrano nella norma sull'anticorruzione però vedete a prescindere da tutto sono controlli che si fanno tra il primo e il secondo tempo di una partita quando ci vuole la notazione ANAC per un RUP che è profilato voi l'avete fatta le verifiche su un ANAC se non ci sono problemi di sorte con un sistema che funziona può durare 3 minuti o no? il DURC quanto tempo impiegate per acquisirlo? 2 minuti 3 più 2 5 il camerale se avete i collegamenti pure là 2 minuti e mezzo 3 minuti quindi meno di un primo tempo anzi ora vogliono allungare pure e vabbè parliamo di 5.000 euro che fanno troppamente temporane per 2.000 3.000 euro cioè parliamo di affidamenti se quelli fanno aggruppamenti temporane perché? perché da un avvalimento ma di questi importi però io parlo sempre da questo presupposto anche quando noi abbiamo problemi qualcuno dice ma devo fare un affidamento di 3.000 euro la ditta sta in verifica con il DURC a un mese l'affidamento diretto si tiene una ditta che tiene questi problemi cambia la strada sono tipi di affidamenti che noi possiamo avviare revocare non solo semplificate ma non ci poco nemmeno rischi di contenzioso per cui il primo staglio che troviamo certo noi abbiamo un consorzio stabile per 2.000 euro di lavoro se poi lo facciamo per carità che vi devo dire però mi sembra creiamo noi l'appesantimento così come rischiamo di creare noi l'appesantimento se per questi importi chiediamo fatturato perché se iniziamo a chiedere il fatturato le esperienze analoge allora a questo punto chi le devono portarvi i bilanci il fatturato sinceramente non appesantiamoci la vita perché già abbiamo visto i problemi quali sono questo non ha proprio senso se noi vediamo che quella come annotazione ANAC 5 annotazioni c'è un affidamento di 3.000 euro cioè ci conviene iniziare a fare le misure di self-cleaning ma cambiamo strada vi pare o no? che vi devo dire è un importo almeno modesto che pur se nevochiamo non ci sono problemi ma andarci a mettere ad impelagare su una motivazione su un grave illecito professionale perché poi annotando l'ANAC noi primi di fare l'affidamento amare questa cosa non so se mi spiego non è che prima facciamo l'affidamento adottiamo la determina e poi facciamo questo controllo noi prima di fare l'atto unico di aggiudicazione chiamiamo la ditta e diciamo se fai la fornitura per questo importo sì andiamo a verificare i requisiti se vediamo se il DURC è in verifica che ci mettiamo a aspettare che è regolare è una questione di praticità o no a me sembra abbastanza ovvia questa cosa però è anche vero che la norma dice questo le linee guida quindi dobbiamo seguire ma un'altra cosa ci dice la linea guida ANAC dice l'ANAC voi comunque tenete conto di una cosa che sulle autocertificazioni ricordatevi che dovete fare i controlli a campione quindi su direttive del segretario comunale voi dovreste annualmente almeno una percentuale degli affidamenti con autocertificazioni fare dei controlli a campione non so se lo fate ma la norma lo prevede già lo prevede non l'ANAC ma lo prevede il DPR 445 del 2000 in secondo luogo dice l'ANAC tutelatevi prevedendo nel contratto una clausola risolutiva espressa o una penale però praticamente sono importi talmente modesti che quanto può durare l'affidamento c'è la clausola risolutiva espressa presuppone che dura due anni questo contratto o no sono fornituri simile a giocattato i computer o per 15 giorni ci pagate pure la fattura se sono mai stessi benefici quindi l'unica arma che vi rimane è o la denuncia per falso ma anche quella è un'arma oppure la segnalazione all'ANAC vuoi fare la segnalazione all'ANAC del comportamento fraudolento e questo può essere per l'impresa un grosso pregiudizio da 5.000 a 20.000 euro che bisogna chiedere anche qui l'ANAC ci dice i controlli fai l'affidamento sulla base dell'autocertificazione devi però acquisire il casellario ANAC devi poi fare le verifiche di cui era l'articolo 80 comma 1 quindi casellario giudiziale dei titolari di cariche però anche qui parliamo di affidamenti che si fanno con affidamenti diretti per lo più dove possiamo chiedere preventivi cioè se vediamo che quella è una società che tiene partecipate altre società 10 istitori 4 procuratori allora anche qui io cercherei di cambiare rotta perché rischiamo che diventa pesantissimo questo controllo per una gara gestione rifiuti appalti 4 5 10 milioni di euro allora l'appesantimento dei controlli può essere una cosa rigorosa e rituale ma per queste piccole gare io sinceramente andrei proprio ad interloquire con operatori che sono lineari non operatori il cui capitale è detenuto da una società che a sua volta è detenuto da altre 5 società e che sono tante scatole che non finiscono giù perché quello diventa controllo difficilissimo e comunque per noi tecnicamente ingestibili quindi fino a 20.000 euro requisiti con l'articolo 80,1 casellare giudiziale comma 4 quindi non solo il DURC comma 4 dell'articolo 80 è DURC e DURF cioè regolarità contributi e fiscali articolo 80 comma 5 lettera B cioè il fallimento le procedure fallimentari in corso e poi l'ideonità professionale cioè l'iscrizione all'albo nel registro e poi la verifica della white list anche qui controlli a campione anche qui clausola risolutiva espressa o penale ripeto però la vera sanzione non è nea penale nea clausola risolutiva espressa perché a meno che non è un contratto di durata che dura 3 o 4 anni per esempio il contratto di tesoreria con un importo sotto 20.000 euro che può durare 2 o 3 anni allora qui potremmo avere qualche motivo in più di risoluzione ma negli altri casi la vera sanzione è la segnalazione all'ANAC poi affidamenti da 20.000 in su se non cambia la norma qua dice bisogna controllare tutto quindi controlliamo che cosa casellare o giudiziale articolo 80,1 e 2 DURC articolo 80,4 DURF articolo 80,4 verifiche in qualsiasi modo le riusciamo a fare ma se abbiamo elementi circa violazione di norme in materia di tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro altrimenti almeno acquisiamo dal tribunale sezione fallimentare dove a sede legale la ditta l'attestazione di pendenze di procedure fallimentari verifichiamo attraverso il casellare ANAC se ci sono annotazioni per gravi illeciti professionali verifichiamo se ha più di 15 dipendenti se ci sono se è stata rispettata la normativa diversamente abili attraverso la certificazione che dovrebbe darci l'ufficio provinciale del lavoro di massima occupazione il collocamento mirato come viene chiamato poi per tutto il resto sono autocertificazioni quindi non possiamo poi l'intestazione fiduciare il collegamento sostanziale il conflitto di interesse potenziale sono tutte cose che possiamo verificare con autocertificazione poi nel superiore a 20.000 euro noi dobbiamo fare il controllo anche sulla capacità economico-finanziaria tecnico-professionale relativa a mezzi attrezzature personali cioè il fatturato le referenze bancarie il fatturato specifico i mezzi come le ha comprovati come ha dichiarato di soddisfarli anche qui deve portarci documentazione comprovante il soddisfacimento di queste requisite però sono documentazioni che dobbiamo chiedere direttamente all'operatore economico l'ultima slide riguarda più o meno le banche dati i sistemi dei controlli quelle che comunemente si utilizzano ma esistono anche altre banche dati differenti da poter consultare questa è l'ultima slide di questo modello poi ci sono altre rassegne ma chi ce l'ha perché voi dovreste avere delle rassegne che riguardano sentenze sistematiche non so come non so come ecco qua allora avete la rassegna la rassegna nella prima parte nella rassegna relativa alla prima parte scorriamola velocemente riguarda la sopravvenenza il diritto alla distinzione tra appalto e concessioni chiarimenti i principi di equivalenza delle offerte la suddivisione in lotti poi ci dovrebbe essere una ricca rassegna sugli affidamenti diretti e sul principio di rotazione con plurime sentenze anche della corte dei conti quindi leggeteve se vi capita sulla possibilità l'affidamento diretto la rotazione vedete questa sentenza del 23 aprile dice l'amministrazione ha avviato a partolita una procedura che non si capiva niente perché prima dice affidamento diretto poche offerte però alla fine si è capito che l'amministrazione ha detto io mi riservo comunque la facoltà di affidare discrezionalmente quindi dice il giudice amministrativo nonostante che abbia fatto un'anzapunata di norme di regole alla fine si è capito che è un affidamento diretto e quindi non è costretta ad aggiudicare il preventivo più basso che è quello che è il problema che non ha scelto il preventivo più basso poi la rotazione come si applica la rotazione le sentenze sono quasi tutte 2019 20 21 imprese collegate e le verifiche attraverso la vcpass quelle verifiche sono verifiche parziali nel senso che noi teniamo conto che quello è un sistema per avere la certificazione acquisita direttamente dalla piattaforma dal sistema il problema è capire se sono lineari rispondenti perché se dal camerale emerge che ci sono più titolari di cariche e tramite la vcpass manca il casellaro dell'istitore io lo devo chiedere poi a parte non è sufficiente nei limiti in cui non è allineato con i titolari di carico cioè il RUP deve vedere che casellari giudiziari hai oppure ce l'hai anche dell'impresa ausiliaria ce l'hai anche dell'istitore del procuratore speciale e questo è il problema la verifica di una linearità tra quello che hai e quello che avresti dovuto chiedere poi allora se tu fai le verifiche nessun giudice può dire è illegittima l'operazione perché l'hai acquisito il certificato in altro modo cioè ripeto quello che serve ai fini dell'impugnabilità è requisito sostanziale l'importante è che tu non chiedi il certificato alla titta perché se la titta ti porta il certificato può avere un contenuto diverso non perché è illegittimo allora questo è tutto una serie di sentenze sulla rotazione sugli affidamenti retti e sotto soglio va bene quindi se vi capita dateci un'occhiata perché potrebbero esservi utili poi la seconda rassegna allora i requisiti morali il self-cleaning vedete 3 giugno 2021 poi la persistenza requisita anche dopo la giudica la manifestazione di interesse che non è una gara è una fase preliminare quindi la regolarità fiscale contributiva non rileva in quella fase si deve controllare il socio persona giuridica di una società cioè la società è il capitale detenuto da un'altra società questa sentenza dice solo se il socio unico è persona fisica se è persona giuridica non si deve controllare rileva un reato datato rileva un reato datato solo se è stato dichiarato istinto non rileva più altrimenti rileva comunque il requisito in capo all'asiliare deve essere sempre mantenuto se l'asiliare perde il requisito va escluso dalla gara o meglio si deve invitare la ditta concorrente a sostituire l'asiliare poi la ditta che usa i requisiti in caso di cessione d'azienda 12 aprile 2021 vi ricordate la cessione di ramo d'azienda se ha utilizzato vedete UBI commoda qui è venuto attaccato ma dovrebbe essere staccato UBI commoda IBI incomoda però è strano che è venuto attaccato forse la la file è aperta perché di solito è staccata poi in caso di cessione di ramo d'azienda a settembre 2021 si applica e si va a controllare l'impresa cedente se però l'impresa cessionaria concorrente ha utilizzato i requisiti della cedente se il ramo d'azienda riguarda un altro profilo un altro aspetto dell'attività non è nessun il Durk in compensazione cioè la ditta partecipa a gara e chiede la compensazione dei debiti contributivi dice ma la compensazione la deve fare l'ente previdenziale non è che la può fare la stazione appaltante il Durk interno ed esterno la regolarità contributiva poi c'è tutta questa serie di sentenze sulla regolarità fiscale la rateizzazione l'impugnativa della cartella l'avviso di accertamento leggetele perché potranno essere utili la sicurezza la sicurezza sui luoghi di lavoro questa sentenza è consistata dice gli è stato notificato il verbale che ha accertato la violazione in materia dice pure se mancava l'ingiunzione già il verbale è sufficiente perché dimostra che la ditta ha subito ha commesso un illecito professionale il concordato preventivo con continuità aziendale rispetto al concordato in bianco qual è la differenza e che termini leva sulle gare dichiarazione reticente omissiva e falsa marzo 2021 poi il grave illecito professionale per dirvi l'ultimo profilo della giurisprudenza se una ditta ha subito una risoluzione di un contratto d'appalto e poi impugna la risoluzione che si impugna innanzi al giudice civile perché è una causa civile questo fa in modo che un altro comune non ne possa tener conto dice la Corte di Giustizia Europea dal 2019 poi il codice della giurisprudenza italiana sia adeguata anche se è impugnato innanzi al giudice civile il grave illecito professionale rileva comunque non dobbiamo attendere la fine della causa quello potrebbe pure vincere ma a noi non interessa l'importante è che ad oggi c'è stato perciò è fortissimo il grave illecito professionale una volta che voi l'avete applicato c'è un problema serio perché la ditta può fare una causa civile casomai una causa si fa al tribunale delle imprese noi abbiamo fatto 3 o 4 sono 4 o 5 anni che siamo pendenti e rischiamo ogni volta con alcune imprese quando partecipiamo a gara che il RUP dice a me non convince questa cosa vanno statene a casa vedete come è forte quella risoluzione poi il grave illecito professionale io ne ho lasciate diverse sul grave illecito professionale il collegamento sostanzialo tra le imprese quando sono partecipano e fanno le offerte similari il grave illecito professionale è una fattispecie aperta quindi il grave illecito professionale è rilevante se è ultratriennale poi ancora sul grave illecito professionale il conflitto di interesse è anche potenziale poi in caso di misure interdittive dell'ANAC con l'ipotesi che faceva lei è doverosa l'esclusione poi il self-cleaning come funziona come si applica si applica soltanto pro futuro non si applica retroattivamente e le misure del self-cleaning quali devono essere poi la congruità il rinnovo della SOA questa per esempio è una sentenza abbastanza comune partecipa a gara una ditta la cui SOA scade durante la gara può continuare a restare in gara soltanto se ha chiesto il rinnovo 90 giorni prima e può stipulare il contratto soltanto se prima del contratto arriva il rinnovo della SOA poi il camerale non rileva l'oggetto sociale la sede quando è possibile chiedere la sede del centro di cottura i servizi analoghi può un fattorato specifico superiore al doppio si può chiedere qui vi dice no perché è illegittima la richiesta se non è motivata ma quella che è più interessante di tutti è questa rassegna finale interessante perché è molto molto aggiornata cioè nel senso che se vedete questa rassegna che però l'unica cosa che qui non è messa in ordine sistematico è veramente cronologico l'ordine però qua essendo file word voi mettete illecito professionale vi legge tutte quante avvalimento vi legge tutte quelle che escono questa giurisprudenza che è parecchie paginette è aggiornata al 27 ottobre del 2021 va bene? vedete la doverissutata della sottoscrizione dell'offerta a parte tutti i raggruppandi quello che abbiamo detto stamattina il grave illecito professionale la fattispecie aperta come si può applicare il grave illecito professionale diritto di accesso quasi è tutto che riguarda le gare quindi l'accesso di atti di gare la competenza del gruppo commissione di gare io vi do questo materiale fatene l'uso che volete ovviamente per me può essere un materiale perché vedete questo materiale non è come la manualistica va bene? voi di solito avete un codice commentato nella migliore delle ipotesi compri il codice sugli appalti vedi i commenti basta che passa un anno e mezzo ma poi è difficile che i codici hanno perché se è stato pubblicato nel 2020 a per lo più sentenze del 2018-2019 va bene? questa invece è una riproduzione molto vedete 27 ottobre cioè due giorni fa sulle ultime sentenze del diritto vivente così lo chiamiamo per me è agevole adesso farlo perché io lo aggiorno periodicamente ma fare da capo sarebbe un lavoro enorme ma sono anni che le faccio quindi di fatto per me diventa più agevole poi di volta in volta aggiornarle ma se uno dovesse fare da capo perciò è una cosa che è utile poi siccome la ricerca si può fare potrebbe esservi utile se vi capita il caso vedere questa questa sentenza avere almeno un riferimento ovviamente poi il problema rimane va approfondito vanno viste se ci sono sentenze similari che dice la giustizia più recente ovviamente questo è tutto frutto di un'altra attività va bene? quindi vi ho mandato pure questo file qua prego faccio eh no basta che verifichi che ci sta l'iscrizione tanto è vero che ci sono delle sentenze ma dovrebbe essere pure nel 2021 che dice che pure se è iscritta nella white list per tipologie di attività quello non è che è limitato solo a quell'attività ha una valenza anche per affidamenti similari per tutta l'attività sensibile di fatto quello è diciamo così è molto esaustivo come verifica domande sui requisiti non ci avete nessuna domanda se aumenta il prezzo del 50% così come le modifiche sostanziali le modifiche di risoluzione del contratto come è aumentato il prezzo del 50% fino al 50% ma non mi pare che dice sul 50% e quelle modifiche che riguardano le varianti che riguardano i lavori fino al lavori per modifiche dove la singola modifica non deve essere superiore alla soglia comunitaria e le modifiche possono essere per lavori entro il 15% servizi e fondi dovrebbero essere entro il 10% la norma importante anche l'articolo 108 se si supera il valore del contratto con modifiche superiori al 50% e motivi di risoluzione e questo perché le lettere B e C prevedono le sopravvenienze le ipotesi in cui il cosiddetto futuro indomabile cambiano le caratteristiche di quei beni e di quei prodotti il problema è successivo non se si applica però è chiaro questa prima parte cioè se quelle modifiche o quelle sopravvenienze comportano un aumento del prezzo se si supera il 50% non si può applicare il comma 1 lettere B e C perché quelle sono ipotesi di modifiche non previste nel contratto poi che dice dopo? la cittadatta in caso di più modifiche successive tale limitazione si applica al valore di ciascuna modifica eh sì perché che può succedere? cioè il valore del 50% poi dopo posso aumentare del 50% rispetto al contratto al contratto c'è il valore del 50% no sempre rispetto al contratto originario si applica al valore di ciascuna modifica sì il 50% cioè io ho un contratto di un milione di euro dopodiché si incrementa il prezzo delle materie oppure invece di avere quei prodotti sul mercato mi offre altri prodotti più innovativi si dice per la lettera B per evitare di acquistare quei prodotti vecchi inutili acquisti prodotti nuovi soprattutto in materia informatica sanitaria io compro direttamente i nuovi ovviamente nel comprare i nuovi rischio di pagare un prezzo più elevato però prendo beni che stanno sul mercato e sono più efficienti in questo caso l'incremento mi arriva al milione e mezzo che succede? nello sviluppo di questo rapporto contrattuale possono cambiare un'altra volta i beni e quindi un'altra volta un altro incremento però sempre rispetto al milione del contratto e le modifiche successive il 50% vale per ogni modifica non è perché il problema quale potrebbe essere? che io inizialmente modifico del 30% la seconda potrei modificare solo del 20% invece anche la seconda può essere il 50% perché queste sono ipotesi in cui le modifiche normative e regolamentari possono essere tali che io non posso governare dovrebbe essere così ma tu hai visto linee guidiana qualcosa qui? no 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 quello che mi lascia a dire l'ultimo poco tali modifiche successive non sono indese ad aggirare il presente codice ma perché mi dici che devo essere indietro del presente codice? ah perché scrive questa cosa le modifiche successive non sono indese ad aggirare il presente codice come se uno prima di dire lo scattivo no nel senso sì sì però questo che certo è scritto così però il vero senso qual è? che per la tale vera che se tu leggi la giurisprudenza sulle modifiche di cui al comma 1 lettera B dice c'è un tar Milano una sentenza scritta a un magistrato pure in tedesco sono un espressione pure in tedesco là dentro ma dice questo magistrato tu intanto puoi applicare queste modifiche di cui l'articolo 106 con monolettra B in quanto le sopravvenienze riguardano elementi che sono tecnologicamente risultati concreti in fase di esecuzione ma se il bene già era in idoneo all'inizio non puoi applicare questa norma cioè se tu già fai un appalto con beni che stanno fuori mercato poi non puoi dire prendiamo computer più all'avanguardia perché già c'era all'inizio nel momento in cui tu fai questo è una forma di reagire cioè perché tu potresti fare una gara mantenendoti di un importo modesto perché quando tu aumenti il 50% rischi anche che scatta una soglia quindi tu potresti fare una gara mantenendoti sotto l'importo fai un affidamento di fornitura di 100.000 euro poi durante l'esecuzione dici vabbè ma questi beni non servono prendiamo un'altra ci modificheremo a 150.000 e hai raggirato la soglia quindi in questo caso raggiri il codice se però il bene è una sopravvenienza successiva dove tu dici questo bene noi abbiamo fatto l'affidamento a gennaio a ottobre si è detto vedi che non vanno bene queste mascherine vanno altre o altri prodotti perché sul mercato grazie a queste ricerche ci sono prodotti che le mascherine vecchie non servono più o non serve più la fornitura di quel vaccino ce ne sono altri più efficaci a questo punto modifichiamo il contratto acquistiamo il nuovo anche pagando di più ma è una cosa che sta facendo la commissione europea proprio per i vaccini quindi è una cosa che sta per le forniture che nei contratti che si hanno fatto con AstraZeneca in alcuni parti stanno rivedendo per la fornitura di altri tipi di tipologie di vaccini con prodotti che costano anche di più e questa è una modifica anche in corso di esecuzione va bene va bene spero che sia chiaro quello che abbiamo trattato da stamattina certo abbiamo fatto una giornata pesantuccia spero che vi sia rimasto qualcosa e che siano state utili tutta una serie di osservazioni se mi ha risolto uno o due problemi già siamo estremamente contenti anche perché molte di queste cose possono sembrare oggi non attuali non interessanti però il fatto che ne abbiamo parlato ha stimolato sicuramente una riflessione e se vi dovesse ricapitare il problema io sono sicuro che qualcuno dirà ma su questo è come se avessimo acceso un alert su queste tematiche possiamo chiudere ditemi voi e i tanti sto qua non ho una fretta particolare va bene grazie di tutto e ci rivediamo grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti